amici è tempo di pulizie e noi stiamo svendendo tutti i nostri silenziosi ubic elettrici a prezzi davvero ridicoli sì abbiamo buttato nel cestino il listino prezzi e ricordate ogni ubic della nostra partita è stato usato solo secondo le istruzioni alle 3 e 30 della notte del 5 giugno 1992 il miglior telepate del sistema solare scomparve dalla mappa situata negli uffici della rancid associates a new york city ciò diede inizio agli squilli dei videofoni l'organizzazione di ranciter aveva perso le tracce di troppi psi appartenenti al gruppo di hollis negli ultimi due mesi quell'ultima sparizione era la goccia finale signor ranciter dolente di disturbarla il tecnico incaricato del turno notturno alla sala delle mappe tossicchiò nervosamente mentre la massiccia testa scompigliata di glenn ranciter si sollevava a riempire lo schermo abbiamo ricevuto notizie da uno dei nostri inerziali mi lasci controllare si gingilò brevemente con un cumulo disordinato di nastri tolti dal registratore che segnalava i messaggi in arrivo è stata la signorina dorna a segnalarlo come forse le ricorda lo ha seguito fino a green river uta dove ha sonnato ranciter borbottò chi non posso ricordare tutte le volte quali dei nostri inerziali stanno seguendo quale tp o precog con una mano si lisciò la massa grigia scompigliata dei capelli saltate il resto e dimmi quale degli uomini di hollis è scomparso stavolta esdol melipon disse il tecnico cosa melipon è scomparso state scherzando non sto scherzando lo assicurò il tecnico ed i dorna e altri due inerziali lo hanno seguito fino a un motel chiamato i confini dell'esperienza erotica polimorfica una struttura sotterranea del sessantesimo livello dove vanno di solito uomini d'affari con le loro mignatte che non hanno tempo da perdere ed i suoi colleghi non pensavano fosse attivo ma per prudenza abbiamo inviato uno dei nostri telepati gg ashwood a leggergli il pensiero ashwood però ha trovato uno schermo disturbo intorno alla mente di melipon e non ha potuto fare nulla se ne è tornato così a topeca kansas dove sta attualmente investigando su una nuova pista ranziter ora più sveglio aveva acceso una sigaretta con il mento appoggiato ad una mano sedeva dritto e serio in viso mentre il fumo della sigaretta lambiva l'analizzatore del suo schermo collegato al circuito a due canali siete certi che il telepate fosse melipon nessuno conosce il suo viso sembra che cambi profilo fisionomico ogni mese il suo campo abbiamo chiesto a joe chip di andare a controllare l'ampiezza del campo generato ai confini dell'esperienza erotica polimorfica chip dice di aver registrato un massimo di 68,2 unità blr di aura telepatica e solo melipon di tutti i telepati conosciuti può produrre una simile carica il tecnico terminò così abbiamo spostato la bandierina di melipon in quel punto della mappa e ora lui essa è scomparsa avete guardato sul pavimento dietro la mappa l'annullamento delle bandierine avviene elettronicamente l'individuo che esse rappresentano non è più sulla terra e neppure per quel che possiamo dedurre su uno dei pianeti colonizzati ranziter disse consulterò la mia defunta moglie notte i moratorium sono chiusi a quest'ora non è svizzera disse ranziter con un sorriso più simile a una smorfia come se qualche disgustoso fluido notturno gli fosse salito nella gola invecchiata notte nel ranziter riattaccò quale proprietario del moratorium di letti fratelli herbert schoenheit von vogelsang si recava sempre al lavoro prima dei suoi impiegati e in quel preciso momento mentre il gelido e echeggiante istituto incominciava appena a scuotersi dal silenzio del riposo notturno un cliente era già in attesa aveva un aspetto vagamente impiegatizio e uno sguardo preoccupato con occhiali dalle lenti quasi opache e una giacca sportiva dalla pelliccia attigrata e attendeva sulle sue scarpe gialle appuntite accanto al banco della reception stringendo in pugno la ricevuta della sua concessione con tutta probabilità voleva fare gli auguri ad un parente il giorno della resurrezione la festa in cui i semivivi erano pubblicamente onorati non era lontano l'afflusso di congiunti sarebbe presto iniziato sì signore gli disse herbert con un sorriso affabile mi incaricherò di lei personalmente è una signora piuttosto anziana disse il cliente sugli 80 molto piccola e rugosa mia nonna attenda un istante herbert fece il ritorno ai bidoni dei congelati per cercare il numero 3054039 b non appena ebbe trovato il cartellino esaminò attentamente la bolletta di carico annessa rimanevano soltanto 15 giorni di semivita non era molto riflette automaticamente inserì un amplificatore portatile di protofasoni nell'estremità di plastica trasparente della bara lo sintonizzò ascoltando all'esatta frequenza l'indicazione dell'attività cefalica dall'altoparlante una debole voce disse ma allora di lì si lusso l'anca e noi pensiamo che non sarebbe mai guarita era stata così stupida con la sua pretesa di cominciare a camminare subito soddisfatto disinserì l'amplificatore e trovò un impiegato che portasse il 3054039 b in sala di consultazione dove il cliente sarebbe stato messo in contatto con l'anziana signora avete controllato non è vero chiese il cliente pagando l'ammontare dovuto personalmente rispose herbert funziona alla perfezione diede qualche colpetto a una fila di interruttori poi si fece indietro felice giorno della risurrezione signore grazie il cliente si avvicinò alla barra fumante nel suo involucro congelato premette un auricolare contro un lato della testa e parlò a voce alta nel microfono flora cara puoi sentirmi credo di sentire già la tua voce flora quando trapasserò disse fra sé herbert schoenheit von vogelsang stabilirò nel mio testamento che gli eredi potranno farmi rivivere un solo giorno ogni secolo in questo modo potrò osservare il destino dell'intera umanità ma richiederà un alto costo di manutenzione ai miei eredi e lui sapeva bene cosa significava quello prima o poi si sarebbero ribellati avrebbero tolto il suo corpo dal congelamento e dio non volesse lo avrebbero seppellito la sepoltura è una barbarie esclamò herbert un rimasuglio delle primitive origini della nostra cultura sì signore convenne la sua segretaria alla macchina da scrivere nella sala di consultazione diversi clienti stavano ora comunicando con i loro parenti semisenzienti in una quiete quasi estatica dislocati a intervalli irregolari con le rispettive bare quei fedeli che venivano regolarmente a rendere il loro omaggio offrivano uno spettacolo tranquillo portavano messaggi e notizie di ciò che succedeva nel mondo esterno ricavano conforto ai tristi semivivi in quei brevi intervalli di attività cerebrale senza contare che erano loro a pagare herbert schoenheit von vogelsang si guadagnava bene a dirigere un moratorium il mio babbo sembra un po debole disse un giovane attirando l'attenzione di herbert mi chiedevo se lei avrebbe potuto perdere un momento del suo tempo per dargli un'occhiata le sarei veramente grato ma certo disse herbert accompagnando il cliente attraverso la sala fino al contenitore del parente defunto la bolletta di quest'ultima mostrava che restavano solo pochi giorni ciò spiegava la qualità viziata dell'attività cerebrale eppure aumentò il volume dell'amplificatore protofasonico e la voce nell'auricolare divenne leggermente più robusta quasi alla fine penso a herbert gli parve ovvio che il figlio non volesse vedere la bolletta e che non si preoccupasse di sapere che il contatto con il padre si avvicinava rapidamente alla fine così herbert non disse nulla si allontanò lasciando il figlio alla sua comunione perché dirgli che probabilmente quella era l'ultima volta che avrebbe potuto recarsi lì lo avrebbe scoperto abbastanza presto in ogni caso un autocarro era comparso ora accanto alla piattaforma di scarico sul retro del moratorium ne discesero due uomini vestiti delle familiari uniformi celesti l'interplanetaria atlas trasporti e depositi rimuginò herbert forse erano lì per sbarcare un altro semivivo appena trapassato oppure per prelevarne uno definitivamente ispirato con comodo si mossa nella loro direzione per fornire la sua supervisione nello stesso momento però la segretaria lo chiamò herr schonheit von vogelsang spiacente di interrompere la sua meditazione ma un cliente chiede la sua presenza per il risveglio di una parente la sua voce prese una diversa sfumatura quando aggiunse il cliente è mister glenor ranziter ed è appena arrivato dalla confederazione nordamericana venne verso di lui un uomo alto attempato con grandi mani e un'andatura vivace e svelta indossava un abito multicolore in dacron lava indossa una fascia da smoking a maglia e una cravatta di mussolina tinta dopo la confezione la sua testa massiccia come quella di un gatto si spingeva in avanti mentre scrutava con i suoi occhi caldi rotondi leggermente sporgenti molto attenti ranziter conservava sul proprio viso un'espressione professionale di cordialità una rapida attenzione che si fissò sul viso di herbert e subito si staccò passando oltre come se ranziter fosse già alle prese con problemi futuri come sta ella tuonò ranziter quasi che la sua voce fosse ingigantita elettronicamente pronta per essere rimessa in moto a fare una chiacchierata ha solo 20 anni dovrebbe essere più in forma di me e lei ridacchiò ma il suo riso aveva una qualità astratta sorrideva e rideva sempre la sua voce tuonava ma dentro di sé non faceva caso a nessuno non se ne interessava era il suo corpo che sorrideva annuiva e stringeva mani nulla toccava la sua mente che restava lontana con destacco ma amabilmente sospinse herbert al proprio fianco aprendosi la via a grandi passi fino ai contenitori gelati dove giacevano i semi vivi inclusa sua moglie è da molto che lei non ci fa visita mister ranziter fece notare herbert non poteva ricordare la bolletta di carico della signora ranziter quanta semivita le fosse rimasta ranziter con la sua larga e pesante mano appoggiata alla schiena di herbert per meglio spingerlo in avanti con lui disse questo è un momento della massima importanza von vogelsang noi i miei soci e io trattiamo un genere di affari che supera ogni comprensione razionale non sono libero di fare dichiarazioni per ora ma posso dire che consideriamo la situazione attuale minacciosa anche se non disperata la disperazione non è indicata a nessun costo dov'è ella si arrestò occhieggiando rapido tutto intorno che la porterò nella sala di consultazione disse herbert i clienti non avrebbero dovuto entrare nei depositi ha con lei la ricevuta numerata della sua concessione signor ranziter per dio no disse ranziter l'ho persa alcuni mesi fa ma voi conoscete mia moglie e potete trovarla ella ranziter sui vent'anni occhi e capelli castani si guardò intorno con aria impaziente dov'è la sala una volta la trovavo senza difficoltà mostre al signor ranziter la sala di consultazione disse herbert a un impiegato che si era avvicinato a loro curioso di vedere come era fatto il proprietario di un'organizzazione anti psi nota in tutto il mondo scrutando l'interno della sala ranziter esclamò con irritazione è piena come nuovo non posso parlare a ella qui dentro si lanciò all'inseguimento di herbert che si era diretto all'archivio del moratorium signor von vogelsang disse sorpassandolo e calando di nuovo la sua grossa mano sulla spalla dell'uomo herbert avvertì il peso della mano e il suo vigore persuasivo non c'è luogo più discreto per delle comunicazioni confidenziali ciò che devo discutere con mia moglie non è una questione che noi alla ranziter associates siamo pronti al momento a rivelare al mondo colpito dall'urgenza della voce di ranziter e dalla sua stessa presenza herbert si trovò quasi subito a mormorare posso farne avere a sua disposizione la signora ranziter in uno dei nostri uffici signore si domandò cosa fosse successo quale pressione avesse costretto ranziter ad uscire dal suo ufficio per quel tardivo pelleagrinaggio al moratorium di letti fratelli e perché volesse far rimettere in moto come lui stesso si era crudamente espresso la propria giovane moglie una crisi degli affari di qualche genere ipotizzò gli spot pubblicitari delle varie organizzazioni di prudenza strillavano da qualche tempo le loro arringhe agli schermi televisivi e dagli omeo giornali difendete la vostra vita privata martellavano gli annunci ogni ora da tutti i mezzi di comunicazione un estraneo è sintonizzato con la vostra mente siete davvero soli questo per i telepati e poi l'inquietudine per i precog le vostre azioni sono previste da qualcuno che non avete mai conosciuto qualcuno che non vorreste conoscere o invitare a casa vostra eliminate ogni ansia contattando la più vicina organizzazione di prudenza per prima cosa vi diranno se siete vittima di intrusioni non autorizzate e poi secondo le vostre istruzioni annulleranno queste intrusioni a prezzo veramente modico organizzazioni di prudenza quell'appellativo gli piaceva possedeva una certa dignità ed era preciso lo sapeva per esperienza personale due anni prima un telepata si era infiltrato nel personale del moratorium per ragioni che non erano mai state scoperte per curiosare sulle confidenze tra i semivivi e i loro visitatori probabilmente forse interessandosi a quelle di uno specifico semivivo comunque l'esploratore di una organizzazione anti psi aveva rilevato il campo telepatico e lui era stato avvertito dopo aver firmato un contratto di appalto gli era stato inviato un antitelepate che si era installato nell'edificio del moratorium il telepate non era stato localizzato ma la sua azione era stata annullata come promettevano gli annunci televisivi così con tutta probabilità il telepate era stato costretto ad andarsene ora il moratorium era sai esente e per essere sicuri che continuasse a arrestarlo l'organizzazione anti psi sorvegliava regolarmente gli impianti ogni mese la ringrazio di cuore signor volgersang disse ranziter e seguì herbert attraverso un ufficio occupato da impiegati al lavoro fino ad una stanza vuota che sapeva di grigiore e di micro documenti inutili naturalmente pensò herbert con un certo impegno io ho creduto alla loro parola sull'esistenza di un telepate qui dentro loro mi hanno mostrato un grafico che avevano ottenuto e lo hanno citato come prova forse lo avevano falsificato costruito addirittura nei loro laboratori ed io gli ho creduto quando mi hanno detto che il telepate se n'era andato è venuto se n'è andato e io ho pagato 2000 post crediti queste organizzazioni di prudenza non potrebbero essere in realtà una forma di racket affermano la necessità dei loro servizi quando certe volte non esiste invece alcun bisogno meditando su ciò si diresse per la seconda volta verso gli schedari stavolta ranziter non lo seguì si mosse invece rumorosamente per la stanza cercando di sistemare in modo confortevole il suo grosso corpo su una sedia piuttosto insufficiente ranziter sospirò e improvvisamente a herbert parve che quel vecchio dal corpo massiccio fosse stanco nonostante l'usuale ostentazione di energia immagino che una volta arrivati in alto in quell'ambiente decise herbert ci si debba comportare in certo modo si deve apparire superiore a un essere umano con le sue debolezze quotidiane probabilmente il corpo di ranziter conteneva una dozzina di orgarti organi artificiali trapiantati nel suo corpo quando gli originali avevano ceduto la scienza medica congetturò ancora fornisce le fondamenta e con la sua forza mentale ranziter supplisce all'arresto chissà qual è la sua vera età si chiese impossibile dirlo dalle apparenze specialmente superati i 90 signorina bison istruì la sua segretaria localizzi la signora ella ranziter e mi dia il numero di identificazione deve essere portata all'ufficio 2a poi si è dette di rimpetto a lei dandosi da fare con una presa o due di tabacco princess della freiborgen trier mentre la signorina bison metteva mano al compito relativamente facile di rintracciare la moglie di glen ranziter il miglior modo di chiedere una birra e chiedere ad alta voce ubic ottenuta da lupoli selezionati acqua di prima scelta invecchiata lentamente per un aroma perfetto ubic e in tutta la nazione la birra numero uno prodotta soltanto a cleveland ritta nel feretro trasparente avvolto in un effluvio di nebbia ghiacciata e la ranziter riposava immobile con gli occhi chiusi le mani sollevate eternamente verso il viso impassibile non vedeva ella da tre anni lui e naturalmente lei non era cambiata non sarebbe mai cambiata del resto almeno secondo i comuni parametri della vita fisica ad ogni resurrezione alla semivita attiva ad ogni ritorno di attività cerebrale per breve che potesse essere ella moriva un poco ogni volta il tempo che le rimaneva usciva di fase si attenuava questa consapevolezza rinforzava in lui l'avversione ai risvegli troppo frequenti ranziter razionalizzava il problema in questo modo attivarla significava condannarla e costituiva quindi un peccato contro di lei e per quanto riguardava i desideri di ella espressi prima della morte e durante i primi incontri della semivita si erano comodamente fatti sempre più nebulosi nella mente di lui comunque lui ne sapeva più di lei essendo quattro volte più vecchio che cosa aveva desiderato ella continuare a fungere con lui come coproprietaria della ranziter associates un ordine piuttosto vago ebbene lui aveva accolto quel desiderio come ora per esempio e altre sei o sette volte in passato aveva consultato sua moglie ad ogni crisi dell'organizzazione e stava per fare lo stesso in quel momento maledetto trabiccolo acustico brontolò mentre si adattava il disco in plastica su un lato della testa e quel microfono tutti impedimenti alla comunicazione naturale cambiando continuamente il posto sulla sedia inadeguata che von vogelsang o qualunque fosse il suo nome gli aveva fornito ranziter si sentiva impaziente e a disagio osservò il risveglio di ella e sperò che facesse in fretta e in quel momento con una fitta di panico pensò forse non ce la farà forse si è esaurita e loro non me l'hanno detto oppure non lo sanno forse penso dovrei far venire qui quel tizio vogelsang e farmi spiegare forse c'è qualcosa di terribilmente sbagliato ella bella e con la pelle chiara i suoi occhi nei giorni in cui erano stati aperti avevano brillato di un azzurro luminoso questo non sarebbe più accaduto lui poteva parlarle e sentirla rispondere poteva comunicare con lei ma non l'avrebbe mai più rivista con gli occhi aperti e non avrebbe più visto muoversi la sua bocca lei non avrebbe sorriso al suo arrivo quando lui se ne fosse andato lei non avrebbe pianto ne vale la pena si chiese amareggiato tutto questo è migliore della vecchia via la strada diretta dalla piena vita alla tomba eppure in un certo senso lo ancora con me decise l'alternativa è il nulla nell'auricolare si formarono delle parole lente e incerte pensieri circolari di nessuna importanza frammenti del misterioso sogno nel quale lei ora risiedeva quale sensazione si avrà si chiese ranziter a trovarsi nella semivita non riusciva mai a immaginare nulla da ciò che gli raccontava ella l'esperienza diretta le basi non potevano essere trasmesse gravità gli aveva detto lei una volta incomincia a non avere più alcun effetto su di te e puoi fluttuare sempre più libero quando la semivita sarà finita aveva detto ancora lei penso che si fluttuerà al di fuori del nostro sistema fino alle stelle ma neppure lei lo sapeva fantasticava soltanto e costruiva congetture non sembrava comunque spaventata o infelice ranziter ne era lieto ciao ella disse guffamente nel microfono a giunse la sua risposta nell'auricolare sembrava stupita eppure ovviamente il suo viso rimaneva impassibile non mostrava nulla ranziter distorse lo sguardo ciao glenn disse lei con una specie di meraviglia infantile ricondotta a quel mondo era sorpresa di trovarci lui cosa la voce esitò quanto tempo è passato due anni disse lui raccontami quello che sta succedendo no corresto fece lui sta andando tutto quanto a pezzi l'intera organizzazione è per questo che sono qui tu volevi essere consultata sulle decisioni più importanti e dio solo sa se adesso abbiamo bisogno di una nuova politica o di qualcosa che rinnovi la nostra struttura di scouting stavo sognando disse ella ho visto una luce rossa e fumosa una luce orribile eppure non riuscivo a smettere di avvicinarmi ad essa non potevo fermarmi già disse ranziter rannuendo il bardo todol il libro tibetano dei morti ne parla ricordi di averlo letto i medici te l'hanno fatto a leggere mentre stavi esito morendo disse poi la luce rossa fumosa è cattiva non è vero disse ella sì e tu vuoi evitarla si schierì la voce ascolta ella siamo nei guai te la senti di starmi ad ascoltare a questo proposito voglio dire non intendo sovraccaricarti o cose del genere dimmi soltanto se sei troppo stanca o se c'è qualche altro argomento di cui vorresti parlare è così strano penso di aver sognato per tutto questo tempo dall'ultima volta che sei venuto a parlarmi sono davvero passati due anni sai a che cosa stavo pensando glen penso che le altre persone che sono qui intorno a me sembriamo crescere progressivamente tutti insieme molti dei miei sogni non mi riguardano per nulla a volte sono un uomo a volte un bambino a volte sono una vecchia grassa con le vene varie cose e mi ritrovo in luoghi che non ho mai visto e sto facendo cose che non hanno nessun senso beh se è come dicono stai cercando un nuovo grembo per nascere ancora e quella luce rossa fumosa quello è un grembo cattivo tu non vuoi scegliere quella via è una specie di grembo inferiore umiliante probabilmente stai anticipando la tua prossima vita o qualsiasi altra cosa possa essere si sentiva stupito parlando a quel modo normalmente non possedeva alcuna convinzione teologica ma l'esperienza della semivita era reale aveva fatto diventare tutti i teologi ne disse cambiando argomento lascia che ti dica quello che è successo e che mi ha fatto venire qui a disturbarti esdol melipon è scomparso dalla circolazione un istante di silenzio poi ella rise che cosa è un esdol melipon non esistono cose simili la risata quell'unico e familiare senso di calore che ne radiava gli fece scorrere un brivido lungo la schiena la ricordava ancora dopo tanto tempo non aveva sentito ridere ella per più di dieci anni forse lo hai dimenticato disse non l'ho dimenticato fece ella non dimenticherei esdol melipon è una specie di hobbit si tratta del miglior telepate di raymond hollis gli abbiamo sempre tenuto almeno un inerziale alle costole fin da quando g ashwood lo scoprì per primo un anno e mezzo fa non abbiamo mai perso melipon non possiamo permettercelo se necessario melipon è in grado di generare un campo psi almeno doppio di quello di ogni altro dipendente di hollis e melipon è solo uno di una serie di uomini di hollis che sono recentemente scomparsi scomparsi per quanto noi possiamo capirne è la conclusione che hanno raggiunto tutte le organizzazioni di prudenza che fanno parte della società così ho pensato diavolo andrò a chiedere a ella che cosa sta succedendo a che cosa dobbiamo fare come tu hai specificato nel tuo testamento ricordi ricordo ma la sua voce suonava remota aumenta gli annunci alla televisione metti in guardia la gente avvertili che poi la sua voce degenerò nel silenzio ti annoio disse tristemente ranziter no io la voce esitò di nuovo e lui la sentì di nuovo andare alla deriva verso il silenzio sono tutti telepatici chiese lei dopo l'interruzione telepatici e prego in massima parte non si trovano in nessuna parte della terra questo lo so ma abbiamo una dozzina di inerziali inattivi che non hanno nulla da fare poiché gli psi che dovevano annullare non sono più in giro ma quello che più mi preoccupa molto di più è che la richiesta di anti psi è diminuita di colpo c'era da aspettarselo visto che tanti psi di hollis sono fuori gioco ma io so che sono tutti concentrati su un solo progetto voglio dire lo credo comunque di una cosa sono certo qualcuno li ha soldati tutti quanti e solo hollis sa chi sia e dove si nasconda oh cosa sta succedendo dopodiché cade in un silenzio pensieroso come farà ella ad aiutarmi a venirne a capo si chiese rinchiusa in quella bar congelata fuori dal mondo sapeva solo ciò che lui le diceva eppure lui aveva sempre fatto affidamento sul suo intuito su quella particolare forma femminile di sagacia non basata sulla conoscenza dei fatti o sull'esperienza ma su qualcosa di innato non era mai stato capace di spiegarsela mentre lei era ancora in vita e certo non poteva riuscirci ora che lei riposava in quella gelida immobilità altre donne che lui aveva conosciuto dopo la sua morte ce ne erano state parecchie ne avevano posseduto una piccola parte non più di tracce presagi di una potenzialità che in loro non era mai sbocciata in pieno come in ella dimmi che tipo è questo melipon ma un mezzo matto lavora per soldi o per le sue idee diffido sempre di quelle che hanno una loro mistica psi quel senso di scopo e di identità cosmiche come quel terribile sarapis te lo ricordi sarapis non è più in circolazione hollis lo ha fatto assassinare perché si è accorto che sarapis intendeva mettersi in proprio né fargli concorrenza è stato uno dei suoi precog ad avvisarlo poi aggiunse melipon è più duro di quanto non fosse sarapis quando è caldo occorrono tre dei nostri inerziali per controbilanciare il suo campo e non ce ne viene alcun profitto prendiamo o meglio prendevamo la stessa somma di un solo inerziale e questo perché ora la società ha stabilito un tariffario vincolante per tutti la società gli piaceva sempre meno ogni anno ma era diventata per lui un'ossessione cronica con il suo costo e la sua inutilità e la sua vanagloria per quel che ne sappiamo continuò melipon è uno psi per denaro questo ti fa sentire meglio la situazione non è così cattiva attese ma non ci fu nessuna risposta da lei ella disse silenzio nervosamente ripeti pronto ella puoi sentirmi c'è qualcosa che non va oddio penso è andato una pausa poi altri pensieri si materializzarono nel suo orecchio destro il mio nome è giori non erano più i pensieri di ella un diverso elan più vitale e al tempo stesso più goffo privo della sua abituale acutezza sgombra la linea disse ranziter impaurito stavo parlando con mia moglie ella tu da dove spunti sono giori venero i pensieri nessuno parla con me vorrei restare con lei un momento signore se per lei va bene qual è il suo nome balbettando ranziter disse voglio mia moglie la signora ella ranziter ho pagato per parlare con lei ed è con lei che voglio parlare non con te conosco la signora ranziter risuonarono i pensieri nel suo orecchio ora molto più forti lei parla con me ma non è come parlare con qualcuno del mondo esterno la signora ranziter è qui con noi non importa perché lei non sa nulla di più di quello che sappiamo noi tutti che anno è signore hanno poi spedito quella grande astronave a proxima mi interessa molto saperlo può parlare a me se vuole posso riferirlo io alla signora ranziter va bene ranziter estrasse l'auricolare dall'orecchio e in fretta si sbarazzò dell'arresto dell'impianto uscì dall'ufficio saturo di polvere e di aria viziata io rompendo fra i feretri congelati numerati in successione fila dopo fila gli impiegati del moratorium spuntavano davanti a lui e sparivano man mano che procedeva agitato in cerca del proprietario qualcosa non va signor ranziter disse von vogelstang osservandolo mentre si dibatteva in vano posso esserle t'aiuto c'è una cosa che si è inserita sulla mia linea ansimo ranziter arrestando la propria ricerca al posto di ella accidenti a voi alla vostra cialtroneria questo non dovrebbe succedere che cosa diavolo significa seguì il proprietario del moratorium che si era già avviato in direzione dell'ufficio 2a se conducessi i miei affari in questo modo quell'itivituo si è identificato si ha detto di chiamarsi jory aggigliandosi con evidente fastidio von vogelsang disse deve essere jory miller mi pare che quel contenitore abbia il posto accanto a quello di sua moglie ma là dentro c'è ella dopo una vicinanza prolungata spiegò von vogelsang avviene in qualche occasione una reciproca osmosi una soffusione tra la mentalità dei semi vivi l'attività cefalica di von miller è particolarmente buona quella di sua moglie non tanto ciò favorisce sfortunatamente un passaggio di protofasoni in un solo senso può correggerlo chiese raucamente a ranziter si sentiva vuoto ancora tremante e con il respiro affrettato tiri fuori quella cosa dalla mente di mia moglie e ci faccia tornare ella questo è il suo lavoro von vogelsang disse con voce altezzosa se questa situazione trovesse persistere lei che avrà il suo tanaro che se ne frega del denaro al diavolo i soldi ormai avevano raggiunto l'ufficio 2a ranziter si rimise a sedere a disagio con il cuore che gli batteva così forte da impedirgli quasi di parlare se non sbatte subito fuori quel jory dalla mia linea per metà rantolò e per metà ringhiò le farò causa le farò chiodere questo posto fronteggiando il cofano di vetro von vogelsang inserì il ricevitore audio nell'orecchio e parlò seccamente nel microfono esci di fase jory fai bravo ragazzo lanciando un occhiato a ranziter disse jory è trapassato a 15 anni perciò possiede tanta vitalità tutto questo è già successo prima jory si è fatto sentire diverse volte dove non avrebbe dovuto essere e rivolto al microfono disse ancora questo non è bello da parte tua jory il signor ranziter ha fatto molta strada per parlare con sua moglie non oscurcare il suo segnale jory non è gentile fece una pausa ascoltando la replica di jory nell'auricolare lo so che il segnale è debole di nuovo ascoltò solenne è simile ad una rana poi rimosse l'auricolare e si alzò in piedi cosa ha detto domandò ranziter si toglierà dai piedi e mi lascerà parlare con ella von vogelsang disse jory non può farci nulla provi a immaginare due traspittenti radio a modulazione d'ampiezza la prima vicina ma con una potenza ad azione limitata a soli 500 watt la seconda più lontana ma sulla stessa frequenza e con una potenza di 5000 watt quanto scende la notte nella notte è già scesa disse ranziter almeno per ella e forse anche per lui se gli uomini scomparsi di hollis i telepatici i paracinetici i precog i resuscitanti e gli animatori non venivano trovati alla svelta non aveva perso soltanto ella aveva perso anche il suo consiglio poiché jory si era intromesso prima che lei potesse darglielo quanto la riporteremo allo scaffale stava blatterando von vogelsang non la sistemeremo più vicino a jory inoltre se lei è disposto a pagare una somma mensile leggermente maggiorata possiamo mettere sua moglie in una camera ad alto isolamento dalle pareti rivestite rinforzate con teflon 26 in modo da inibire ogni intrusione etero psichica sia da jory che da chiunque altro non è troppo tardi chiese ranziter emergendo momentaneamente dalla depressione che gli aveva causato l'accaduto sua moglie può tornare una volta che jory interrompa il contatto e non appena se ne sia andato chiunque abbia potuto provocare questo stato di debolezza ora è accessibile in pratica a chiunque von vogelsang si masticò il labbro visibilmente meditabondo potrebbe anche non gradire l'isolamento signor ranziter noi teniamo i contenitori e le barre come sono legalmente chiamate vicine l'una all'altra per una buona ragione spostarsi nella mente di qualcun altro può dare ad un semivivo l'unica mettetela in isolamento fin da ora tagliò corto ranziter meglio sentirsi soli che non esistere del tutto sua moglie esiste lo corresse von vogelsang soltanto non può comunicare con lei è diverso ranziter disse una differenza metafisica che per me non significa nulla la metterò in isolamento promise von vogelsang ma penso che lei abbia ragione è troppo tardi jory si è infiltrato in modo permanente nella mente almeno fino a una certa profondità nessuno dolente anch'io disse rauco ranziter ubic istantaneo possiede il fresco aroma del caffè appena tostato vostro marito dirà cristo sally credevo che il tuo caffè fosse soltanto così così ma adesso wow innocuo si è usato secondo le istruzioni con addosso ancora l'allegro pigiama a righine stile clown joe chip si sedette distrattamente al tavolo della cucina accese una sigaretta e inserita una moneta da 10 centesimi nella fessura fece ruotare il disco del meccano giornale noleggiato da poco soffrendo ancora dei postumi della sbronza spostò il disco su notizie interplanetarie oscillò per un momento intorno a notizie interne e infine scelse pettegolezzi sì signore disse calorosamente il meccano giornale pettegolezzi indovini un po cosa sta tramando stanton mick lo speculatore che vive come un recluso il finanziere di fama interplanetaria gli ingranaggi ronzarono e un rotolo di carta stampata strisciò fuori dalla fessura il rotolo espulso un documento a quattro colori e con carattere ineretto percorse l'intera superficie del tavolo in pseudotech e piombò sul pavimento rimbalzando con la testa dolorante chip lo recuperò e lo distese davanti a sì mick becca due bilioni dalla banca mondiale ap londra a cosa poteva essere interessato stanton mick il più appartato degli speculatori il finanziere universalmente conosciuto si chiedeva l'intero mondo degli affari mentre da whitehall filtrava la voce che l'impetuoso e bizzarro magnate dell'industria una volta si era offerto di costruire franco di porto una flotta con la quale israele potesse colonizzare rendere fertili le aree desertiche di marte aveva chiesto ed era probabilmente sul punto di ottenere un prestito colossale senza precedenti pari a questo non è un pettegolezzo disse joe chip al meccano giornale sono congetture su transazioni fiscali oggi voglio leggere qualcosa a proposito di qualche attore televisivo che ha dormito con la moglie drogata di qualcun altro come al solito non aveva dormito bene almeno in termini di sonno rem con movimenti oculari rapidi ed aveva resistito alla tentazione di prendere un sonnifero soltanto perché la sua scorta settimanale di stimolanti forniti dalla farmacia automatica del condominio era esaurita esaurita senz'altro a causa della sua golosità orale ma comunque è sbancata per legge non poteva richiedere altro alla farmacia prima di giovedì ancora due giorni due lunghi giorni il meccano giornale disse sintonizzi il disco su malignità lui obbedì e un secondo rotolo espulso senza indugio dal meccano giornale venne alla luce esibiva un eccellente disegno caricaturale di lola hensburg wright e chip si lecò le labbra soddisfatto alla vista dell'intero orecchio destro della diva completamente nudo poi banchettò con il resto dell'articolo avvicinata da un tagliaborse di un delizioso ritrovo notturno di new york la scorsa notte lola hensburg wright ha piazzato un veloce destro alla mascella del malintenzionato facendolo finire sul tavolo dove re egon groat di svezia e una non meglio identificata ragazza con seni incredibilmente ampi il campanello dell'ingresso squillo allarmato gioci alzò gli occhi scoprì la propria sigaretta sul punto di bruciare la superficie informica del tavolo in pseudotech e la battì sul tempo poi si trascinò sempre tenebrato verso l'ocitofono montato per comodità accanto al catenaccio della porta chi è si lamentò controllando l'orologio al polso vide che non erano ancora le otto probabilmente il robot dell'affitto decise oppure un creditore non tirò il catenaccio per aprire la porta un entusiasta voce maschile esclamò dall'altoparlante sull'uscio so che presto giù ma sono appena arrivato in città sono gigi ashwood ho portato come una speranza per la ditta che avevo già usato a topecca voglio la tua conferma prima di passare la palla a ranziter lui adesso si trova in svizzera chip disse non ho con me il mio equipaggiamento per il test andrò in sede a prendertelo non è in sede ammise con riluttanza nella mia auto ieri sera non me la sono sentita di scaricarlo veramente era stata la sbronza impedirgli di aprire il baule della sua auto a cuscino d'aria non ne possiamo riparlare dopo le nove chiese il ritato l'energia instabile e maniacale di gigi ashwood gli dava fastidio perfino a mezzogiorno ora del pasto figurarsi adesso che erano appena le 7 e 40 ne era perfino peggio di un creditore chip tesoruccio questo è un numero vincente un simposio ambulante di miracoli che farà arricciare gli aghi dei tuoi trabiccoli maledetti che darà inoltre nuova vita alla ditta cosa che ora le serve maledettamente e inoltre si tratta di un anti cosa chiese chip telepate e pretendi che te lo dica qui fuori esclamò gigi ashwood non lo so ascolta chip ashwood abbassò la voce questo argomento è confidenziale soprattutto la sua qualifica non posso starmene qui davanti alla porta a spifferare tutto ad alta voce qualcuno potrebbe origliare in effetti sto già rilevando i pensieri di un cretinoide al pian terreno che ok disse giù chip rassegnato una volta avviati i monologhi di gigi ashwood non potevano essere interrotti in nessun modo avrebbe dovuto ascoltarlo dammi cinque minuti per vestirmi e controllare se c'è rimasto del caffè in qualche parte della casa gli pareva di ricordare di averlo comperato la notte prima al supermarket del condominio e specialmente ricordava di avere strappato dal blocchetto delle razioni un tagliando verde il che poteva significare caffè o tè o tabacco da fiuto d'importazione ti piacerà dichiarò con energia ashwood anche se come spesso accade è la figlia di una una donna chiese all'armato joe chip e il mio appartamento è tutto in disordine sono in arretrato con i pagamenti dei robot delle pulizie del palazzo saranno due settimane che non mettono più piede qui dentro le chiederò se a lei importa qualcosa non chiederlo a lei importa a me le farò i controlli in ditta nelle ore di ufficio ma ho letto la sua mente e a lei non importa che età forse pensò era soltanto una bambina un numero considerevole di probabili inerziali era costituito da bambini che avevano sviluppato le loro capacità per difendersi da genitori psi quanti anni hai tesoro chiese debolmente gigi ashwood probabilmente girando la testa per rivolgersi alla persona che era con lui 19 riferì poi a joe chip beh quello sistemava ogni sua speranza però adesso si sentiva curioso spesso le geniali o quasi esplosioni di acutezza di gigi ashwood si manifestavano in connessione con donne attraenti magari questa ragazza rientrava nella categoria dammi 15 minuti disse a gigi si avesse lavorato alla svelta imboscandosi in una rapida campagna di pulizie e saltando a caffè colazione sarebbe riuscito a ottenere un appartamento abbastanza pulito per allora se non altro gli pareva il caso di tentare interruppe il contatto e poi corse a cercare negli armadi della cucina una scopa manuale o autopropellente oppure un aspirapolvere con batterie di elio o a rete comune non trovo nessuno dei due evidentemente non aveva richiesto nessuna specie di attrezzi di pulizia all'agenzia di forniture del palazzo che accidente di momento pensò per scovare quell'ufficio e viveva lì dentro da quattro anni sollevando il videofono compose il 214 il numero del circuito di manutenzione della casa senta disse non appena l'entità omeostatica rispose mi trovo nella situazione di poter distogliere alcuni dei miei fondi per sistemare il conto con i suoi robot della pulizia vorrei che venissero qui pulissero il mio appartamento pagherò per intero il mio conto quando avranno terminato signore penso che lei dovrà pagare il conto per intero prima che inizino il lavoro ormai chip aveva in mano il proprio portafogli ne strasse una scorta di chiavi magione di credito molte delle quali erano state da tempo annullate probabilmente in eterno permanendo in quello stato le sue relazioni con le entrate e il pagamento dei debiti più passanti adebiterò il conto scaduto sulla mia chiave magica triangolo disse al suo nebuloso antagonista così trasferirò il mio debito fuori della vostra giurisdizione sui vostri registri apparirà come un rimborso totale oltre alle amende e alle penalità queste le adebiterò al mio forma di cuore signor chip l'agenzia di analisi e verifica dei crediti ferris e brockham ha pubblicato uno speciale avviso al suo riguardo è pervenuto soltanto ieri al nostro ricevitore automatico e perciò lo ricordiamo ancora bene da luglio lei è precipitato nella scala di affidabilità del credito dal tipo g al quadruplo g il nostro reparto come tutti gli altri all'interno del palazzo che ora programmato contro l'erogazione di servizi o crediti a una patetica anomalia come lei per quel che la riguarda d'ora in poi ogni servizio dovrà essere condotto sulle basi dell'immediato pagamento in contanti probabilmente lei resterà su tale base per tutto il resto della sua vita in effetti a riapese e abbandonò la speranza di allentare o minacciare i robot delle pulizie per farli entrare nell'appartamento in disordine invece si infilò nel bagno per vestirsi quello poteva farlo senza nessuna assistenza dopo essersi vestito con una veste da camera sportiva marrone due luccicanti pantofole dalle punte all'insù e un bel retto di filtro guarnito con una napina si dette da fare speranzoso nella cucina alla ricerca di qualche traccia di caffè niente da fare si concentrò allora sul soggiorno e scoprì accanto alla porta che dava nel bagno il suo mantello della notte prima una cappa blu tutta macchiata insieme ad una borsa di plastica che conteneva una scatola da mezza libra di caffè del kenia una autentica squisitezza di cui poteva essersi permesso la spesa soltanto da ubriaco specialmente considerando la sua attuale abominevole situazione finanziaria tornato nella cucina pescò da una delle numerose tasche una moneta da 10 centesimi e con essa mise in moto la caffettiera annusando la roma per lui particolarmente insolito consultò di nuovo l'orologio e si accorse che i 15 minuti erano passati fece quindi ritorno frettolosamente alla porta dell'appartamento girò la maniglia e fece leva sul catenaccio la porta rifiutò di aprirsi disse invece 5 centesimi prego cerco nelle tasche non aveva più monete nulla tentò ancora la maniglia la porta rimase sempre chiusa ti pagherò domani disse alla porta la porta non si mosse quello che ti pago lui informò la porta è soltanto una mancia io non sono obbligato a pagarti io la penso diversamente disse la porta guardi nel contratto che lei ha firmato acquistando questo appartamento trovò il contratto nel cassetto del tavolo da quando lo aveva firmato si era trovato spesso nella necessità di consultarlo era abbastanza chiaro al proposito il pagamento alla porta per ogni apertura e chiusura costituiva un obbligo contrattuale non una mancia ha scoperto che ho ragione disse la porta e la sua voce suono soddisfatta nel cassetto vicino all'acquaio joe chip estrasse un coltello di acciaio inossidabile con quello presi a smontare sistematicamente l'impianto di apertura della porta in goia quattrini le farò causa disse la porta quando la prima vite scivolò sul pavimento joe chip mormorò non sono mai stato portato in tribunale da una porta ma immagino che riuscirò a sopravvivere risuonò un colpo alla porta ehi joe bimbo sono qui gg ashwood c'è la ragazza qui con me aprimi infila un nickel nella fessura disse joe il meccanismo sembra essersi bloccato dalla mia parte una moneta rotolò negli ingranaggi della porta il battente si spalancò e apparve gg ashwood con un'espressione vivace sul viso pulsava con un'intensità segreta un'area di trionfo eccentrica splendente mentre spingiva la ragazza all'interno dell'appartamento lei rimase un istante immobile a fissare joe dimostrando non più di 17 anni slanciata e con due larghi occhi scuri e la pelle color rame mio dio penso a lui è davvero bella indossava una camicia da lavoro in surrogato di tela e un paio di jeans con due pesanti stivali incrostati di qualcosa che sembrava vero fango un groviglio di lucidi capelli spinto indietro sulla nuca era annodato con un fazzoletto di seta russa le maniche arrotolate della camicia mostravano braccia robuste e abbronzate alla cintura di finto cuoio portava un coltello un telefono portatile un pacchetto di razioni d'emergenza e acqua sull'avambraccio nudo e scuro spiccava un tatuaggio caveat emptor diceva chip si chiese cosa volesse dire lei è pat disse gigi ashwood tenendo con ostentata familiarità il braccio intorno alla vita della ragazza il cognome non importa quadrato e paffuto come un mattone sovrappeso vestito nel suo solito poncho mohair con un cappello di feltro colore albicocca calzettone scozzesi da sci e pantofole di panno avanzò verso joe chip sprezzando autocompiacimento da ogni molecola del suo corpo aveva scovato qualcosa di valore e intendeva trarne il massimo vantaggio pat questo è il più abile esperto e capace esaminatore elettrico della compagnia freddamente la ragazza si rivolse a joe chip lei è elettrico o i suoi test tutti e due disse joe sentiva tutto intorno a sé il miasma del suo appartamento sporco tutto sembrava irradiare lo spettro del disordine e della desolazione e lui sapeva che pat l'aveva già avvertito sedete disse imbarazzato vi offrirò una tazza di vero caffè che lusso disse pat sedendo al tavolo della cucina come può permettersi del vero caffè signor chip gg ashwood intervenne joe riceve uno stipendio da nababbo la ditta non potrebbe operare senza di lui sporgendosi in avanti prese una sigaretta dal pacchetto sul tavolo rimettila al suo posto disse joe chip e ho già usato il mio tagliando verde per il caffè ho pagato la porta fece notare gg offrì il pacchetto anche la ragazza joe sta recitando dai un'occhiata a come tiene questo posto ciò dimostra la sua creatività tutti i geni vivono così dov'è il tuo equipaggiamento per i test joe stiamo perdendo tempo rivolta la ragazza joe disse sei vestita in modo strano mi occupo della manutenzione delle linee videofoniche sutterranee della kibbutz di itopeca disse pat in questo kibbutz solo le donne possono dedicarsi ad impieghi manuali è per questo che mi sono impiegata qui invece che al kibbutz di wichita falls i suoi occhi neri sfavillarono di fierezza joe disse quell'iscrizione sul braccio quel tatuaggio è ebraico latino i suoi occhi velarono appena il suo divertimento non ho mai visto un appartamento così pieno di immondizia non ha una moglie questi esperti scientifici non hanno tempo per queste scemenze disse con tono in ritardo gg ashwood ascolta chip i genitori di questa ragazza lavorano per ray hollis se venissero a sapere che lei è qui le farebbero fare una lobotomia frontale alla ragazza joe chip disse loro non sanno che lei ha un talento contro lei scossa la testa non me ne ero mai accorta nemmeno io finché il vostro esploratore non si è seduto con me alla cafetteria del kibbutz e non me lo ha detto forse è vero sospirò forse no ha detto anche che lei poteva darmene una prova oggettiva con i suoi apparecchi di misurazione come si sentirebbe le chiese chip se i test confermassero che lei lo possiede riflettendo pat disse mi sembra così negativo io non faccio nulla non sposto gli oggetti o tramuto i sassi in pane o metto in cinta la gente senza fecondazione o inverto il progresso delle malattie nemmeno talenti comuni come quelli annullo soltanto il potere di qualcun altro mi sembra di fece un gesto contraddire gli altri come fattore di sopravvivenza per la razza umana disse joe è altrettanto utile dei talenti psi specialmente per noi norma il fattore anti psi è un naturale ristabilimento dell'equilibrio ecologico un insetto impara a volare così un altro insetto impara a costruire una ragnetera per intrappolarlo è forse lo stesso che non volare i mitili hanno sviluppato in durezza i loro gusci perciò gli uccelli imparano a sollevare in alto i mitili e a farli cadere su una roccia in un certo senso lei appartiene a una forma di vita che caccia gli psi e gli psi sono a loro volta forme di vita che cacciano i norma questo la rende alleata della classe norma equilibrio il circolo completo predatore e preda sembra essere un sistema eterno e francamente non vedo come possa essere migliorato potrei essere considerato una traditrice disse pat questo la preoccupa mi preoccupa sapere che la gente mi sarà ostile ma penso che non si possa vivere a lungo senza suscitare ostilità non si può piacere a tutti perché tutti vogliono cose diverse piacere a qualcuno significa dispiacere ad un altro joe chiese qual è il suo antitalento è difficile spiegarlo è unico disse gigi ashwood non ne ho mai sentito parlare prima quale talento psi neutralizza chiese joe alla ragazza precog rispose pat credo indicò gigi ashwood il cui sorriso colmo di entusiasmo non si era ancora affievolito il vostro scout me lo ha spiegato sapevo già di essere la causa di un fenomeno strano ho sempre avuto quegli strani episodi nella mia vita a partire dai sei anni e non ho mai detto nulla ai miei genitori perché sentivo che non gli sarebbe piaciuto loro sono precog chiese joe sì ha perfettamente ragione non gli sarebbe piaciuto affatto ma se lei ha usato il suo potere vicino a loro anche per una sola volta ne avrebbero dovuto accorgersene non hanno mai sospettato lei non ha mai interferito con i loro poteri pat disse io gesticolò credo di avere interferito ma loro non lo sapevano il suo volto sembrava smarrito lasci che le spieghi disse joe come funzionano generalmente gli antiprecog se non altro quei tipi che conosciamo il precognitivo vede una serie di futuri tutti incasellati l'uno a fianco dell'altro come le celle di un alveare per lui solo uno possiede una spiccata luminosità ed è questo che lui sceglie una volta scelto il futuro l'antiprecog non può fare nulla per funzionare deve essere presente nell'attimo in cui il precog sta per decidere e non dopo l'antiprecog fa sì che tutti i futuri sembrino ugualmente reali al precog inibisce totalmente il suo potere di scelta un precog è istantaneamente cosciente della vicinanza di un antiprecog poiché ogni suo contatto con il futuro è alterato nel caso dei telepati un tale indebolimento lei va indietro nel tempo disse gigi ashwood giù lo fissò indietro nel tempo ripete gigi assaporando le parole i suoi occhi scoccavano lampi espressivi il precog che si trova davanti al suo potere vede il futuro predominante come hai detto tu la possibilità luminosa sceglie quella ed ha ragione ma perché ha ragione perché quel futuro è luminoso perché questa ragazza fece un cenno con la testa verso di lei pat controlla il futuro quella possibilità luminosa è luminosa perché lei è andata nel passato e lo ha cambiato cambiando il passato lei cambia il presente incluso il precog il precog è colpito senza saperlo e crede che il suo potere funzioni anche se non è vero questo è il primo vantaggio del suo talento su tutti gli altri talenti antiprecog l'altro il più grande è che lei può cancellare la decisione del precog dopo che è stata presa lei può entrare nella situazione in seguito e come sai questo problema ci ha sempre messo nei guai se non possiamo intervenire dall'inizio non possiamo combinare nulla non siamo mai stati veramente in grado di inibire l'abilità dei precog come quella degli altri psi questo non è sempre stato un punto debole dei nostri servizi fissò chip in attesa interessante disse giù diavolo interessante gg ashwood vibrò d'indignazione questo è il più grande talento antipsei che sia mai stato scoperto una bassa voce pat disse io non torno indietro nel tempo sollevò gli occhi e affrontò giù chip con uno sguardo per metà di scusa e per metà belligerante faccio qualcosa ma il signor ashwood ha esagerato di parecchio il mio potere io posso leggere la tua mente le disse gg sembrando un po punto sul vivo so che tu puoi cambiare il passato lo hai già fatto pat disse posso cambiare il passato ma non andarci come lei vuol far credere al suo amico come riesce a cambiare il passato le chiese giù penso a un aspetto specifico di esso rispose pat come un singolo episodio o qualcosa che qualcuno ha detto oppure a una piccola cosa che è successa e che io non volevo succedesse la prima volta che l'ho fatto è una bambina aveva sei anni intervenne gg e viveva a detroit con i genitori ruppe un'antica statua di ceramica alla quale il padre teneva molto suo padre non l'aveva previsto le chiese giù con tutta l'abilità precog l'aveva previsto rispose pat e mi punì la settimana prima che io rompessi la statua ma disse anche che era inevitabile lei conosce il talento precognitivo possono predire tutto ma non possono mutare nulla poi dopo che la statua si ruppe dopo che io la ruppi dovrei dire ci meditai a lungo e pensai alla settimana precedente durante la quale avevo saltato il dolce a pranzo ed ero stata costretta ad andare a letto alle 5 del pomeriggio pensai cristo o qualunque altra cosa possa pensare un bambino non esiste nessun modo per evitare questi incidenti l'abilità precog di mio padre non mi sembrava poi tanto spettacolare poiché lui non potevo modificare gli eventi conservo ancora quella sensazione una specie di disprezzo passai un intero mese desiderando ardentemente che quella statua tornasse come prima nella mia mente continuavo a tornare a prima che si rompesse immaginando la sua figura intatta fu spaventoso e una mattina quando mi svegliai l'avevo perfino sognato di notte la statua era là come doveva essere e come era sempre stata si protese verso joe chip e parlò con voce tagliente determinata ma nessuno di miei genitori notò qualcosa gli sembrava perfettamente normale che la statua fosse ancora intera pensavano che fosse sempre stata così io ero la sola che ricordava sorrise si appoggiò di nuovo allo schienale prese un'altra sigaretta dal pacchetto sul tavolo e l'accese vado a prendere il mio equipaggiamento per i testi in macchina disse joe muovendosi verso la porta cinque centesimi prego disse la porta non appena lui impugnò la maniglia pagala disse joe a gg ashwood quando ebbe trasferito il carico di apparecchi dall'auto all'appartamento joe disse allo scout aziendale di filare cosa fece meravigliato gg ma sono stato io a trovarla la taglia mia ho impiegato quasi dieci giorni per risalire a lei dal suo campo io joe gli disse non posso farle il test in presenza del tuo campo psy lo sai bene i campi psy e anti psy si deformano a vicenda se non fosse così noi non saremmo in questo genere d'affari tese la mano mentre gg si alzava di malumore lasciami un paio di monetine così potremo uscircene di qui le ho io mormorò pat nella mia borsa puoi misurare la sua potenza disse gg dalla perdita del mio campo e ti ho visto farlo un centinaio di volte joe disse brevemente questa volta è diverso non ho più spicci disse gg non posso uscire fissando prima giù poi gg pat disse prenda una delle mie lanciò una monetina a gg che la ferrò al volo con un'espressione stupita sul volto lo stupore si tramutò lentamente in doloroso risentimento volete buttarmi fuori mormorò infilando il nichelino nella fessura della porta tutti e due brontolò mentre la porta si chiudeva dietro di lui l'ho scoperto io questo è davvero un mestiere da tagliacole quando la sua voce sbiadì lontana al chiudersi della porta allora ci fu silenzio di colpo pat disse quando il suo entusiasmo scompare non rimane molto di lui è un tipo a posto disse joe avvertiva una sensazione abituale colpa non molto profonda però comunque lui ha fatto la sua parte ora ora è il suo turno disse pat per così dire posso togliermi gli stivali certo disse lui incominciò a montare i suoi apparecchi controllando i rulli e le batterie fece compiere agli indicatori brevi balzi di prova immettendo determinate quantità di energia e registrando gli effetti una doccia chiese lei togliendo ordinatamente gli stivali un quarto di nichelino mormorò lui costa un quarto di credito sollevò gli occhi verso di lei e vide che aveva già incominciato a sbottonarsi la camicia non ho il quarto disse allora al kibbutz disse pat tutto è gratis gratis lui la fissò questo non è economicamente possibile come può funzionare su queste basi per più di un mese lei continuò imperturbabile a sbottonarsi la camicia i nostri salari sono versati al kibbutz e noi otteniamo credito avendo compiuto il nostro lavoro l'insieme dei nostri profitti permette al kibbutz di funzionare come una comunità attualmente il kibbutz di topeca è inattivo da parecchi anni noi membri gli stiamo dando più di quanto sia necessario alle nostre spese ci accontentiamo di poco sbottonato ormai la camicia la depose sullo schienale della sua sedia sotto il tessuto blu e grossolano non portava nulla e chip scorse i suoi seni alti e sodi ben sorretti dalla perfetta muscolatura delle spalle è sicura di volerlo fare disse lui togliersi i vestiti voglio dire pat disse non si ricorda non ricordo cosa il fatto che non mi sono spogliata in un altro presente non le è piaciuto il mio atteggiamento e l'ho estirpato così eccoci a questo punto pat rimase immobile che cosa ho fatto quando lei non si è spogliata chiese lui con circospezione ho rifiutato di sottoporla ai test ha borbottato qualcosa a proposito di mister ashford che aveva sopravvalutato il mio antitalento joe disse io non lavoro in questo modo non faccio cose simili ecco piegandosi e facendo oscillare i seni nudi pat frugò in una tasca della camicia e ne tirò fuori un foglietto piegato che porse a chip dall'altro presente quello che ho abolito lui lesse il foglio la valutazione di una sola riga scritta alla fine campo antipsi generato inadeguato completamente inferiore allo standard di nessun valore contro i valori precog attualmente esistenti e poi il simbolo cifrato che lui usava un cerchio sbarrato da un tratto di penna non assumere significava il simbolo e solo lui oltre a glenn ranziter lo conosceva neppure i loro scout conoscevano il significato di quel simbolo così ashford non aveva potuto dirle nulla in silenzio gli ritornò il foglietto lei lo ripiegò e lo rimise nella tasca della camicia è ancora necessario sottopormi ai test chiese lei dopo aver visto questo io seguo una regolare procedura disse joe sei indici che pat disse lei è soltanto un piccolo indifferente burocrate indebitato fino al collo che non riesce neppure a raggranellare qualche moneta per uscire dal proprio appartamento il tono della sua voce neutro ma devastatore rimbalzò nelle sue orecchie si sentì irrigidire strizzare gli occhi arrossire violentemente è soltanto un brutto momento disse poi posso ritornare finanziariamente a posto da un giorno all'altro posso ottenere un prestito dalla ditta se necessario si alzò a disagio prese due tazzine e due piattini e versò il caffè zucchero chiese panna panna fece pat ancora a piedi nudi e senza camicia armeggiò con la maniglia del frigorifero per prendere un break di latte 10 cent per aprire il mio sportello e 5 cent per la panna non c'è panna disse lui c'è soltanto latte continuò inutilmente a tirare la maniglia del frigorifero solo per questa volta implorò giuro su dio che ti pagherò stanotte ecco disse pat spinse attraverso il tavolo una moneta fino a lui dovrebbe mettersi con una donna ricca disse mentre lo guardava infilare la moneta nella fessura del frigorifero l'aria è veramente un fallito non è vero l'ho capito quando il signor ashwood non è sempre così disse lui digregnando i denti vuole che io la tiri fuori dai suoi problemi signor chip con le mani infilate nelle tasche dei blue jeans lei lo fissava con uno sguardo privo di espressione il suo viso non mostrava alcuna emozione solo una certa vigilanza sa che posso farlo si sieda e scrive il suo rapporto su di me dimentichi test il mio talento è comunque unico al mondo e lei non può misurare il campo che produco si trova nel passato e lei può controllarmi solo nel presente cioè quando il mio campo si manifesta come una conseguenza automatica non è d'accordo mi lasci dare un'altra occhiata a quel foglietto disse lui voglio rivederlo prima di decidere lei tirò fuori di nuovo il foglio di carta gialla dalla camicia e glielo passò attraverso il tavolo chip lo rilesse la mia calligrafia disse a se stesso è autentica glielo restituì e subito dopo prese da un blocco un foglio vergine della stessa familiare carta gialla su quello scrisse il nome di lei poi una serie di risultati falsi ed incredibilmente positivi e infine le sue conclusioni le sue nuove conclusioni possiede un potere incredibile campo antipsai unico per portata può probabilmente annullare ogni tipo immaginabile di precog dopodiché tracciò un simbolo questa volta due croci entrambe sottolineate pat in piedi alle sue spalle lo guardava scrivere cosa significano le due croci chiese lei assumerla disse giù a qualunque prezzo grazie fece lei e infilò una mano nella borsa della cintura estraendone un fascio di manconote ne scelse una e gliela porse una di grosso taglio questa le servirà per le spese non potevo darle il denaro prima che lei terminasse la sua valutazione ufficiale avrebbe pensato che cercavo di corromperla e si sarebbe perfino convinto che non avevo nessun antitalento abbassò allora la cintura lampo dei blue jeans e riprese velocemente quasi furtivamente a spogliarsi giocipo osservò ciò che aveva appena scritto senza guardare ciò che lei stava facendo le croci sottolineate non significavano quello che lui le aveva detto volevano dire sorvegliate questa persona è un rischio per la ditta è pericolosa firmò il foglio di carta lo piegò e lo passò a lei il foglio finì subito nella borsa quando posso portare quelle mie cose chiese poi dirigendosi verso il bagno ormai considero quasi mio anche questo posto ho già pagato quello che dovrebbe essere l'affitto dell'intero mese quando vuole disse lui la stanza da bagno disse 50 centesimi prego prima di aprire l'acqua pat ritornò in cucina a frugare nella sua borsa il nuovo scatenato condimento per insalate ubic un gusto non italiano non francese ma bensì un gusto piacere interamente nuovo e diverso che sta svegliando il mondo svegliatevi ubic e scatenatevi innocuo si è usato secondo le istruzioni di ritorno a new york dal suo viaggio al moratorium di letti fratelli glennon ranciter atterrò con la silenziosa e imponente limusina elettrica a noleggio sul tetto della sede centrale della ranciter associates un canale di discesa lo calò rapidamente al suo ufficio del quinto piano e ora alle 9 e 30 di mattina a tempo locale sedeva nella massiccia e antiquata poltrona girevole in autentico cuoio e noce dietro la sua scrivania intento a parlare per videofono con il reparto pubbliche relazioni tamish sono appena tornato da zurigo ho parlato con ella ranciter lanciò un'occhiata alla sua segretaria che era appena entrata nell'enorme ufficio con circospezione chiudendosi alle spalle la porta cosa vuole signora frick le chiese la vizzita e timorosa signora frick il cui viso era perennemente costellato di macchie di colore artificiali per compensare il proprio grigiore naturale fece un gesto di sconforto non aveva scelta doveva disturbarlo va bene signora frick disse lui con impazienza cosa c'è una nuova cliente signor ranciter penso che dovrebbe vederla l'anziana segretaria avanzava verso di lui e al tempo stesso indietreggiava è una difficile manovra che soltanto la signora frick poteva compiere le era occorso un secolo di pratiche non appena avrò finito questa chiamata le disse ranciter e rivolgendosi all'apparecchio qual è la differenza dei nostri avvisi sui circuiti televisivi primari di tutto il pianeta ancora uno ogni tre non proprio signor ranciter nel corso di una giornata gli avvisi di prudenza appaiono con una percentuale di uno ogni tre ore sul canale UHF ma il prezzo per i circuiti primari voglio che appaiano ogni ora disse ranciter e la pensa che sarebbe meglio così durante il viaggio di ritorno dall'emisfero occidentale aveva deciso quale dei loro spot gli piaceva di più conosci quell'ordinanza della corte suprema che dice che un marito può uccidere legalmente la moglie se è in grado di provare che lei non intende in alcun modo concedergli il divorzio chiese di volta a tamis si la cosiddetta non mi importa come viene chiamata quello che conta è che noi abbiamo già uno spot televisivo su questo argomento come diavolo era sto cercando di ricordarlo c'è un uomo l'ex marito che viene processato prima viene un'inquadratura della giuria poi del giudice poi una panoramica del pubblico ministero che interroga l'ex marito dice sembrerebbe signore che sua moglie esatto disse soddisfatto ranciter in origine aveva collaborato lui stesso alla stesura del testo rappresentava a suo parere un'ennesima manifestazione della meravigliosa poliedricità della sua mente esiste comunque la possibilità che gli psi scomparsi siano al lavoro in gruppo per una delle grandi società finanziarie di investimento se così davvero fosse ci converrebbe porre in rilievo uno dei nostri annunci mirati al mondo degli affari lei ricorda questo annuncio signor ranciter mostra un marito tornato a casa dal lavoro indossa ancora il suo giubbetto color giallo elettrico il gonellino a petalo calze al ginocchio e un berretto a visiera militare si siede stancamente sul divano del soggiorno fa per levarsi uno dei guanti poi si sporge in avanti sacciglie dice per dio gil vorrei sapere cosa che non va in questi ultimi giorni a volte e con maggiore frequenza ogni giorno che passa il più piccolo appunto in ufficio mi fa pensare che beh qualcuno mi sta leggendo il pensiero poi la moglie dice se sei preoccupato perché non ci rivolgiamo a un'organizzazione di prudenza più vicina ci affitteranno un inerziale a poco prezzo e tu tornerai a sentirti il vecchio leone di sempre e allora sul volto di lui appare un grande sorriso mentre dice hey quel senso di oppressione già sta comparendo di nuovo sulla soglia dell'ufficio miss freak disse la prego signor ranziter i suoi occhiali tremavano lui annui ne parleremo più tardi tamish comunque mettetevi in contatto con le reti televisive e cominciate con il nostro materiale sulla base di un'ora come vi ho detto riattacò poi fissò in silenzio la signora freak sono andato in svizzera disse piano e ho dovuto svegliare ella per ottenere questo consiglio il signor ranziter è libero signorina weird la segretaria vacillò di lato e una donna grass rotolò nell'ufficio la sua testa simile a una palla da basket sembrava rimbalzare sul collo ad ogni passo il grande corpo rotondo si spinse verso una sedia dove lei si sedette di colpo lasciando dondolare le gambe corte indossava un sopravvito fuori moda in seta di ragno e assomigliava ad un amabile insetto avvolto in un bozzolo filato da qualcun altro sembrava rinchiusa in quell'abito comunque sorrise appariva pienamente a suo agio fra i 40 e i 50 decise ranziter scomparso il periodo in cui aveva potuto sfoggiare una figura discreta signorina weird disse ranziter non posso concederle molto tempo forse sarebbe meglio giungere subito al punto qual è il problema in tono gaio e caldo quanto mai incongruo miss weird disse stiamo avendo alcuni guai con i telepati lo pensiamo ma non ne siamo certi stipendiamo già un telepate una persona che conosciamo e che circola fra i nostri impiegati ed è stato lui a metterci sull'avviso se durante le sue esplorazioni si imbatte in uno psi telepate o precog di qualsiasi tipo si tratti deve subito farne rapporto a squadro lucidamente ranziter al mio principale la settimana scorsa ha appunto fatto un rapporto di questo genere abbiamo esaminato una valutazione ad opera di una società privata sulle capacità delle diverse agenzie di prudenza e la vostra è stata giudicata la migliore questo lo so disse ranziter aveva già visto quella famosa valutazione in ogni modo essa non gli aveva portato molti più affari fino a quel momento almeno quanti telepati ha scoperto il vostro uomo le chiese più di uno almeno due forse di più forse a noi miss weird ecco la nostra procedura operativa disse ranziter per prima cosa misuriamo oggettivamente il campo psi generato in modo da sapere con cosa abbiamo a che fare per questo impieghiamo generalmente una settimana o dieci giorni dipende da la signorina weird l'interruppe il mio principale desidera che interveniate subito con i vostri inerziali senza farci perdere tempo e denaro con i controlli e le misurazioni preliminari non sapremmo quanti inerziali servono o di quale tipo o dove sistemarli per condurre un'operazione psi dobbiamo operare sistematicamente non possiamo agitare una bacchetta magica o spruzzare vapori tossici negli angoli dobbiamo bilanciare gli uomini di hollis individuo per individuo un antitalento per ogni antitalento se hollis si è infiltrato nelle vostre operazioni lo ha fatto nello stesso modo uno psi alla volta uno riesce a introdursi nel reparto del personale e ne fa assumere un altro questa persona costituisce poi un reparto di sua iniziativa o si occupa invece di uno che esiste già e ne introduce un altro paio a volte ci vogliono mesi noi non possiamo distinguere in 24 ore quello che loro hanno identificato in chissà quanto tempo ogni attività psi è come un grande mosaico loro non possono permettersi di essere impazienti e neppure noi il mio principale disse vivacemente la signora wirth è impaziente gli parlerò io disse ranziter sollevando il videofono chi è e qual è il suo numero dovrete trattare attraverso me e forse non tratterò per niente perché non vuole dirmi chi rappresenta schiacciò un pulsante nascosto sotto l'urlo della scrivania avrebbe fatto accorrere nella stanza accanto la telepate dell'ufficio nina fried per esaminare i pensieri della signora wirth non posso lavorare per loro si disse se non so chi sono per quel che ne so potrebbe essere ray hollis che tenta di assumermi lei ha troppi pregiudizi disse la signorina wirth tutto ciò che noi vogliamo è la velocità e la chiediamo perché dobbiamo farlo posso dirle solo questo il nostro progetto disturbato dall'intervento degli psi non ha luogo sulla terra dal punto di vista dei risultati potenziali come da quello degli investimenti è il nostro progetto più importante il mio principale vi ha investito ogni sua risorsa nessuno dovrebbe saperne qualcosa e lei può quindi immaginare quale sorpresa sia stata per noi lo scoprire dei telepati nel luogo mi scusi disse ranziter si alzò dirigendosi alla porta dell'ufficio vedrò quanti elementi sono disponibili per un caso come questo dopo aver chiuso dietro di sé la porta esaminò tutti gli uffici adiacenti finché non trovò nina fried stava seduta in una delle stanzette laterali fumando una sigaretta con aria concentrata scopri chi rappresenta le disse lui e fino a che prezzo possono arrivare abbiamo 38 inerziali a spas riflettere poi forse possiamo sbatterli tutti o quasi in questo affare magari ho scoperto dove sono andati a finire quei fetenti di hollis l'intero branco maledetto ritornò al suo ufficio e riprese il suo posto dietro alla scrivania se i telepati si sono infiltrati nel nostro progetto disse alla signorina wirt incrociando le mani dinanzi a sé dovete affrontare il fatto che l'operazione stessa non è più un segreto indipendentemente da qualsiasi segreto industriale che possono avere già raccolto e allora perché non dirmi di quale progetto si tratta esitante la signorina wirt disse non conosco la natura del progetto neppure dove si trova no scosse il capo ranziter disse sa chi è il suo principale lavoro per una società sussidiaria che lui controlla finanziariamente so chi è il mio principale diretto il signor sheffard howard non mi è mai stato detto chi rappresenti il signor howard se noi vi forniamo gli inerziali che vi servono sapremo dove verranno mandati probabilmente no e supponendo che non tornassero più indietro perché non dovrebbero tornare dopo che avranno decontaminato la nostra operazione gli uomini di hollis disse l'anziter sono noti per avere già ucciso degli inerziali mandati a contrastarli è una mia responsabilità accertare che i miei dipendenti siano protetti e non posso farlo se non so dove sono il micro altoparlante nascosto nel suo orecchio sinistro ronzò e al ranziter udì la debole misurata voce di nina freed udibile a lui solo la signorina wirt rappresenta stanton mick e la sua assistente di fiducia non esiste nessuno chiamato sheffard howard il progetto in questione ha sede sulla luna ha a che fare con la tech price l'istituto di ricerche di mic di cui la signorina wirt detiene la maggioranza azionaria lei non conosce nessun dettaglio tecnico mic non le ha mai fornito nessun rapporto sui progressi o i suoi risultati scientifici e lei per questo è molto irritata dal personale di mic è riuscita comunque ad avere un'idea generale della natura del progetto prendendo per buone le sue informazioni di seconda mano il progetto lunare riguarda un nuovo sistema di propulsione interstellare a passo costo radicale e rivoluzionario in grado di avvicinarsi alla velocità della luce e che potrebbe essere noleggiato a ogni gruppo etnico o politico sufficientemente ricco mic sembra convinto che il nuovo sistema propulsivo renderà possibile la colonizzazione di massa appoggiandosi a strutture ridotte all'osso per questo non sarà più un monopolio di pochi governi nina interruppe il contatto e a ranziter si spostò all'indietro sulla poltrona di cuoio e noce per meditare a cosa sta pensando chiese vivacemente la signorina wirt mi chiedevo se lei può permettersi i nostri servizi disse ranziter non avendo dati precisi posso soltanto fare una stima approssimativa degli inerziali che le serviranno ma temo che in ogni caso non potrebbero essere meno di 40 lo disse ben sapendo che stanton mic poteva permettersi o poteva comunque trovare qualcuno che glielo permettesse un numero pressoché illimitato di inerziali 40 fece ecco la signorina wirt sono parecchi più ne usiamo più alla svelta finiremo il lavoro e poiché voi avete fretta noi possiamo trasportarli tutti insieme se lei è autorizzata a firmare un contratto di lavoro intestato al suo principale le puntò contro un dito fermo lei non sbatté neppure le ciglia e se lei può versare un acconto possiamo sistemare questa faccenda nelle prossime 72 ore la osservò in attesa il micro altoparlante nell'orecchio grattò come proprietaria della tech price lei è pienamente autorizzata la sua firma può obbligare la società alle sue spalle in questo momento sta calcolando quanto sarebbe se è convertito in liquido sul mercato odierno una pausa svariati miliardi di post crediti ha deciso ma non vuole farlo non levare l'idea di impegnarsi di persona per il contratto e l'anticipo preferirebbe che se ne occupassero gli avvocati di mic anche se questo vorrebbe dire parecchi giorni di ritardo ma hanno fretta riflette ranziter o almeno così dicono loro il micro altoparlante disse la wirt ha intuito che lei conosce o sospetti la vera identità della persona che rappresenta e teme che alzerà i prezzi di conseguenza mic conosce la sua reputazione lui stesso si considera il più facile bersaglio del mondo così negozia sempre in questo modo usando una persona o una ditta come paravento d'altra parte loro vogliono tanti inerziali quanti possono ottenerne e sono rassegnati all'idea che ciò costerà loro un patrimonio 40 inerziali disse pigremente ranziter scarabocchiò con una penna su un foglio di carta sullo ripiano della scrivania il foglio bianco era lì per quello scopo vediamo 6 per 50 per 3 per 40 la signorina wirt sbandierando ancora il suo allegro sorriso attendeva con visibile tensione chissà chi ha pagato hollis per infiltrare i suoi uomini nel vostro progetto fece lui di colpo questo non ha grande importanza no disse la signorina wirt ciò che conta è che ora ci sono ranziter disse certe volte non si riesce mai a scoprirlo ma come lei dice lo stesso quando le formiche trovano la via per la vostra cucina non ci si chiede perché sono lì ma si incomincia subito a spazzarle fuori era arrivato a compilare il costo approssimativo dell'operazione era enorme io dovrò pensarci su disse la signorina wirt sollevò gli occhi dalla vista terribile di quella cifra e fece per alzarsi in piedi c'è qualche luogo o un ufficio dove potrei rimanere sola e possibilmente contattare il signor haward ranziter alzandosi lui pure disse è raro per un'organizzazione di prudenza disporre in una sola volta di un tale numero di inerziali se aspettate la situazione cambierà perciò se li volete fareste meglio ad agire ora né lei pensa davvero che siano necessari così tanti inerziali prendendo la signorina wirt per un braccio la fece uscire dal suo ufficio e la guidò lungo il corridoio fino alla sala delle mappe in questa stanza ci teniamo aggiornati sui movimenti dei nostri inerziali e di quelli di altre organizzazioni simili alla nostra le disse inoltre cerchiamo per quanto è possibile di conoscere la dislocazione degli psi di hollis sistematicamente contò le bandierine di identificazione che negli ultimi tempi una alla volta erano state tolte dalla mappa terminò tenendo l'ultima quella di esdol melipon ora so dove si trovano disse alla signorina wirt che aveva perso il suo meccanico sorriso comprendendo il significato delle bandierine non posizionate prendendola per mano ranziter depose la bandierina di melipon fra le dita sudate di lei e le richiuse intorno ad essa può rimanere qui a riflettere disse là c'è un videofono le fece un cenno nessuno la disturberà io sarò nel mio ufficio lasciò la sala delle mappe pensando non sono davvero certo che siano tutti là ma è possibile e inoltre stanton mick aveva rinunciato alla solita procedura del controllo preventivo perciò se fosse saltato fuori che aveva assunto degli inerziali per niente la colpa sarebbe stata soltanto sua dal punto di vista legale la ranziter associates era obbligata a informare la società che alcuni degli psi mancanti se non tutti erano stati trovati ma aveva cinque giorni di tempo per inoltrare la notifica e lui decise di attendere fino all'ultimo giorno quel genere di opportunità specialmente in affari capitava una sola volta nella vita signora freak disse entrando nell'ufficio esterno batta un contratto di assunzione che includa 40 si interruppe nella stanza sedevano altre due persone l'uomo joe chip appariva disfatto e con i postumi di una sbronza addosso forse anche più depresso del solito aveva in effetti il suo aspetto normale tranne per l'aria depressa ma accanto a lui sedeva una ragazza dalle lunghe gambe con occhi e capelli neri e brillanti la sua intensa distillata bellezza illuminava quella parte della stanza accendendola con un fuoco lugubre e pesante era come pensò ranziter se la ragazza si opponesse all'idea di essere attraente e odiasse la levigatezza della propria pelle o la profonda qualità sensuale delle labbra sembra penso ancora che sia appena uscita dal letto ancora in disordine piena di risentimento contro il giorno contro ogni giorno in effetti avvicinandosi ai due ranziter disse ho saputo che gg è tornato da topeca questa è pat disse joe chip niente cognome indicò ranziter poi sospirò aveva intorno a sé l'alone peculiare della sconfitta eppure al di sotto di esso non sembrava ancora essersi arreso del tutto un vago e rattrapito accento di vitalità faceva capolino dalla sua rassegnazione a ranziter sembrava che joe potesse essere accusato di fingere una rovina spirituale l'articolo vero comunque c'era un anti cosa chiese ranziter alla ragazza ancora strabaccata sulla sedia lei mormorò anti chetogenesi e che significa prevenzione della chetosi rispose la ragazza con voce lontana come nella somministrazione del glucosio a joe ranziter disse spiega dai al signor ranziter il risultato dei tuoi test disse joe alla ragazza raddrizzandosi la ragazza furgò nella sua borsa finché non ebbe trovato il foglio giallo e spiegazzato di joe lo stirò gli diede un'occhiata e lo tese a ranziter un punteggio sorprendente fece ranziter è davvero così in gamba chiesa joe e allora scorse le due croci sottolineate il simbolo grafico dell'accusa il marchio del tradimento è la migliore che esista venga nel mio ufficio disse ranziter alla ragazza si mosse per primo e i due lo seguirono la grassa signora weirth apparve all'improvviso ansimante e arroteando gli occhi ho chiamato il signor avard informò ranziter mi ha dato istruzioni si accorse solo allora di joe e della ragazza esitò per un istante poi proseguì il signor haward desidera che le formalità siano sbrigate al più presto così ora possiamo procedere le ho già parlato dell'urgenza del fattore tempo sfoderò il suo sorriso trasparente vi spiace aspettare chiese a gioia la ragazza il mio affare con il signor ranziter è di natura prioritaria osservandola pat rise una bassa e gutturale risata di disprezzo dovrà attendere signorina weirth disse ranziter si sentiva intimorito lanciò un'occhiata pat poi a giù e le sue paure aumentarono si accomodi le disse e indicò una delle sedie dell'anticamera dell'ufficio la signorina weirth disse signor ranziter ora posso dirle con esattezza quanti inerziali possiamo assumere il signor haward ritiene di poter fare una precisa stima dei nostri bisogni quanti chiese ranziter undici disse la signorina weirth firmeremo il contratto fra pochi minuti disse ranziter non appena sarò libero con la sua mano guidò gioia la ragazza nell'ufficio chiuse la porta dietro di loro e andò a sedersi non ce la faranno mai disse a gio con undici neppure con quindici o venti non quando esdo melipon e dall'altra parte si sentiva stanco oltre che intimorito presumo che questa sia la recluta scoperta da gg a topeca sei convinto che dovremmo assumerla è d'accordo anche gg allora la assumeremo naturalmente forse la spedirò a mic disse a se stesso mettiamola in quegli undici nessuno mi ha ancora spiegato disse a quale talento psi si contrappone la signora freak ha detto che sei andato a zurigo fece gio cosa ha suggerito ella altri annunci rispose ranziter alla tv ogni ora nell'interfono disse signora freak stand a un contratto di assunzione fra noi e una certa jane do specifichi il salario iniziale che abbiamo concordato con il sindacato il dicembre scorso specifichi qual è il salario iniziale chiese pat la voce soffusa di una sorta di sospetto infantile ranziter la occhieggiò non so neppure cosa sia in grado di fare è una precog glenn cicologio ma in modo diverso dal solito non elaborò troppo la spiegazione gli pareva di essersi scaricato come uno di quegli antichi orologi a batterie può cominciare subito a lavorare chiese ranziter raggiù oppure dobbiamo allenarla a lavorarci su e a stare ad aspettare abbiamo 40 inerziali a spasso e ne stiamo assumendo un altro 40 meno 11 spero 30 dipendenti con le mani in mano a salario pieno e se ne stanno seduti con le dita nel naso non lo so giù non lo so davvero forse dovremmo licenziare gli scout comunque credo di avere trovato il resto degli psi di hollis te lo dirò più tardi ancora nell'interfono disse specifichi che possiamo licenziare la detta jane do senza alcun preavviso senza liquidazione o compensi di alcun genere inoltre aggiunga che durante i primi 90 giorni di impiego non avrà diritto a pensione cassa malattie e altri benefici rivolgendosi a pat disse in ogni caso i nostri salari iniziali partono da 400 post crediti al mese con un onorario di lavoro di 20 ore alla settimana lei dovrà iscriversi a un sindacato all'unione dei lavoratori in miniere mulini e fonderie è quello che ha iscritto nei propri ruoli tutti i dipendenti delle organizzazioni di prudenza tre anni fa io non ho nessun controllo su di esso mi pagano di più disse pat lavorando la manutenzione dei rilevi diofonici alla kibus di topeca il suo scout il signor ashwood aveva detto i nostri esploratori mentono disse ranziter e inoltre noi non siamo legalmente vincolati a quello che dicono nessuna organizzazione di prudenza lo è la porta dell'ufficio si socchiuse e la signora freak entrò vacillante con il contratto appena battuto grazie signora freak fece ranziter accettando il documento ho una moglie di vent'anni congelata in semivita disse poi a joe pat una donna stupenda che quando cerca di parlarmi viene sopraffatta da un imbecille di ragazzino di nome jory e allora sono costretto a parlare con lui non con lei ma la congelata in semivita è sul punto di spegnersi per sempre e io tutto il giorno a guardare quel vecchio sgorbio della mia segretaria alzò gli occhi su pat sui suoi capelli neri e sulla bocca sensuale avvertì dentro di sé il sollevarsi di brame insoddisfatte desideri confusi e spuntati che non conducevano a nulla che ritornavano a lui vuoti come completando un cerchio geometricamente perfetto firmerò disse pat e allungo una mano verso la penna sulla scrivania non posso venire a cena helen ho lo stomaco sotto sopra ti preparo ubic ubic ti rimetti in sesto al volo preso secondo le istruzioni ubic irradia sollievo alla testa e stomaco ricordate ubic vi salva in pochi secondi evitare l'uso prolungato durante i lunghi giorni di forzata e innaturale disoccupazione l'antitelepate tippy jackson dormiva regolarmente fino a mezzogiorno un elettrodo inserito all'interno del suo cervello stimolava in continuità il sonno rem movimenti oculari estremamente rapidi e perciò avvolta nelle lenzuola di percale del suo letto lei aveva moltissimo da fare in quel momento particolare i suoi sogni indotti artificialmente riguardavano un immaginario funzionario di hollis dotato di enormi poteri psionici ogni altro inerziale del sistema solare si era arreso o era stato fuso in una macchia di grasso per eliminazione l'incarico di annullare il campo generato da quell'entità soprannaturale era affidato a lei non posso essere me stesso quando tu mi sei vicina l'informò il suo nebuloso antagonista sul suo viso si formò un'espressione bestiale colma di odio dandogli l'aspetto di uno scoiattolo psicotico nel suo sogno tippy rispose forse la definizione del tuo sistema del sé manca di precisi termini di demarcazione hai costruito la precaria struttura della tua personalità su fattori inconsci che non hai il potere di controllare è per questo che ti senti minacciato da me appartieni per caso a un'organizzazione di prudenza domandò il telepate di hollis guardandosi nervosamente intorno sei tu lo stupendo talento che pretendi di essere disse tippy puoi saperlo leggendo la mia mente non posso leggere la mente di nessuno disse il telepate il mio talento è scomparso ti farò parlare con mio fratello bill qui bill parla a questa signora ti piace la signora bill che assomigliava moltissimo al fratello telepate disse mi piace parecchio perché io sono un preco che lei non può farmi nulla trascinò un po i piedi e soghignò rivelando una candida dentatura formata da denti larghi e pallidi smussati come badili io che sono privato di questa bella simmetria frustrato di sembianze dalla natura che si mi dispaia fece una pausa corrugando la fronte com'è che continua matt chiese al suo fratello deforme incompiuto anzitempo inviato in questo spirante mondo appena plasmato a mezzo proseguì il telepate scoiattolo grattandosi meditabondo la pelliccia ah sì a noi bill il precog ricordo e pur questo in modo così monco e contraffatto che i cani latrano di me quando io zoppico accanto a loro è il riccardo terzo spiego a tippy entrambi i fratelli soghignarono perfino i loro incisivi erano squadrati come se vivessero con una dieta di semi crudi tippy disse che significa significa che adesso ti pigliamo dissero matt e bill all'unisono il videofano squillò svegliando tippy confusa dalle bolle colorate che le danzavano dinanzi agli occhi e ammiccando sollevò il ricevitore disse pronto dio come tardi pensò vedendo l'orologio sto diventando un vegetale il viso di glennon ranciter emerse sullo schermo salve signor ranciter disse lei rimanendo fuori dal campo visivo dello scanner del telefono c'è qualche lavoro per me no signora jackson sono contento di averla trovata fece ranciter io e joe chip stiamo formando un gruppo 11 in tutto per i prescelti si tratta di un incarico di grande importanza stiamo esaminando i dossier di tutti quanti joe pensa che lei andrebbe bene ma io sono d'accordo quanto ci mette per arrivare qui la sua voce era alquanto ottimista ma sul piccolo schermo il volto appariva preoccupato e appesantito tippy disse dovrò rimanere a lungo sì dovrà fare la valigia e intorno di rimprovero aggiunse dovremmo avere i bagagli pronti ed essere pronti a partire in ogni momento è una regola che voglio sia rispettata specialmente in casi come questo dove il fattore tempo ha un certo peso io ho già la valigia pronta sbotto tippy sarò nel suo ufficio di new york fra un quarto d'ora tutto quello che devo fare è lasciare un messaggio per mio marito che è al lavoro bene d'accordo disse ranciter che sembrava preoccupato probabilmente stava già leggendo il nome successivo sulla lista ma arrivederci signora jackson disse poi e riattaccò che strano sogno pensò tippy sbottonandosi in fretta il pigiama e infilandosi nella stanza da bagno che cosa avevano citato bill e matt il riccardo terzo ricordò e rivide nella mente i loro denti bianchi e larghi le loro teste informi e identiche bitorsolute con ciuffi di capelli rossastri simili a macchie ed erbaccia ma io non ho letto il riccardo terzo penso allora oppure se l'ho fatto deve essere stato parecchi anni fa quando era ancora una bambina come posso sognare citazioni da brani che non ho mai letto si chiese stupita forse un telepate si è messo in contatto con me mentre sognavo o forse un telepate e un precog che lavorano insieme come ho visto nel sogno meglio chiedere al reparto ricerche se per caso hollis dispone davvero di due fratelli di nome matt e bill perplesse a disagio cominciò a vestirsi il più rapidamente possibile accendendo un vero palma vana quest a rei supreme verde glen ranciter si appoggiò allo schienale della sua nobile poltrona premette un pulsante sull'interfono e disse prepari l'assegno per una taglia signora fric pagabile a gg ashwood per cento post crediti signor ranciter osservò gg ashwood che percorreva avanti e indietro l'ufficio in preda a una vera inquietudine maniacale i suoi piedi producevano un secco rumore irritante sul pavimento di autentico legno pregiato joachip non sembra in grado di dirmi quello che sa fare disse ranciter joachip è uno scemo disse gg ma com'è possibile che questa patta possa viaggiare all'indietro nel tempo e che non esista nessun altro che lo possa fare scommetto che il suo talento non è nuovo probabilmente voi esploratori non ve ne siete mai accorti finora comunque non è logico che un'organizzazione di prudenza la assuma il suo è un talento non un antitalento noi ci occupiamo di come ho già detto e come joe ha indicato nel rapporto pat metti i preco fuori gioco ma si tratta di un effetto collaterale ranciter sembrò meditare tristemente joe pensa che è pericolosa non so perché non gliela chiesto ranciter disse abborbottato come sempre joe non ha mai dei motivi soltanto delle sensazioni d'altra parte vuole includerla nell'operazione mic traffico tra i documenti del reparto personale sulla scrivania chiedi a joe di venire qui e di controllare se abbiamo il gruppo al completo esaminò il suo orologio ormai staranno arrivando dirò apertamente a joe che è pazzo a includere quella pat conley nel gruppo se crede che sia pericolosa non è così gg gg ashwood disse con lei joe ha ottenuto qualcosa che cosa è un qualche accordo sessuale joe non ha nemmeno una vita sessuale nena frede gli ha letto la mente l'altro giorno joe è troppo povero perfino per si interruppe perché la porta dell'ufficio si era aperta la signora freak si fece avanti portando l'assegno di gg per la firma so perché vuole che anche lei partecipi all'operazione mic disse ranciter grattando la sua firma sull'assegno per poterle tenere gli occhi addosso parteciperà anche lui all'operazione misurerà il campo psi nonostante quello che dice il nostro cliente dobbiamo pur sapere contro cosa stiamo combattendo grazie signora freak le fece cenno che poteva restare e tese l'assegno a gg ashwood supponiamo che noi non misuriamo il campo psi e che si riveli poi troppo intenso per i nostri inerziali di chi sarà la colpa nostra disse gg gliel'ho detto che 11 non erano sufficienti gli forniamo i migliori elementi stiamo facendo del nostro meglio dopo tutto lavorare per stanton mic è un affare di grande importanza per noi eppure mi sorprende che un uomo così ricco e potente possa essere tanto imprevidente e così dannatamente taccagno signora freak joe è lì fuori joe chip la signora freak rispose il signor chip è nell'ufficio esterno con un gruppo di altre persone quante altre persone signora freak 10 11 direi intorno a questa cifra signor ransiter uno o due in più o in meno a gg ashwood ransiter disse è il gruppo voglio vederli tutti insieme prima che partano per la luna e alla signora freak aggiunse le faccio entrare poi tirò una vigorosa boccata dal sigaro dall'involucro verde la segretaria si diresse alla porta sappiamo che individualmente se la cavano tutti bene disse ransiter a gg è tutto qui su questi fogli sparpagliò i documenti sul ripiano della scrivania ma come funzioneranno insieme quanto sarà grande il campo antipsai polincemfalico che genereranno in gruppo prova a chiedertelo gg è questa la domanda che ci dobbiamo fare penso che il tempo ce lo dirà fece gg ashwood e lo sono in affari da molto tempo disse ransiter dall'altro ufficio presa da fluire gente questo è il mio contributo alla civiltà moderna è vero convenne gg lei è un poliziotto a guardia dell'intimità umana sai cosa dice di noi ray hollis domandò ransiter dice che stiamo cercando di far le lancette dell'orologio all'indietro scrutò gli individui che avevano preso a occupare il suo ufficio si raccolsero uno accanto all'altro senza dire una parola attendevano lui che branco male assortito pensò ransiter con pessimismo una ragazza ossuta con gli occhiali e i capelli lisci giallo limone vestita con un paio di bermuda e una mantiglia di merletto nero con l'aggiunta di un cappello da cowboy quella era eddie dorn una donna più anziana dalla pelle scura e piuttosto bella con un paio di occhi scaltri e leggermente stravolti che indossava un sari di seta un hobby di nylon e dei calzini troppo corti frenzi qualcosa una mezza schizofrenica convinta che esseri intelligenti di beetlejuice atterravano ogni tanto sul tetto del suo condominio un ragazzino adolescente dai capelli lanosi perennemente avvolto in una cinica nube di orgoglio questo abbigliato con una camicia a fiori giganteschi e con calzoni da sci di spandex ransiter non l'aveva mai visto prima continuò il suo esame cinque donne conto poi e cinque uomini mancava qualcuno precedendo joe chip entrò la ragazza che apparentemente covava una rabbia inespressa patricia conley quella era l'undicesima il gruppo era al completo ha fatto davvero in fretta signora jackson disse allora ransiter alla signora trentenne e mascolina dalla pelle color sabbia che sfoggiava calzoni in finta vigogna e una camicetta sulla quale era stampata un ritratto sbiadito di lord bertrand russell lei aveva meno tempo a disposizione degli altri considerando che è stata l'ultima ad essere avvertita tp jackson tirò fuori un esangue sorriso color sabbia alcuni di voi li conosco di persona continuò ransiter alzandosi e indicando con un largo gesto che potevano sedere e fumare se lo volevano lei signorina dorn il signor chip e io l'abbiamo scelta specialmente per le sue eccellenti attività a riguardo di esdol melipon il fatto che lei abbia perso le sue tracce non può esserle addebitato la ringrazio signor ransiter disse edy dorn con un di voce spaventata arrossi subito e fissò con occhi sbarrati la parete di fronte è bello essere di nuovo al lavoro aggiunse poi con debole convinzione chi di voi è al hammond chiese ransiter consultando i suoi documenti un negro eccessivamente alto dalle spalle curve e con un'espressione mansueta sul volto allungato fece un gesto per indicare se stesso non ci siamo mai incontrati prima murmurò ransiter studiando la scheda di hammond lei è il più potente dei nostri antiprecog e avremmo dovuto conoscerci in un'altra occasione quanti altri di voi sono antiprecog altre tre mani si alzarono voi quattro allora disse ransiter sarete felici di conoscere di lavorare con l'ultima scoperta di gg ashwood che è in grado di annullare i poteri precog in un modo del tutto nuovo forse la signorina con lei stessa ce le vorrà illustrare fece un cenno in direzione di pat e si ritrovò dinanzi a una vetrina della quinta strada un negozio di rarità numismatiche stava esaminando un dollaro d'oro mai entrato in circolazione e si chiedeva se avrebbe potuto permettersi di aggiungerlo alla sua collezione quale collezione si domandò stupito io non colleziono monete che sto facendo qui da quanto tempo me ne vado in giro a guardare vetrine quando dovrei trovarmi nel mio ufficio a controllare e non ricordava più che cosa controllava di solito un servizio di qualche tipo aveva a che fare con persone con talenti speciali chiuse gli occhi cercando di mettere a fuoco la memoria no aveva lasciato quel lavoro si accorse solo allora a causa di quell'attacco alle coronarie l'anno prima era stato costretto ad andare in pensione ma pochi secondi fa io ero là ricordò di colpo nel mio ufficio parlava un gruppo di persone di un nuovo progetto chiuse gli occhi è scomparso è scomparso pensò sbalordito tutto quello che ho costruito quando riapri gli occhi si trovò ancora nel suo ufficio aveva di fronte gg ashwood joe chip e una ragazza bruna molto attraente di cui non ricordava assolutamente il nome per il resto l'ufficio era vuoto e quel particolare per ragioni che non capiva gli sembrò veramente strano signor ranziter disse joe chip le presento patricia conley la ragazza disse sono lieta di poterla finalmente conoscere signor ranziter poi rise nei suoi occhi lampeggiarono risultanti ranziter non capiva perché lei ha combinato qualcosa pat disse a voce alta non ci posso giurare ma è cambiato qualcosa esaminò con aria meravigliata l'ufficio appariva come sempre era stato il tappeto troppo vistoso troppi oggetti d'arte privi di qualsiasi legame le pareti quadri di nessun valore artistico leon ranziter non era cambiato grigio e irsuto il viso corrugato e meditabondo restituì comunque l'occhiata di joe con un'ombra di stupore anche lui sembrava perplesso accanto alla finestra gg ashwood infilato nei soliti eleganti pantaloni di scorza di betulla la cintura in corda di canapa una maglietta trasparente e un alto cappello da ferroviere in testa alzò le spalle con aria indifferente lui ovviamente non notava nulla di strano niente è diverso disse pat tutto è diverso le disse joe devi essere andata indietro nel tempo e ci hai messo su un altro corso non posso provarlo e non posso specificare la natura delle modifiche non voglio liti familiari nelle ore d'ufficio disse ranziter minacciosamente colto di sorpresa joe mormorò liti familiari vedi allora l'anello al dito di pat argento lavorato e giada ricordò di averla aiutata nella scelta due giorni prima di sposarci pensò è stato più di un anno fa nonostante le mie condizioni finanziarie che naturalmente ora sono cambiate pat con il suo stipendio e la sua propensione a curarsi degli affari ha sistemato ogni cosa per sempre comunque proseguendo disse ranziter dobbiamo chiederci come mai stanton mick ha preferito rivolgersi a un'altra organizzazione di prudenza per il suo progetto secondo la logica noi avremmo dovuto essere i prescelti siamo i migliori nel campo e la nostra sede è a new york proprio dove mick solitamente preferisce agire lei ha qualche idea in proposito signora chip pat disse vuole davvero saperlo signor ranziter sì a noi con forza vorrei proprio saperlo sono stata io come con il mio talento ranziter cade dalle nuvole quale talento lei non ha nessun talento è soltanto la moglie di joe chip dalla finestra gigi ashwood disse lei è venuta qui per accompagnare a pranzo joe e me lei ha un talento disse joe tentò di ricordare ma si era già fatto tutto nebuloso i ricordi sbiadivano e perdevano consistenza mentre lui cercava di farli risorgere un diverso corso temporale pensò il passato più in là non poteva arrivare in quel punto la memoria terminava mia moglie pensò è unica può fare qualcosa che nessun altro sulla terra può fare ma in questo caso perché non lavora anche lei per la ranziter associates e c'è qualcosa che non quadra l'hai controllata gli chiese ranziter voglio dire è questo il tuo lavoro no si direbbe che tu l'abbia già fatto visto che sei così sicuro di te non sono affatto sicuro di me disse joe sono sicuro per ciò che riguarda mia moglie disse a se stesso vado a prendere i miei apparecchi disse così vedremo che genere di campo è capace di creare no andiamo giù fece con tono irato ranziter se tua moglie avesse un talento o un antitalento lo avresti già misurato almeno un anno fa non sarebbe possibile che tu lo scoprissi soltanto ora schiacciò un pulsante sul suo interfono ufficio personale abbiamo una scheda sulla signora chip patricia chip dopo una pausa l'interfono disse nessuna scheda sulla signora chip forse sotto il suo nome da ragazza con lei disse joe patricia con lei un'altra pausa sulla signorina patricia con lei possediamo due registrazioni un primo rapporto esplorativo del signor ashwood e i risultati dei test condotti dal signor chip dalla fessura dell'interfono sgusciarono fuori lentamente le riproduzioni dei due documenti che caddero sullo ripiano della scrivania esaminando i risultati di joe chip ranziter disse a cigliato joe è meglio che tu ci dia un'occhiata vieni qui punto un dito sulla pagina e joe affiancatosi a lui poteva vedere le due croci sottolineate si guardarono per un istante negli occhi poi fissarono pat so cosa dice quel foglio disse con voce piatta pat possiede un potere incredibile campo antipsi unico per portata si concentrò cercando visibilmente di ricordare le parole esatte può probabilmente noi avevamo ottenuto il contratto di mic disse ranziter a joe chip avevo radunato in quest'ufficio un gruppo di 11 inerziali e poi ho suggerito che lei joe continuò che lei mostrasse ciò che sapeva fare e lei lo ha fatto il mio giudizio era esatto con la punta di un dito tracciò i simboli di pericolo in cima al foglio mia moglie disse non sono tua moglie disse pat ho cambiato anche questo vuoi che riporti le cose come erano prima senza mutamenti neppure nei particolari questo non proverebbe molto ai vostri inerziali d'altro canto loro sono comunque all'oscuro di tutto a meno che qualcuno non abbia conservato un rudimentale ricordo come joe a questo punto però dovrebbe essere scomparso anche quello ranziter disse pungente gradirei indietro il contratto di mic almeno quello se non le dispiace quando scopro qualcosa disse gg ashwood è davvero qualcosa era diventato grigio già i talenti li sai proprio trovare disse ranziter l'interfono ronzò e la voce anziana e tremolante della signora freak gracchiò un gruppo di nostri inerziali attende di vederla signor ranziter dicono che li ha mandati tutti a chiamare per un nuovo lavoro a tempo per riceverli le mandi dentro disse ranziter pat mormorò terrò questo anello esibì la fede noziale in argento e giada che in un'altra pista temporale lei e giù avevano scelto aveva deciso di conservare solo quello di tutto il mondo alternativo chip si chiese comunque quale stato civile avesse deciso di mantenere ma non disse nulla molto saggiamente meglio non chiederlo nemmeno la porta si aprì e gli inerziali entrarono a coppie rimasero incerti per un momento poi sedettero sulle sedie che fronteggiavano la scrivania di ranziter ranziter li scrutò poi frugò fra i documenti sparsi dinanzi a lui stava chiaramente cercando di scoprire se pat avesse mutato in qualche modo la composizione del gruppo mady dorn disse ranziter si ci sei osservò l'uomo accanto alla donna hammond ok hammond tippy jackson la fissò con uno sguardo inquisitorio ho fatto più in fretta che potevo disse la signora jackson non mi ha lasciato molto tempo signor ranziter john hild disse ranziter l'adolescente dai capelli lanosi grugnino risposta la sua arroganza noto giù sembrava diminuita il ragazzo pareva ora più introverso e leggermente scosso sarebbe stato interessante penso giù scoprire cosa ricordava cosa ricordavano tutti individualmente e collettivamente francesca spanish disse ranziter la donna scura e zingaresca che io radiava una stridente rigidità esclamò negli ultimi minuti signor ranziter mentre attendevamo nell'anticamera sono risuonate voci misteriose che mi hanno riferito delle cose lei è francesca spanish lei domandò pazientemente ranziter sembrava più stanco e abbattuto del solito lo sono lo sono sempre stata lo sarò sempre la voce della signorina spanish suonò convinta posso dirle cosa mi hanno rivelato le voci meglio più tardi fece ranziter passando alla scheda successiva deve essere detto ora dichiarò in tono vibrante la signorina spanish va bene concesse ranziter faremo una sosta di un paio di minuti aprì un cassetto della scrivania ne tolse una delle sue compresse di anfetamina e la prese senza acqua sentiamo pure quello che le hanno rivelato le voci signorina spanish lanciò un'occhiata a joe con un'alzata di spalle qualcuno disse la signorina spanish ci ha trasportati tutti poco fa in un altro mondo vi abbiamo vissuto lo abbiamo abitato come cittadini di quel mondo finché una grande forza spirituale onnicomprensiva non ci ha riportati qui al nostro universo di origine è stata solo pat pat con li disse joe è stata assunta oggi dalla ditta tito apostos fece ranziter e qui solevo alla testa esaminando le persone sedute un uomo calvo munito di una barbetta caprina indicò se stesso portava un antiquato paio di calzoni di lame dorato stretti ai fianchi eppure riusciva ad apparire elegante forse il merito ricadiva anche sui bottoni della sua camicia verde algha grossi come uova trasudava ad ogni modo una grande dignità una nobiltà superiore alla media joe ne fu impersonato don danny disse ranziter eccomi signore dichiarò una voce baritonale simile a quella di un gatto siemese veniva da un individuo magro con la faccia seria che sedeva eretto sulla sedia le mani sulle ginocchia indossava un costume tirolese in poliestere copri calzoni di cuoio stile cowboy decorati con finte stelle d'argento e teneva i lunghi capelli avvolti in una reticella ai piedi un paio di sandali lei è un anti animatore disse ranziter leggendo la scheda l'unico che usiamo e voltandosi a joe mi chiedo se ne avremo bisogno forse dovremmo sostituirlo con un antitelepate di quelli più ce ne sono meglio è joe disse dobbiamo essere preparati a tutto non sappiamo a cosa stiamo andando incontro è vero a noi il ranziter ok sammy mondo un giovanotto dal naso sottile abbigliato con una maxigonna e dalla testa davvero piccola non più grande di un melone sollevò la mano con uno scatto spasmodico e titubante quasi un tic come se il suo corpo anemico avesse risposto da sé pensò joe conosceva quel tipo mondo sembrava molto più giovane di quanto non fosse in realtà per lui il processo di crescita sia fisico che mentale era cessato molto tempo prima scientificamente mondo aveva l'intelligenza di un procione elevatore sapeva camminare mangiare lavarsi e perfino a modo suo parlare comunque la sua abilità antitelepatica era considerevole una volta aveva annullato da solo es dol melipon il giornale interno della ditta ne aveva parlato per mesi nasi fece ranziter eccoci a wendy wright come sempre quando ne aveva l'opportunità joe diede una lunga occhiata di soppiatto alla ragazza che se avesse potuto si sarebbe scelto come amante o ancora meglio come moglie non sembrava possibile che wendy wright fosse stata generata da sangue e organi interni come gli altri esseri umani vicino a lei si sentiva un volgare sudato untuoso e maleducato cialtrone con lo stomaco rattrappito e il respiro ansimante vicino a lei si rendeva conto dei meccanismi fisici che lo tenevano in vita al suo interno i macchinari le valvole e i condotti i compressori e le cinghie delle ventole continuavano a scoppiettare intenti a un compito senza speranza a un lavoro condannato vedendo il viso di lei si accorgeva che il proprio era una maschera di cattivo gusto vedere il suo corpo lo faceva sentire un giocattolo a molla da poco prezzo tutti i suoi colori possedevano una qualità sottile illuminata indirettamente gli occhi quelle gemme verdi incastonate fissavano tutto impassibili lui non vi aveva mai visto paura avversione o disprezzo ciò che lei vedeva lei accettava in genere sembrava calma ma più di quello lo stupeva il fatto di vederla sempre fredda e tranquilla non soggetta a stanchezza fatica malattie fisiche o declino probabilmente aveva 25 26 anni ma lui non riusciva a immaginarla più giovane e certo non sarebbe mai apparsa più vecchia il suo controllo su se stessa e sulla realtà esterna era troppo forte per permetterlo sono qui disse wendy con pacata tranquillità ranziter annui bene resta solo fred safki fisso lo sguardo su un tizio flaccido di mezza età con i piedi enormi i capelli impomatati e la pelle fangosa senza contare il pomo da damo particolarmente sporgente che per l'occasione sfoggiava un abito dal lavoro color culo di babbuino deve essere lei disse ranziter esatto convenne l'uomo e il ridacchio che gliene pare corresto mormorò ranziter scuotendo la testa beh dobbiamo includere un antiparacinetico per andare sul sicuro ne abbiamo scelto lei depose i documenti sulla scrivania e cercò il suo sigaro si rivolse a giù questo è il gruppo senza contare tu e io vuoi fare qualche cambiamento all'ultimo minuto sono soddisfatto disse giù credi davvero che questo branco di inerziali sia la migliore combinazione che possiamo ottenere ranziter lo osservò attentamente sì disse giù e ti sembra in gamba al punto da poter affrontare gli upside di hollis sì ripete giù ma la pensava diversamente non era qualcosa che potesse individuare con sicurezza di certo non era nulla di razionale potenzialmente l'intensità del campo annullatore di quegli undici inerziali doveva essere considerata enorme eppure signor chip posso rubarle un minuto il signor apostos calvo e barbuto scintillante nei calzoni di lame dorato si attaccò al braccio di giù chip posso parlarle di un'esperienza che mi è capitata la scorsa notte mentre mi trovavo in stato ipnotico mi pare di essere entrato in contatto con uno o forse due uomini di hollis un telepate che operava certamente con un precog pensa che dovrei parlarne al signor ranziter è importante esitante giù lanciò un'occhiata a ranziter seduto sulla sua rispettabile e adorata poltrona indaffarato per riaccendere il suo avana ranziter appariva tremendamente stanco le pieghe del suo viso si erano approfondite no disse giù lasci stare signore signori disse ranziter levando la sua voce al di sopra del chiacchiericcio generale fra poco partiremo per la luna voi 11 inerziali giocipa io e la rappresentante del nostro cliente zo weird in tutto 14 persone useremo la nostra astronave tiro fuori l'anacronistico orologio da traschino d'oro e lo consultò le 3 e 30 la debacle seconda partirà dal tetto principale alle 4 richiuse l'orologio e lo rimise nel taschino del panciotto di seta bene giù ormai ci siamo dentro per il buono e il cattivo tempo vorrei che ci fosse qui un precog per dare un'occhiatina al futuro sia il suo volto che il tono della voce risentivano dell'inquietudine e delle preoccupazioni irreversibile fardello delle responsabilità e dell'età volevamo darvi una rasatura che nessun altro aveva mai avuto ci siamo detti e ora che il viso dell'uomo ottenga un po d'affetto ci siamo detti con una lama infinita auto avvolgente ubic al cromo svizzero a moto perpetuo i giorni delle barbe malfatte sono finiti quindi provate ubic e lasciatevi amare attenzione da usare solo secondo le istruzioni e con cautela benvenuti sulla luna disse di buon umore zowirt gli occhi allegri ingranditi da un paio di occhiali triangolari con lenti rosse e per mio tramite il signor haward saluta tutti voi e in modo speciale signor ranziter ringraziandolo per aver posto la sua organizzazione al nostro servizio quest'ala sotterranea di abitazioni decorate dalla signorina lada la sorella del signor haward molto dotata artisticamente dista circa 300 metri in linea d'aria dalle installazioni industriali e di ricerca che il mio principale teme siano state infiltrate la vostra presenza in questa stanza quindi dovrebbe già essere in grado di inibire le capacità psioniche degli agenti di hollis pensiero che ci rallegra parecchio fece una pausa osservando tutti domande trafficando con i suoi apparecchi joachip l'ignorò nonostante il contratto del loro cliente lui era ben deciso a misurare il campo psionico circostante durante il viaggio di un'ora dalla terra lui e glen ranziter si erano trovati d'accordo su quel punto vorrei sapere una cosa chiese fred zavsky alzando la mano ridacchiò dove è il bagno ognuno di voi riceverà una mappa miniaturizzata disse zowirt sulla quale sarà indicato tutto il necessario fece un cenno a un inserviente dall'aria scialba e questi cominciò a consegnare mappe colorate di carta lucida questa ala continuò lei è fornita di una cucina i cui apparecchi sono tutti gratis non a monete ma sono state affrontate enormi spese per la costruzione di quest'unità a grande abbastanza per ospitare 20 persone e dotata di un sistema di condizionamento calore e forniture idriche dispone inoltre di una scorta di cibo estremamente varia di una rete televisiva a circuito chiuso e di un impianto polifonico ad alta fedeltà questi due ultimi servizi tuttavia funzionano a contante per aiutarvi a utilizzare gli impianti ricreativi una macchina cambiamonete è stata installata nella sala giochi la mia mappa disse alhammad mostra soltanto nove camere da letto ogni camera da letto disse la signorina wirt contiene due cucette per questo 18 letti in tutto inoltre cinque delle cucette sono matrimoniali per venire incontro ai desideri di chi volesse dormire con qualcun altro durante la permanenza qui io ho una regola disse io ritato ranziter a proposito dei miei dipendenti che dormono insieme pro contro domandò zoe wirt contro ranziter accartocciò la sua mappa e la lanciò cadere sul pavimento di metallo riscaldato non sono abituato a sentirmi dire ma lei non rimarrà qui signor ranziter fece notare la signorina wirt non deve tornare sulla terra non appena i suoi uomini entreranno in azione esibì il suo sorriso professionale ranziter disse a joe chip non hai ancora nessun risultato sul campo psi prima devo ottenere una lettura sul campo anti psi che i nostri inerziali stanno generando disse joe avresti dovuto farlo durante il viaggio disse ranziter state tentando di fare delle misurazioni intervenne la signorina wirt prontamente il signor haward lo ha proibito espressamente come vi ho spiegato lo faremo comunque il signor haward questi non sono affari che riguardano stanton mic le disse ranziter alla sua scialba assistente la signorina wirt disse chiede al signor mic di scendere un attimo per favore l'assistente parti verso gli ascensori il signor mic ve lo dirà di persona disse a ranziter nel frattempo vi prego cortesemente di non fare nulla e aspettare il suo arrivo ho una lettura sul nostro campo disse chip a ranziter è molto alto probabilmente a causa di pat decise molto più alto di quanto mi aspettassi mormorò si chiese perché mai fossero così ansiosi di proibirgli ogni rilevamento non era più questione di perdere tempo ormai i loro inerziali erano già lì e stavano funzionando ci sono degli armadi dove possiamo mettere le nostre cose chiese tipi jackson vorrei disfare la valigia ogni camera da letto possiede un grande armadio funzionante a monete disse la signorina wirt e per venirvi incontro esibì una larga borsa di plastica ecco una provvista di monete gratuita tese i rotoli con le monete di diverso valore a john hild vuole distribuirle in parti uguali un gesto di buona volontà da parte del signor mic ed i door chiese c'è un medico un'infermeria in questo insediamento a volte quando lavoro intensamente si sviluppa sulla mia pelle un esantema di origine psicosomatica un unguento a base di cortisone di solito mi aiuta ma nella fretta ho dimenticato di portarlo con me le installazioni industriali e di ricerca attigui a queste abitazioni disse la signorina wirt dispongono di parecchi medici e inoltre possiedono una piccola infermeria con posti letto per i malati non avete anche loro domandò semi mondo tutte le nostre cure mediche sono gratuite rispose la signorina wirt ma è necessario dimostrare di essere veramente malati e aggiunse tutte le macchine distributrici di medicinali comunque sono a moneta a questo proposito posso dirvi che troverete nella sala giochi un distributore di tranquillizzanti e se lo volete possiamo trasferire qui anche un distributore di stimolanti dai laboratori vicini e per gli allucinogeni domandò francesca spanish quando lavoro funziona meglio ingerendo una droga psichedelica a base di segale cornuta mi aiuta a capire chi sia il mio avversario e questo mi torna molto utile la signorina wirt disse il nostro principale disapprova gli allucinogeni a base di segale cornuta trova che siano dannosi per il fegato se ne avete con voi potete usarli ma noi non ve li forniremo anche se mi pare di capire che ne abbiamo da quando hai bisogno di droghe psichedeliche per avere delle allucinazioni chiese don danni a francesca tutta quanta la tua vita non è altro che un'allucinazione a occhi aperti imperturbabile francesca disse due noti fa ho ricevuto una visita particolarmente impressionante non ne sono sorpreso disse danni un gruppo di precog di telepatici è sceso con una scala tessuta con la migliore canapa autentica fino al balcone fuori della mia finestra si sono aperti un passaggio dissolvendo un pezzo di parete poi si sono radunati intorno al mio letto svegliandomi con il loro chiacchiericcio hanno citato dei versi della prosa languida presi da vecchi libri che mi hanno deliziato sembravano così brancolò in cerca di una parola brillanti uno di loro che si chiamava bill aspetta un momento intervenne tito apostos anche io ho avuto un sogno simile si girò verso giù ricorda signor chip io l'ho detto prima di lasciare la terra le sue mani si mostrano eccitate e non è vero anch'io li ho sognati disse tippy jackson bill e matt dicevano che erano sul punto di prendermi con il viso di colpo oscurato ranciter disse giù ne avresti dovuto dirmelo ma in quel momento fece giù tu si interruppe sembravi stanco avevi altre cose per la testa francesca disse seccamente non era un sogno era una visitazione autentica io riesco a distinguere la differenza ma certo francesca disse don danny e strizzò l'occhio a giù anch'io l'ho sognato disse john hild ma vedevo soltanto auto a cuscino d'aria imparavo a memoria i numeri delle loro targhe ne ho memorizzati 65 e li ricordo ancora volete sentirli ci dispiace glenn disse joe chip credevo che fosse capitato solo a tito non sapevo degli altri io il rumore delle porte scorrevoli di un ascensore lo interruppe come gli altri si voltò a guardare panciuto tozzo con le gambe grosse stanton mick avanzò verso di loro indossava calzoni da donna a mezza gamba color fucsia pantofole in pelo di jack rosa una camicia senza maniche in pelle di serpente e un nastro nei capelli tinti di bianco che arrivavano fino alla cintola il suo naso penso joe sembrava la peretta di gomma di una tromba data sì di nuova daily morbida e spremibile né vistoso il naso più vistoso pensò che abbia mai visto salve a tutti carissimi antipsai disse stanton mick allargando le braccia in segno di esagerato benvenuto gli sterminatori sono arrivati voglio dire voi la sua voce possedeva uno stridulo e penetrante tono d'accastrato un rumore fastidioso che ci si potrebbe aspettare da un alveare di api metalliche pensò joe chip il flagello sotto forma di varia canaglia psionica è disceso sull'indifeso amichevole pacifico mondo di stanton mick che giorno fu quello per noi tutti qui a mickville come chiamiamo la nostra ridente installazione lunare naturalmente voi avete già iniziato il vostro lavoro come sapevo avreste fatto subito e questo perché siete i migliori nel vostro campo come tutti capiscono non appena si menziona la runsiter associates sono già molto soddisfatto della vostra attività con la sola eccezione di quell'uomo che vedo ancora occupato sui suoi apparecchi di controllo proprio lei vuole essere così gentile da guardarmi mentre parlo giù spense i suoi strumenti e staccò il cavo di alimentazione ora ho la sua attenzione chiese stanton mick sì rispose joe lascia accesi gli strumenti gli ordinò runsiter tu non lavori per il signor mick ma per me non importa gli disse joe ho già ottenuto i risultati sul campo generato intorno a noi ma aveva terminato il suo incarico stanton mick era stato troppo lento quanto è grande il loro campo gli chiese runsiter joe disse non esiste nessun campo i nostri inerziali lo stanno annullando il nostro controcampo è più potente no disse joe è come ho detto non esiste un campo upside di nessun genere a portata dei miei strumenti posso rilevare il nostro campo e sono quindi certo che i miei strumenti funzionano la considero una verifica sicura stiamo producendo 2000 unità blr con fluttuazioni periodiche verso i 2100 probabilmente il valore aumenterà ancora con il passare del tempo posso prevedere che fra 12 ore se i nostri inerziali continueranno a funzionare insieme raggiungerai non capisco lo interruppe runsiter tutti gli inerziali si stavano ora radunando intorno a joe chip don danny raccolse uno dei nastri emessi dal poligrafo esaminò la linea costante poi tese il nastro a tp jackson uno alla volta gli inerziali studiarono il nastro in silenzio poi si voltarono a fissare runsiter rivolgendosi a stanton mick runsiter disse cosa le ha fatto pensare che degli upside si fossero infiltrati nei suoi stabilimenti lunari e per quale motivo non voleva lasciarci condurre i normali controlli sapeva già che avremmo ottenuto questo risultato ovviamente lo sapeva disse joe chip n'era certo un'improvvisa rapida agitazione sconvolse i lineamenti di runsiter fece per parlare a stanton mick poi cambiò idea e si rivolse a joe con un sussurro torniamo sulla terra portiamo subito via di qui i nostri inerziali e a voce alta rivolgendosi gli altri raccogliete la vostra roba torniamo a new york vi voglio tutti a bordo dell'astronave entro i prossimi 15 minuti chiunque non ci sarà verrà lasciato qui joe prendi tutto il tuo ciarpame ti aiuterò io a sistemarlo nella nave se è proprio necessario comunque la voglio fuori di qui e tu pure si girò di nuovo in direzione di stanton mick il viso gonfio di rabbia cominciò a parlare squittendo con la sua voce da insetto mick fluttuò fino al soffitto della stanza le braccia rigidamente tese a formare una croce signor runsiter non lasci che il suo talamo abbia la meglio sulla corteccia celebrale questa faccenda richiede prudenza non precipitazione calmi sui uomini e cerchiamo insieme un modo di comprenderci reciprocamente il suo corpo rotondo e colorato rimbalzò sul soffitto girando lentamente su se stesso in un movimento rotatorio che portò i suoi piedi invece della testa puntati nella direzione di runsiter ne ho sentito parlare disse runsiter è una bomba umanoide ad autodistruzione aiutami a far uscire tutti lo abbiamo appena inserito sull'automatico per questo è volato verso il soffitto la bomba esplose le masse di fumo maleodorante che se ne stavano appiccicate le pareti al soffitto sfasciati si abbassarono oscurando la figura prona che si contorceva ai piedi di joe chip all'orecchio di joe giunse il grido di don danny hanno acceso ranziter signor chip quello è il signor ranziter nella sua eccitazione balbettava e altri disse joe con voce roca cercando di respirare il fumo acre gli opprimeva il petto sollevò il capo rintronato dall'esplosione della bomba e sentì un calore umido scorrergli sul collo dove scoprì che una scheggia gli aveva lacerato la pelle wendy wright indistinguibile nel fumo anche se vicino disse e credo che tutti gli altri siano feriti ma vivi chinandosi accanto a ranziter edy dorn disse non potremmo chiedere un animatore a ray hollis il suo viso era pallido e sbigottito no disse joe chinandosi a sua volta ti sbagli disse a don danny non è morto ma sul pavimento devastato ranziter stava morendo entro due tre minuti don danny avrebbe avuto ragione ascoltate tutti quanti disse con forza joe ora che il signor ranziter è ferito assumo io il comando temporaneamente almeno finché non torneremo sulla terra presumendo almeno disse al hamad che riusciamo a tornarci con un fazzoletto appallottolato si tamponò un profondo taglio sopra l'occhio destro quanti di voi sono armati chiese joe gli inerziali continuarono a vagare per la stanza sconvolta senza rispondere so che contro i regolamenti della società disse joe ma so anche che alcuni di voi di solito non vanno in missioni disarmati dimenticate l'illegalità dimenticate tutto quello che avete imparato sugli inerziali che vanno al lavoro armati dopo una pausa tippy jackson disse la mia pistola è con il bagaglio nell'altra stanza io qui ho la mia fece tito apostos e stringeva già nella destra una antiquata rivoltella a pallottole di piombo se avete altre armi disse joe e le avete lasciate nell'altra stanza con i bagagli andate a prenderle sei inerziali si mostrano verso la porta a wendy wright e a halmond che erano rimasti joe disse dobbiamo congelare ranziter sull'astronave c'è un impianto di ibernazione suggerì al hammond allora lo trasporteremo là disse joe hammond prendilo per i piedi apostos tu vai avanti e spara a qualsiasi uomo di hollis che tenti di fermarci john hild di ritorno con il tubo disse lei pensa che hollis sia qui con il signor mick con lui oppure per conto suo rispose joe forse non abbiamo mai avuto a che fare con stanton mick forse era soltanto hollis fin dall'inizio è sorprendente che la bomba umanoide non ci abbia ammazzati tutti quanti penso poi si chiese dove fosse finita zoe weird evidentemente se n'era andata prima dell'esplosione e non ne vide alcuna traccia chissà qual è stata la sua reazione penso ancora quando ha scoperto di non lavorare per stanton mick e che il suo datore di lavoro il suo vero datore di lavoro ci aveva ingaggiati e portati fin qui per assassinarci probabilmente dovranno uccidere anche lei per sentirsi al sicuro ora non gli serve più in effetti sarebbe solo un testimone di quanto è successo gli altri inerziali tornarono armati e attesero gli ordini di joe considerando la loro situazione gli undici anti psi sembravano abbastanza lucidi e calmi se riusciamo a congelare ranziter al più presto spiegò joe mentre con al hammond trasportava il corpo del loro principale apparentemente moribondo verso gli ascensori potrà ancora dirigere la compagnia nello stesso modo di sua moglie premette con il gomito il pulsante dell'ascensore ci sono pochissime possibilità disse che l'ascensore funzioni ancora quasi certamente hanno tolto la corrente al momento dell'esplosione invece l'ascensore comparve frettolosamente joe e hammond trasportarono nella cabina il corpo di ranziter tre di voi che sono armati verranno con noi ordinò joe gli altri all'inferno esclamò semi mondo non vogliamo rimanere bloccati qui aspettando che l'ascensore ritorni potrebbe non tornare più fece un passo in avanti il viso contratto dal panico joe disse duramente ranziter prima di tutti toccò un pulsante e le porte si avvicinarono richiudendo nella cabina lui al hammond tito apostos wendy wright don danny e glennon ranziter l'unico modo disse ai compagni mentre l'ascensore saliva e in ogni caso se gli uomini di hollis ci stanno aspettando dovranno vederse la prima con noi senza contare che certamente non si aspettano di vederci armati c'è quella legge intervenne don danny guarda se ancora vivo fece joe attito apostos chinandosi apostos esaminò il corpo inerte respira molto lentamente disse quasi subito abbiamo ancora una probabilità già una probabilità disse joe era ancora annebbiato come aveva scoperto di essere sia fisicamente che psicologicamente fin dal momento dell'esplosione si sentiva freddo e intontito gli pareva che i timpani fossero danneggiati non appena saremo a bordo della nostra nave riflette dopo aver congelato ranziter invieremo una richiesta di aiuto da new york a tutti i soci a tutte le organizzazioni di prudenza se non potremo partire saranno loro a venire qui ma nella realtà non avrebbe funzionato perché nel lasso di tempo necessario a quelli della società per raggiungere la luna tutti quelli intrappolati sottoterra rinchiusi nell'ascensore oppure nella nave sarebbero morti così in definitiva non esisteva alcuna probabilità tito apostos disse avrebbe dovuto lasciare entrare qualche altro nell'ascensore potevamo stringerci almeno le altre donne squadro giocano occhi accusatori le mani tremanti per l'agitazione noi saremo più esposti di loro al rischio di un attacco disse joe hollis si aspetterà che i superstiti dell'esplosione facciano uso dell'ascensore come noi stiamo facendo probabilmente per questo lo ha lasciato in funzione sanno che dobbiamo tornare alla nave wendy wright disse questo ce l'hai già detto giù cerco solo di razionalizzare quello che sto facendo disse lui come l'aver lasciato gli altri di sotto e quella ragazza nuova con il suo talento disse a wendy quella mora lugubre con l'atteggiamento sdegnoso pat qualcosa potevi farla andare nel passato prima della ferita di ranziter avrebbe potuto cambiare ogni cosa avevi dimenticato il suo talento sì disse joe serrando i denti lo aveva dimenticato nella sua confusione mentale fumosa e senza scopo torniamo giù fece tito apostos come ha detto lei signor chip gli uomini di alis ci staranno aspettando in superficie come ha detto lei siamo più in pericolo noi siamo in superficie disse don danni l'ascensore si è fermato pallido e rigido si leccò timoroso le labbra mentre le porte si spalancavano automaticamente si trovarono davanti a un marciapiede mobile che si sollevava fino a un largo atrio alla fine del quale oltre i portelli stagni era visibile la base della loro astronave eretta esattamente come l'avevano lasciata non c'era nessuno a sbarrare loro il passo bizzarro pensò joe chip erano così sicuri che la bomba umanoide ci avesse fatto secchi tutti qualcosa non deve avere funzionato a dovere nel loro piano prima l'esplosione stessa poi aver lasciato la corrente adesso questo corridoio deserto io credo che il loro piano sia fallito quando la bomba si è sollevata fino al soffitto disse don danni mentre joe al hammond trasportavano ranziter fino al marciapiede mobile doveva essere del tipo a frammentazione e quasi tutte le schegge hanno colpito la parete sopra le nostre teste non hanno nemmeno pensato che qualcuno di noi potesse scamparla per questo hanno lasciato in funzione l'ascensore beh ringraziamo dio che la bomba si sia sollevata allora disse wendy wright dio mio che freddo la bomba deve aver messo fuori uso il sistema di riscaldamento di questo posto tremava visibilmente il marciapiede li trascinò avanti con una lentezza esasperante joe giudicò che erano passati più di cinque minuti quando il nastro scorrevole li depositò di fronte ai portelli stagni a due stadi quello strisciare in avanti gli sembrò in un certo modo la cosa peggiore fra tutte quelle capitate fino a quel momento come se hollis avesse predisposto appositamente una tale tortura aspettate chiamò una voce alle loro spalle risuonarono dei passi e tito apostos si girò la pistola spianata ma subito l'abbassò sono gli altri disse don denni a joe il quale non poteva girarsi lui e alhamond avevano incominciato a manovrare il corpo di ranziter attraverso il complesso sistema di membrane dei portelli ci sono tutti don denni fece loro un cenno con la pistola venite il tunnel di collegamento in plastica univa ancora la loro nave all'atrio joe udì il caratteristico tonfo sordo sotto i piedi e si chiese ci stanno lasciando scappare oppure pensò stanno solo aspettando che arriviamo all'astronave è come se una forza maligna stesse giocando con noi permettendoci di squittire girare a vuoto come tanti topi decerebrati si diverte i nostri sforzi la deliziano e quando saremo arrivati abbastanza avanti il suo pugno si chiuderà intorno a noi e lascerà cadere i nostri resti strizzati come quelli di ranziter sul pavimento che si muove piano danni chiamò tu entrerai nella nave per primo guarda se ci stanno aspettando e se ci sono chiese danni e allora torni indietro e vieni a dircelo fece joe pungente così potremo arrenderci e farci ammazzare tutti wendy wright disse chiedi a pat come si chiama di usare la sua abilità psi la sua voce era bassa ma insistente ti prego joe tentiamo invece di entrare nella nave disse tito apostos non mi piace quella ragazza non mi fido del suo talento tu non capisci nessuno dei due fece joe osservò il piccolo e ossuto don danni correre per il tunnel armeggiare con il congegno che comandava il portello d'ingresso della nave e infine sparire all'interno non tornerà più indietro disse ansimando il peso di glen ranziter pareva aumentato riusciva a malapena sostenerlo mettiamolo giù disse ad ammond deposero il corpo di ranziter sul pavimento del tunnel per essere un vecchio è parecchio pesante disse joe tirandosi su e rivolta a wendy parlerò con pat ma anche gli altri ora erano arrivati si affollarono tutti agitati all'interno del tunnel di collegamento che fiasco rantolò giù quello che doveva essere la nostra più grande operazione non si può mai sapere stavolta hollis ce l'ha fatta fece segno a pat di avvicinarsi il viso della ragazza era sporco di fumo e la sua camicetta sintetica senza maniche stracciata si intravedeva la banda elastica molto alla moda che le premeva i seni stampati in rilievo su questa notò degli eleganti flow de lì rosa pallido e per chissà quale ragione la sua mente registrò accuratamente la percezione di quel particolare assurdo e insignificante ascolta disse passandole una mano sulla sua spalla e guardandola negli occhi lei gli restitui lo sguardo con espressione calma puoi tornare indietro a un momento precedente l'esplosione della bomba e guarire glen ranziter ormai è troppo tardi disse pat perché perché è troppo tardi è passato troppo tempo avrei dovuto farlo subito e perché non l'hai fatto le chiese con ostilità wendy wright ruotando gli occhi pat la fissò tu ci hai pensato se lo hai fatto non l'hai detto nessuno me lo ha detto non senti nessuna responsabilità allora disse wendy per la morte di ranziter quando il tuo talento avrebbe potuto evitarlo pat rise di ritorno alla nave don danny disse è deserta ok disse giù facendo un cenno a dammond portiamolo sulla nave e mettiamolo in congelamento raccolsero un'altra volta il corpo pesante e difficile da maneggiare lo trascinarono fin dentro l'astronave e gli inerziali li seguirono affollandosi tutto intorno desiderosi di mettersi al sicuro joe jeep avvertì l'emanazione quasi fisica della loro paura e della propria la possibilità di lasciare vivi la luna pareva avere aumentato invece che diminuito la loro disperazione l'ottusa rassegnazione di poco prima era completamente scomparsa dov'è la chiave strillò john hild in un orecchio di joe mentre lui e al hammond arrancavano malfermi verso la camera di congelamento si attaccò al braccio di joe la chiave signor jeep hammond spiegò la chiave di accensione per l'astronave ranziter deve averla addosso prendiamo la prima di congelarlo perché dopo non potremo più toccarlo scavando nelle diverse tasche di ranziter joe trovò un portachiavi di pelle lo passò a john hild ora possiamo congelarlo disse con furia selvaggia avanti hammond per dio aiutami a infilarlo dentro ma non ci siamo mossi abbastanza in fretta disse a se stesso è finita abbiamo fallito beh penso stancamente così è la vita i razzi d'avvio si accesero con un ruggito la nave rabbrividì mentre al quadro di controllo quattro inerziali collaboravano faticosamente al compito di programmare i ricettori di comando computerizzati perché ci hanno lasciati andare si chiese joe sorreggendo con l'aiuto di hammond il corpo senza vita o apparentemente senza vita di ranziter perpendicolarmente nella camera di congelamento morse automatiche si chiusero intorno alle spalle e alle cosce di ranziter sostenendo il peso del corpo mentre il gelo all'interno della camera scintillava della propria vita simulata brillava e splendeva abbaiando joe chip e al hammond non capisco disse joe hanno fatto un casino disse hammond non avevano nessun altro piano di rincalzo oltre alla bomba come i congiurati che cercarono di uccidere hitler quando videro l'esplosione all'interno del bunker hanno tutti pensato prima che il freddo ci da noi usciamo di qui disse joe spinse hammond davanti a sé una volta fuori insieme girarono la ruota di chiusura cristo che sensazione disse allora pensare che una forza come quella preserva la vita in un certo senso francy spanish le sue lunghe trecce bruciacchiate lo fermò mentre si dirigeva verso la sezione anteriore della nave non c'è un circuito di comunicazione con l'interno della camera chiese possiamo consultare il signor ranziter niente consultazioni fece joe scuotendo il capo non ci sono né microfoni né auricolari niente protofasoni niente semivita almeno fino a quando non arriveremo sulla terra e lo trasporteremo in un moratorium ma allora come facciamo a sapere se lo abbiamo congelato in tempo chiese don danny non possiamo disse joe il suo cervello può essersi deteriorato disse semi mundo con un sogginio ridacchiò è vero disse joe forse non sentiremo mai più la voce o i pensieri di glenn ranziter forse dovremo dirigere la ranziter associates senza di lui forse dovremo dipendere da ciò che è rimasto di sua moglie ella forse dovremo spostare i nostri uffici al moratorium di letti fratelli di zurigo e operare da là si sedette su una poltroncina del corridoio da dove poteva osservare i quattro inerziali che discutevano sul modo corretto di governare l'astronave come un sonnambulo inghiottito dalla cupa e offuscata sofferenza dello shock tirò fuori una sigaretta piegata e l'accese la sigaretta secca e stantia si sbriciolò quando tentò di stringerla fra le dita strano pensò lo scoppio della bomba disse hammond notandolo il colore ci ha invecchiati chiese wendy da dietro hammond la donna si mosse e andò a sedersi accanto a giù mi sento vecchia sono vecchia il tuo pacchetto di sigarette è vecchio noi tutti siamo vecchi da oggi per ciò che è successo è una giornata unica per tutti noi con spettacolare energia la nave si alzò dalla superficie della luna trascinandosi dietro assurdamente il tunnel di collegamento in plastica mettete di buon umore le superfici imbronciate di casa vostra con il nuovo miracoloso ubic il rivestimento plastico facile da applicare extra lucido che non attacca del tutto innocuo se usato secondo le istruzioni risparmia quelle termos costare vi fa scivolare sul pavimento della cucina come in sogno la mossa migliore che possiamo fare sembra questa disse giù chip atterriremo a zurico raccolse il comunicatore a microonde di cui era munita la costosa e ben fornita astronave di ranziter e compose il prefisso della svizzera sistemandolo nello stesso moratorium di ella potremmo consultarli insieme inoltre possono essere collegati elettronicamente fra di loro per funzionare all'unisono protofasonicamente lo corresse don danny giù proseguì nessuno di voi conosce il nome del direttore del moratorium di letti fratelli herbert qualcosa disse tippy jackson un nome tedesco wendy wright meditabonda mormorò herbert schoenheit von vogelsang lo ricordo perché una volta il signor ranziter mi disse che significava herbert la bellezza del canto degli uccelli mi sarebbe piaciuto chiamarmi così mi ricordo di averci pensato all'epoca puoi sempre sposartelo disse apostos non intenzione di sposare joe chip replicò wendy con voce profonda e venata di infantile serietà oh disse pat conley i suoi occhi neri si accesero davvero puoi cambiare anche questo le chiese wendy con il tuo talento pat disse io vivo con joe sono la sua donna e per nostro accordo pago i suoi conti anche stamattina ho pagato la sua porta di casa per farlo uscire senza di me sarebbe ancora nel suo appartamento e non ci sarebbe stato il nostro viaggio sulla luna disse al hammond scrutopatto con una complessa espressione sul viso forse non oggi fece notare tipi jackson ma prima o poi che differenza fa comunque penso che sia piacevole per joe avere una compagna che gli paga la porta di casa diede joe un colpetto sulla spalla gli occhi scintillanti di quella che a joe parve una lasciva approvazione come un confessore rallegrato dalle attività segrete delle sue pecorelle sotto l'estroverso superficie della signora jackson abitava un guardone datemi l'elenco telefonico generale disse lui avviserò il moratorium del nostro arrivo diede un'occhiata all'orologio da polso altri dieci minuti di volo ecco l'elenco signor chip disse john hild dopo una ricerca di qualche secondo gli tese la pesante scatola quadrata con la rispettiva tastiera e micro analizzatore joe batte sulla tastiera sviz poi zur e infine dilt frat mora e come l'ebraico disse pat dinanzi a lui considerazioni semantiche il micro analizzatore oscillò davanti e indietro esaminando e scartando e alla fine il suo meccanismo sputò una piccola scheda perforata joe la prese e la inserì nella fessura del comunicatore con voce sottile l'apparecchio disse questa è una registrazione sputò con decisione la scheda perforata il numero che avete inserito è fuori uso se vi necessita assistenza inserire una scheda rossa qual è la data di quell'elenco chiese joe a hild il quale stava già riportando la scatola al suo posto hild esaminò l'informazione stampata sul retro della scatola 1990 è vecchio di due anni non può essere disse eddie dorn questa nave non esisteva due anni fa tutto quello che si trova a bordo è nuovo tito postos disse forse ranzi ti era voluto risparmiare sulle cose non indispensabili impossibile fece eddie ha profuso denaro e attenzioni per ogni particolare della debacle seconda chiunque abbia lavorato con lui lo sa questa nave è la sua gioia e il suo vanto era la sua gioia e il suo vanto lo corresse frenzi spanish questo non è ancora detto mormorò joe infilò una scheda rossa nel comunicatore voglio il numero attuale del moratorium di letti fratelli azzurigo svizzera disse e rivolgendosi poi a frenzi questa nave è ancora la sua gioia e il suo vanto perché lui esiste ancora una scheda perforata dal comunicatore uscì da una seconda fessura dell'apparecchio joe la prese e la infilò nella prima stavolta i meccanismi computerizzati del comunicatore risposero senza irritazione sullo schermo prese forma un viso grigiastro quello dell'untuoso intrigante che dirigeva il moratorium di letti fratelli joe lo ricordava con ripugnanza sono a appena lei ha deciso di rivolgersi a me signore posso avere subito il suo nome e indirizzo nel caso che la comunicazione termini troppo presto il proprietario assomigliava quasi a un equilibrista joe disse c'è stato un incidente ciò che noi stimiamo un incidente ti sei fa un voce il sangue è pur sempre marrato tutto un esempio dell'intervento diretto di tio in un certo senso tutta la vita può essere chiamata un incidente eppure non voglio ingaggiare una discussione teologica disse giù non ora proprio ora fra tutti i momenti le consolazioni della teologia giungono più rasserenanti il trapassato è forse un parente il nostro datore di lavoro rispose giù glenn ranciter della ranciter associates di new york sua moglie ella è già da voi a terrerimo tra otto o nove minuti può farci attendere da un furgone nel refrigerato il cliente è concelato no disse giù sta pigliando il sole sulla spiaggia di tampa in florida presumo che la sua divertente risposta significa sì ci faccia avere un trasporto allo spazioporto di zurigo disse giù e troncò la comunicazione ma guarda con chi avremo a che fare d'ora in poi riflettì sistemeremo ray hollis disse agli inerziali che si erano raggruppati attorno a lui andremo da lui invece che dal signor vogelsang chiese stupito semi mondo lo sistemeremo stendendolo morto disse giù per averci fatto questo glenn ranciter pensò congelato in piedi dentro una barra trasparente adorna di boccioli di rosa in plastica risvegliato in semivita per un'ora al mese a deteriorarsi sempre più indebolendosi facendosi indistinto cristo pensò selvaggiamente di tutta la gente al mondo un uomo così vitale e così pieno di vita in ogni modo disse wendy ora sarà più vicino a ella e in un certo senso disse giù spero che non l'abbiamo congelato troppo si interruppe non volendo finire la frase non mi piacciono i moratorium disse poi e nemmeno i proprietari dei moratorium non mi piace herbert schoenheit von woichelsang perché mai ranciter preferisce i moratorium svizzeri che differenza c'è con uno di new york è un'invenzione svizzera disse eddie dorn e secondo statistiche imparziali la durata media della semivita nei moratorium svizzeri è almeno di due ore superiore a quella di ogni altro istituto analogo in tutto il mondo gli svizzeri sembrano avere un'abilità speciale le nazioni unite dovrebbero abolire la semivita disse giù come un'interferenza con il naturale processo del ciclo nascita morte beffardo al hammond disse se dio approvasse la semivita ognuno di noi nascerebbe in una barra riempita di ghiaccio secco al quadro di comando don danny disse ora siamo nel raggio della trasmittente a microonde di zurigo sarà lei a fare l'arresto si allontano dal quadro in apparenza alquanto abbattuto non prendertela gli disse eddie dorn ma voler essere brutalmente sinceri considera quanto siamo stati fortunati avremmo potuto essere tutti quanti morti ammazzati dalla bomba o a colpi di laser dopo l'esplosione quando saremo atterrati ti sentirai meglio sulla terra saremo più al sicuro giù disse il fatto di doverci spostare sulla luna avrebbe dovuto metterci in allarme avrebbe dovuto allarmare ranziter pensò a causa di quella scappatoia nella legge che regola l'autorità civile sulla luna ranziter diceva sempre diffidate di ogni incarico che vi chiede di lasciare la terra se fosse vivo lo direbbe ancora non abboccate specialmente quando vogliono farvi andare sulla luna già troppe organizzazioni di prudenza hanno abboccato e se tornerà in vita al moratorium pensò questa sarà la prima cosa che dirà sono sempre stato sospettoso della luna dirà ma non lo è stato abbastanza l'incarico era troppo allettante non ha saputo resistere e così con quella bella trappola lo hanno beccato come lui sapeva che prima o poi sarebbe successo i retrorazzi della nave comandati dalle microonde di zurigo si accesero facendo tremare il vascello giù disse tito apostos dovrai dire a ella ciò che è successo a ranziter ci hai pensato ci ho pensato disse giù da quando abbiamo lasciato la luna la nave rallentando di colpo alla discesa si preparò ad atterrare con i suoi numerosi servomeccanismi omeostatici inoltre aggiunse giù dovrò riferire a quello che è successo alla società ci leveranno la pelle e avranno ragione di dire che siamo stati noi a cascarci come polli semi mondo disse ma la società è nostra amica dopo un fiasco come questo nessuno sarà nostro amico mormorò al hammond un elicottero a batterie solari con la scritta moratorium di letti fratelli attendeva ai margini del campo di zurigo accanto spiccava una persona simile a un coleottero abbigliata con tipici indumenti del vecchio continente una toga di tweed pantofole una sciarpa scarlatta e un berrettino rosso con elica stile anni 50 il proprietario del moratorium si diresse a passettini affrettati verso joe chip che scendeva dalla rampa di scala della nave sul terreno del campo giù vide la mano guantata che gli veniva tesa dal suo aspetto non direi che il fiaccio è stato fonte ticcioia disse von vogelsang mentre le loro mani si stringevano per un istante crede che i miei uomini possano salire a porto della sua splendida nave e iniziare sì rispose joe andate dentro e prendetelo con le mani in tasca percorse una linea serpeggiante verso il caffè del campo sentendosi terribilmente depresso da ora in poi pensò sono tutte procedure standard siamo tornati sulla terra hollis non ci ha beccati siamo stati fortunati l'operazione luna l'intera spaventosa esperienza dei topi in trappola è terminata è una nuova fase a inizio una fase sulla quale noi non abbiamo alcun controllo 5 centesimi prego disse alla porta del caffè rimanendo chiusa dinanzi a lui attese finché una coppia non gli passò accanto uscendo dal locale quasi tagliato in due dalla porta riuscì a entrare e sedette su uno sgabello libero piegato in avanti le mani allacciate sul banco lesse il menù caffè disse poi panna o zucchero chiese l'altoparlante della torretta di comando tutti e due la finestrella si spalancò una tazza di caffè due sottili sacchetti di zucchero e un'ampolla di panna scivolarono in avanti andando a riposare davanti a lui sul banco un post credito internazionale prego disse l'altoparlante joe disse mettetelo in conto a glenn ranciter della ranciter associates di new york inserisca la specifica carta di credito disse l'altoparlante sono cinque anni ormai che non mi lasciano andare in giro con una carta di credito disse joe sto ancora pagando quello che ho addebitato un post credito prego disse l'altoparlante e presi a ticchettare minacciosamente oppure tra dieci secondi avviserò la polizia joe inserì il post credito il ticchettio cessò possiamo fare a meno di persone come lei disse l'altoparlante uno di questi giorni le persone come mesi scuoteranno e vi abbatteranno e sarà la fine della tirannia delle macchine omeostatiche disse joe indignato torneranno i giorni dei valori umani e della compassione della cordialità fraterna e quando ciò succederà qualcuno che come me ha sostenuto durissime prove e necessita veramente di una tazza di caffè caldo per tenersi su e continuare a tirare avanti perché deve farlo otterrà il suo caffè caldo che abbiano un post credito in tasca o meno alzo la brocca in miniatura che conteneva la panna poi la rimise joe ne par di più la tua panna o latte o quel che dovrebbe essere pure acida l'altoparlante rimase silenzioso non farai niente chiese joe avevi un sacco di cose da dire quando volevi un post credito la porta a pagamento del caffè si spalancò e alhammond fece il suo ingresso camminò fino allo sgabbello di giù e si sedette al suo fianco quelli del moratorium hanno trasbordato ranziter sul loro elicottero sono pronti a decollare e vogliono sapere se andrai con loro giù disse guarda questa panna sollevò la brocca il liquido si addensava alle pareti con grumi evidenzi questo è quello che si ottiene per un post credito in una delle città della terra più moderne e tecnologicamente avanzate non uscirò di qui finché quella dannata macchina non verrà a un accomodamento e mi restituisce i soldi oppure mi sostituisce questa panna acida con altra fresca così potrò bere il mio caffè appoggiando una mano sulla spalla di giù alhammond lo osservò cosa ti succede giù prima la sigaretta disse giù poi l'elenco telefonico sull'astronave vecchio di due anni e ora mi hanno servito della panna acida della settimana scorsa non capisco al beve il caffè nero disse al e vieni all'elicottero così possono portare ranziter al moratorium il resto di noi ti aspetterà nella nave fino al tuo ritorno poi faremo rotta per l'ufficio più vicino della società e faremo un rapporto completo giù sollevò la tazza di caffè e scoprì che il caffè era freddo senza sapore vecchio una muffa schiumosa ne copriva la superficie mise giù la tazza disgustato cosa sta succedendo si chiese cosa mi sta succedendo il suo disgusto si tramutò di colpo in un terrore indefinito andiamo giù disse al stringendo con forza la spalla di giù dimentica il caffè non ha nessuna importanza ciò che conta è portare ranziter al sai chi mi aveva dato quel post credito disse giù pat conley io ne ho fatto l'uso che ho sempre riservato al danaro l'ho buttato via per niente per una tazza di caffè dell'anno scorso si alzò dallo sgabello incalzato dalla stretta di hammond perché non viene anche tu al moratorium avrò bisogno di una spalla robusta specialmente quando dovrò parlare ad ella cosa dovremmo fare scaricare tutto su ranziter dire che la decisione di andare sulla luna è stata sua sarebbe la verità o forse dovremmo dirle qualcosa d'altro dirle magari che l'astronave si è fracassata o che è morto per cause naturali ma alla fine ranziter verrà collegato a lei disse al e le dirà la verità per cui devi dirle la verità uscirono dal caffè e si incamminarono verso l'elicottero appartenente al moratorium di letti fratelli forse lascerò che sia ranziter a dirglielo disse giù mentre saliva a bordo perché no è stata sua la decisione di portarci sulla luna che sia lui a dirglielo e inoltre lui è abituato a parlare con lei pronti signori si informò von vogelsang seduto ai comandi dell'elicottero passiamo a triccere i nostri dolenti passi in direzione dell'ultima timora del signor ranziter giù lascia sfuggire un gemito guardò fuori dal finestrino concentrando la sua attenzione sulle costruzioni che costituivano lo spazio porto di zurigo ok decolliamo disse al mentre l'elicottero si staccava dal terreno il proprietario del moratorium premette un pulsante sul pannello di comando per tutto l'abitacolo provenienti da una dozzina di punti diversi si leverano gli accordi sonori della missa solemnis di beethoven e le voci che cantavano agnus dei qui tollis peccata mundi forti e chiare con l'accompagnamento di un'orchestra sinfonica aumentata elettronicamente lo sapevi che toscanini cantava con gli altri cantanti mentre dirigeva un'opera disse giù e che si può sentirlo nella sua incisione della traviata nell'aria sempre libera non lo sapevo disse al stava osservando i levigati e possenti palazzi di zurigo che scivolavano sotto di loro una solenne e dignitosa processione che giù stesso si scoprì intento ad ammirare libera me domine disse giù e cosa vuol dire giù disse significa dio abbi pietà di me non lo sapevi non è una cosa che tutti sanno perché ti è venuto in mente disse al la musica quella maledetta musica e rivolto a von vogelsang giù disse spenga quella musica ranziter non può sentirla io sono l'unico che può ascoltarla e non mi va di starla a sentire ad al chiese tu non vuoi sentirla vero al disse calmati giù stiamo portando il cadavere del nostro principale in un posto chiamato moratorium di letti fratelli disse giù e lui dice calmati tu lo sai ranziter non era costretto a venire con noi sulla luna avrebbe potuto restarsene a new york e invece ora l'uomo più innamorato della vita che io avessi mai conosciuto è stato il consiglio del suo compagno dalla pelle scura è ottimo intervenne il proprietario del moratorium quale consiglio disse giù quello di calmarsi von vogelsang aprì lo scomparto dei guanti sullo cruscotto del veicolo e ne tirò fuori un'allegra scatoletta multicolore che passò giù mastichi una di queste signor chip gomma tranquillante disse giù accettando la scatoletta l'apri pensieroso gomma tranquillante al gusto di pesca adamon disse dici che devo prenderla sarebbe meglio ranziter non avrebbe mai preso un tranquillante in circostanze di questo genere glen ranziter non ha mai ingerito un tranquillante in tutta la sua vita sai cosa sto pensando ora al lui ha dato la sua vita per salvare le nostre indirettamente molto indirettamente disse al eccoci arrivati l'elicottero aveva iniziato la discesa verso un bersaglio dipinto sul tetto di una costruzione sottostante pensi di riuscire a startene calmo chiese giù starò calmo quando sentirò di nuovo alla voce di ranziter quando saprò che in un modo in un altro lui è ancora vivo o semi vivo il proprietario del moratorium disse gaiamente di questo non mi preoccuperei troppo signor chip di solito otteniamo un flusso protofasonico soddisfacente all'inizio è più tardi quando ormai il periodo di vita si è esaurito che la situazione si fa dolorosa ma con una pianificazione intelligente questo momento può essere rimandato per parecchi anni spense il motore dell'elicottero poi toccò una maniglia che fece spalancare il portello benvenuti al moratorium ti letti fratelli disse e fece loro strada sul campo d'atterraggio la mia segretaria privata la signorina pison vi guiderà in una sala di consultazione se vorrete attentare lì contento dei benefici inflossi subliminali per la pace dell'anima offerti dai colori e dai motivi ornamentali che vi secondano mi farò premura di assicurarvi la presenza del signor ranziter non appena i miei tecnici avranno stabilito un contatto con lui voglio essere presente all'intero processo disse giù voglio vedere i suoi tecnici che lo riportano in vita rivolto dal il proprietario del moratorium disse forse amico mio lei può farglielo capire dobbiamo aspettare in quella sala giù disse al giù lo guardò duramente sia tom tutti i moratorium lavorano in questo modo fece al vieni con me nella sala quanto ci vorrà chiese giù al proprietario del moratorium avremo una risposta in un modo o nell'altro nei primi 15 minuti se entro questo periodo non otterremo un segnale misurabile avete intenzione di tentare solo per un quarto d'ora disse giù e ad al disse hanno intenzione di tentare solo per un quarto d'ora di riportare indietro un uomo più grande di tutti noi messi insieme si sentì sul punto di piangere vieni andiamo nella sala disse al muovendosi per primo giù lo seguì in silenzio sigaretta disse al sedendosi su una poltrona in pelle di bufalo sintetica tese il suo pacchetto giù sono vecchie disse giù non aveva bisogno di prenderne una di toccarla per saperlo già hai ragione al mise via il pacchetto come lo sapevi rimase in attesa sei la persona più facile a scoraggiarsi che io conosca disse poi siamo fortunati di essere vivi potremmo esserci tutti noi ora congelati là fuori e il ranciter seduto qui in attesa fra questi colori da scemi diede uno sguardo all'orologio giù disse tutte le sigarette del mondo sono vecchie esaminò anche lui l'orologio ancora dieci minuti si mise a riflettere tentando di ordinare una turba di pensieri sconnessi e disarticolati che fluttuavano dentro di lui come pesci d'argento paure leggere ripugnanze e apprensioni e tutti quei pesci d'argento giravano in tondo a comunicargli la loro paura se ranciter fosse vivo disse e seduto qui in questa sala tutto andrebbe bene so che è così ma non ne conosco il motivo si chiese cosa stessero facendo in quell'istante i tecnici del moratorium ai resti di gleno ranciter ti ricordi i dentisti domandò ad al non li ricordo ma so che cosa erano i denti della gente si rovinavano questo lo so disse al mio padre mi ha raccontato una volta cosa si provava standosene ad aspettare nell'anticamera di un dentista ogni volta che l'infermiera apriva la porta pensavi ci siamo ciò che ho temuto per tutta la vita ed è così che ti senti adesso chiese al cristo sto aspettando che quell'idiota che dirige questa baracca in triquidica è vivo ranciter è vivo oppure non lo è l'una o l'altra cosa sì o no è quasi sempre sì statisticamente come ha detto vogelsang in questo caso sarà no non ho in nessun modo per saperlo joe disse chissà se il re hollis ha una scursale qui a zurigo certo ma prima che riuscirai a portare qui un precogo ci avranno già detto come stanno le cose lo chiamerò per videofono fece joe e subito si alzò in piedi chiedendosi dove avrebbe potuto trovare un apparecchio dammi un quarto di credito al scosse la testa in un certo modo disse joe tu sei un mio dipendente devi fare quello che ti dico o ti licenzio non appena ranciter è morto ho assunto la direzione della ditta ho il comando da subito dopo che è scoppiata la bomba la decisione di portarlo qui è stata mia e così pure quella di noleggiare un precogo per un paio di minuti dammi il quarto tese la mano la ranciter associate diretta da un individuo che non riesce a tenere mezzo credito in tasca disse al ecco qui prese la moneta da una tasca e la lanciò a joe quando preparerai la mia busta paga aggiungilo joe lasciò la sala avventurandosi nel corridoio e strofinandosi confuso la fronte questo è un luogo disumano pensò mezza strada fra il mondo e la morte adesso io sono il capo della ranciter associates senza contare ella che non è viva e che può intervenire soltanto se io vengo qui e la faccio risvegliare conosco le disposizioni del testamento di glen ranciter che ora sono entrate automaticamente in vigore il comando è mio finché ella o ella e glen se lui potrà essere rianimato decideranno il nome di chi dovrà rimpiazzarlo inoltre devono essere d'accordo entrambi i testamenti contengono questo mandato magari penso ancora decideranno che io posso continuare ufficialmente ma non succederà mai riflette poi non per qualcuno che non riesce neppure a far fronte alle proprie responsabilità fiscali ecco un'altra cosa che il precog di hollis dovrebbe conoscere posso chiedergli se sarà nominato direttore permanente sarebbe stato importante saperlo oltre all'arresto e per farlo doveva assumere un precog in ogni modo dove posso trovare un videofano pubblico chiese a un dipendente del moratorium in uniforme l'impiegato gli fornì le indicazioni grazie dopo un'ultima deviazione scoprì infine l'apparecchio a pagamento sollevò il ricevitore ascoltò il segnale della linea e infilò nella fessura la moneta che al gli aveva dato il videofano disse dolente signore ma non posso accettare monete ormai fuori circolazione il quarto di credito fu espulso rumorosamente dal fondo dell'apparecchio e atterrò ai suoi piedi espulso con disgusto cosa vuoi dire disse lui chinandosi goffamente a recuperare la moneta da quando un quarto di credito della confederazione nord americana è fuori circolazione dolente signore disse la macchina ma la moneta da lei inserita non era un quarto di credito della confederazione nord americana bensì un pezzo ormai fuori circolazione emesso dalla zecca di filadelfia degli stati uniti d'america oggi possiede solamente un interesse numismatico giù esaminò la moneta e vide sulla superficie ossidata il profilo sbalzato di george washington e la data la moneta era vecchia di 40 anni ed era come aveva detto la macchina da lungo tempo fuori circolazione a qualche difficoltà signore chiese gentilmente un impiegato del moratorium avvicinandosi ho visto che la macchina ha espulso la sua moneta posso vederla tese la mano e giù gli diede il quarto di dollaro sono disposto a comprargliela per dieci franchi svizzeri andranno benissimo per la macchina magnifico disse giù fatto lo scambio infilò il pezzo da dieci franchi nel videofono e compose il numero internazionale gratuito di hollis talenti hollis disse una educata voce femminile nel suo orecchio e sullo schermo comparve un viso di ragazza modificato da numerosi interventi avanzati di chirurgia estetica oh signor jeep disse la ragazza riconoscendolo il signor hollis ci aveva avvisato di una sua chiamata imminente è tutto il pomeriggio che l'aspettiamo precog penso giù il signor hollis ha lasciato istruzioni perché la sua chiamata gli fosse passata immediatamente vuole occuparsi di persone del suo caso può attendere un attimo in linea mentre gli passo la comunicazione un istante solo signor jeep la prossima voce che lei sentirà sarà quella del signor hollis dio permettendo il viso della ragazza svanì e lui si trovò davanti uno schermo grigio e vuoto un viso cupo e bluastro con gli occhi infossati venne lentamente a galla sullo schermo una misteriosa apparizione fluttuante priva di collo e di corpo gli occhi ricordarono a jeep due gioielli difettosi scintillavano ma la sfaccettatura era venuta male gli occhi diffondevano luce in direzioni irregolari salve signor jeep così è questo il suo aspetto penso giù le fotografie non l'hanno mai afferrato i piani imperfetti le superfici spezzate come se una volta l'intero fragile edificio fosse caduto spezzandosi e fosse poi stato incollato di nuovo insieme ma non proprio come prima la società riceverà un rapporto dettagliato sull'omicidio di glennon ransiter che lei ha organizzato disse joe sanno cavarsela bene sul piano legale lei passerà in tribunale il resto della sua vita attese una reazione da parte del viso ma non ci fu nulla sappiamo che è stato lei disse ancora e sentì l'inutilità di quelle parole la mancanza assoluta di significato in tutto quello che stava facendo per quel che concerne il motivo della sua chiamata disse hollis con una voce strisciante che suscitò nella mente di joe l'immagine di un cumulo di serpenti e la signora anzi tornò tremando giù appesi il ricevitore ripercorse il corridoio dal quale era venuto raggiunse la sala dove al hammond sedeva occupamente immerso nella vivisezione di una ex sigaretta secca come la polvere ci fu un istante di silenzio poi alla sollevò la testa e no disse joe vogelsang è uscito a cercarti disse al si comportava in modo strano ed era evidente quello che deve essere successo sarà molto spiacente di doverlo dire farà un bel giro di frasi per arrivare al punto ma il punto sarà no come avevi detto tu e adesso attese adesso prendiamo hollis disse joe non prenderemo hollis la società si interruppe il proprietario del moratorium era entrato camminando di lato nella sala appariva nervoso e sofferente eppure tentava nel contempo di mantenere un'aura di austera e distaccata fierezza abbiamo fatto tutto ciò che potevamo a temperature così passe il flusso di corrente è praticamente libero di ogni impedimento non esistono resistenze percettibili a 150 gradi sotto zero il segnale avrebbe dovuto rimbalzare negli amplificatori chiaro e forte ma tutto quello che abbiamo ottenuto è stato un ronzio di 60 cicli vi prego di ricordare comunque che non siamo stati noi ad effettuare il primo cancellamento tenetelo presente al disse lo terremo presente non tema si alzò rigidamente in piedi e fronteggiò joe penso che sia tutto parlerò a ella disse joe adesso è meglio che aspetti finché non saprai bene cosa dire parlale domani ora vattene a casa e dormi qualche ora andare a casa disse joe significa andare da pat conley e non mi sento nelle condizioni adatte per affrontare nemmeno lei prendi una camera in albergo qui a zurigo sparisci io tornerò alla nave avvertirò gli altri poi farò rapporto alla società puoi farmi una delega scritta e a von vogelsang disse ci porti una penna e un foglio di carta sai con chi avrei voglia di parlare disse joe mentre il proprietario del moratorium si ecclissava alla ricerca di carte penna con wendy wright lei saprà cosa fare mi interessa davvero la sua opinione e perché mai non lo so la conosco appena notò allora la leggera musica di sottofondo che alleggiava nella sala c'era stata per tutto quel tempo la stessa che aveva già sentito a bordo dell'elicottero dies ire dies illa cantavano le voci cupamente solvet seculum in favilla test david cum sibilla il requiem di verdi pensò con tutta probabilità lo stesso von vogelsang in persona tutte le mattine alle nove quando giungeva al lavoro inseriva quel nastro quando avrai la tua camera ad albergo disse al probabilmente riuscirò a convincere wendy wright a raggiungerti là sarebbe immorale disse joe cosa alla lo squadrò in un momento come questo quando l'intera organizzazione sul punto di colare a picco se non riacquisti in tempo la tua lucidità tutto ciò che riuscirà a rimetterti in sesto non è soltanto desiderabile ma necessario torna al videofono fissa una camera in un albergo e vieni a dirmi il nome dell'albergo poi tutto il nostro denaro è privo di valore disse joe non posso usare il videofono a meno di trovare un altro collezionista di monete che sia disposto a sganciarmi altri dieci franchi svizzeri ancora in circolazione gesù disse al lascia uscire il respiro in un sospiro lamentoso e scossa la testa è forse colpa mia chiese joe sono stato io a trasformare i tuoi soldi in denaro fuoricorso si sentiva irritato in qualche strano modo è colpa tua per davvero disse al ma non so perché forse un giorno riuscirò a capirlo ok torniamo insieme alla debacle seconda potrai parlare direttamente a wendy e portartela in albergo con te quantus tremor est futurus cantavano le voci quando iudex est venturus concta stricte discussurus con cosa pagheremo l'albergo non accetteranno il nostro denaro più di quanto lo abbia fatto il videofono bestemmiando altiro fuori il portafoglio ed esaminò i biglietti di banca che conteneva questi sono vecchi ma ancora in circolazione ispezionò le monete nelle tasche questo invece sono fuori corso lasciò cadere le monete sul tappeto della sala liberandosene come aveva già fatto il videofono con disgusto prendi questi tesi aggiò tutti i biglietti di banca basteranno per la camera la cena e qualche bicchiere domani manderò una nave da new york a riprendervi te li restituirò disse joe come direttore temporaneo della ransiter associates avrò uno stipendio maggiore potrò pagare tutti i miei debiti incluse le tasse arretrate che quei tizi delle imposte sul reddito senza pat conley senza il suo aiuto ora posso fare a meno di lei disse joe aldis chissà per me questo è un nuovo inizio una nuova prospettiva di vita posso dirigere la ditta si disse certo non farò gli stessi errori di ransiter halles nei panni di stanton mick non riuscirà ad attirare me i miei inerziali dove potremo essere colpiti per come la vedo io disse al con voce cupa tu hai la volontà di fallire in ogni cosa nessuna combinazione di circostanze inclusa questa potrà mai cambiarla e invece quella che ho è la volontà di riuscire disse joe glen ransiter lo sapeva ed è per questo che mi ha designato come suo successore nel testamento nel caso che lui morisse e che i tentativi per portarlo alla semivita del moratorium di letti fratelli o di ogni altro moratorium di mia scelta dovessero fallire dentro di sé sentì crescere la propria sicurezza vide chiaramente nel futuro le possibilità che gli si presentavano come se lui stesso avesse poteri precog e nello stesso momento ricordò pat e il suo talento e ciò che poteva fare ai precog a qualsiasi tentativo di prevedere il futuro tuba mirum spargens sonum intonarono le voci per sepulcra regionum coget omnes ante tronum interpretando l'espressione sul suo viso aldis non puoi fare a meno di lei e non puoi certo buttarla fuori dalla ditta non con quello che lei sa fare prenderò una camera al russ hotel di zorigo disse joe come avevi proposto tu tuttavia pensò al ha ragione non funzionerà patto magari qualcosa anche peggiore interverrà e mi distruggerà sono condannato nel senso classico della parola un'immagine si apri un varco nella sua mente inquieta e affaticata un uccello imprigionato da ragnatele un senso di vecchiaia permeava l'immagine e ciò lo spaventò ancora di più questo aspetto sembrava più reale di tutto il resto e profetico penso ma non poteva capirne il come o il perché le monete penso fuori ricircolazione rifiutate dal videofono pezzi da collezionista come quelle custodite nei musei era questo è difficile dirlo non lo sapeva proprio mors stupebit cantarono le voci et natura come resurget creatura judicandi responsura e continuarono a cantare se i problemi economici vi buttano a terra fate una visita alla signora della ubic risparmi e prestiti cancellerà ogni preoccupazione dai vostri debiti supponiamo per esempio che voi chiediate 59 post crediti con un prestito consolidato dunque gli interessi ammonterebbero a la luce del giorno irruppe nell'elegante camera d'albergo scoprendo forme maestose che joe chip se ne accorse sbattendo più volte le palpebre costituivano articoli di arredamento della stanza grandi drappi stampati a mano in una nuova specie di seta sintetica che illustravano l'ascesa dell'uomo dagli organismi unicellulari del periodo cambiano fino al primo volo umano agli inizi del ventesimo secolo un magnifico armadio in pseudomogono quattro sedie pieghevoli colorate e placate in criptocromo e ammirò con occhi annebbiati lo splendore della camera d'albergo e solo allora si rese conto con un tremito di acuto disappunto che wendy non era venuta a bussare alla sua porta oppure lui non l'aveva sentita non aveva dormito troppo sodo così il nuovo impero della sua egemonia era svanito nel momento stesso in cui era iniziato pervaso da un mesto sturdimento postumo del giorno prima si alzò barcollando dal grande letto trovò i vestiti e l'indossò faceva freddo in modo insolito se ne accorse e ci medito sopra poi alzò il ricevitore del videofono e fece il numero del servizio in camera fargliela pagare se appena possibile esclamò il ricevitore nel suo orecchio prima naturalmente si deve stabilire se stanton mick coinvolto personalmente oppure se è stato usato contro di noi un suo semplice homo simulacro e in tale caso occorre scoprire perché mentre in caso contrario come la voce proseguì monotona parlando fra sé e non a giù sembrava inconsapevole di lui come se neppure esistesse da tutti i nostri rapporti precedenti si direbbe che mick agisce di solito in modo abbastanza rispettabile e in accordo con le regole etiche e legali valide in tutto il sistema in considerazione di ciò giù riapese e rimase immobile con la testa che girava tentando di schierirsi la mente la voce di ranziter non esistevano dubbi risollevò il ricevitore e ascoltò di nuovo citati in giudizio d'amico che può permetterselo ed è abituato a cause legali di questa natura il nostro ufficio legale deve essere sicuramente consultato prima di inoltrare un rapporto formale alla società se venisse riso pubblico ci sarebbero gli estremi della diffamazione e ci troveremmo nella situazione di poter essere accusati arrestati che ranziter disse giù e il suo fu quasi un grido incapace di verificare probabilmente per almeno giù riapese non capisco disse fra sé passato nel bagno si spruzzò il viso con acqua gelata si pettinò con un pettine igienico e gratuito offerto dall'albergo poi dopo aver meditato qualche minuto si fece la barba con un rasoio igienico e gratuito dell'albergo del tipo usa e getta si frezionò le guance e il collo con la lozione dopo barba igienica e gratuita dell'albergo svolse dalla sua plastica il bicchiere offerto dall'albergo igienico e gratuito e lo posò per bere forse il moratorium è finalmente riuscito a risuscitarlo si chiese e lo hanno collegato al mio videofono ranziter non appena si fosse ripreso avrebbe certo voluto parlarmi sicuramente prima che con chiunque altro ma se è andata così perché non può sentirmi perché la trasmissione funziona in un unico senso si tratta di un difetto tecnico che riusciranno a riparare ritornando all'apparecchio risole voglio al ricevitore con l'intenzione di chiamare il moratorium di letti fratelli non è la persona ideale per dirigere la ditta considerando le sue confuse difficoltà personali particolarmente per non posso chiamare si rese conto giù riapesi il ricevitore non posso neppure mettermi in contatto con il servizio in camera in un angolo della larga stanza risuonò uno scampanellio e una tintinnante voce metallica esclamò sono il suo omeo meccano giornale signore un servizio gratuito offerto in esclusiva da tutti gli alberghi roots sulla terra e nelle colonie si sintonizzi semplicemente sul genere di notizie che preferisce e in pochi secondi le offrirò un omeo giornale dell'ultimo minuto fresco e aggiornato personalizzato sulla base delle sue esigenze personali senza contare ripeto che ciò non le costerà assolutamente nulla ok disse giù e attraverso la stanza fino alla macchina forse riflette in questo momento la notizia della morte di ranziter è già trapelata i giornalisti controllano gli ingressi nei moratorium quasi ogni ora schiacciò il pulsante contrassegnato info interplan cubitali subito la macchina cominciò a sputare fuori un foglio stampato e lui si affrettò a raccoglierlo mentre ancora usciva nessun accenno a ranziter troppo presto oppure la società era riuscita a soffocare la notizia magari è stato al pensò forse al ha passato un po di soldi al proprietario del moratorium ma al aveva dato a lui tutto il suo credito qualcuno bussò alla porta della camera d'albergo posando lo mio giornale giù si diresse cautamente alla porta pensando probabilmente è pat conley mi ha intrappolato qui dentro l'altra parte potrebbe essere qualcuno venuto da new york per riportarmi a casa in teoria congetturò potrebbe anche essere wendy ma non gli sembrava probabile non ora non così tardi potrebbe essere un assassino mandato da hollis forse ci farà tutti fuori uccidendoci uno alla volta giù apri la porta tremante d'inquietudine torcendosi le mani paffute herbert schoenheit von vogelsang comparve sulla soglia e borbotò non riesco davvero a capire signor chip abbiamo lavorato tutta la notte a turni e non stiamo ancora ottenendo una sola scintilla di vita eppure abbiamo fatto un elettro encefalogramma e il grafico mostra una tepole ma inconfottibile attività cerebrale il suo principale è in semivita ma noi non riusciamo a collegarci abbiamo infilato le sonde in ogni angolo della corticcio mai non so proprio che altro possiamo fare signore c'è un metabolismo nel cervello misurabile chiese giù sì signore ci siamo rivolti a un esperto di un altro moratorium e lui l'ha rilevato con i suoi strumenti ed è pure un indice normale quello che ci si aspetterebbe subito dopo la morte come faceva a sapere dove trovarmi chiese giù abbiamo chiamato il signor hammod a new york poi ho tentato di chiamarla qui in apeco ma il suo apparecchio è stato occupato per tutta la mattina perciò ho trovato necessario venire qui di persona guasto disse giù il videofono neppure io posso chiamare il proprietario del moratorium mi disse anche il signor hammod ha tentato di mettersi in contatto con lei ma senza successo mi ha chiesto di riferirle un messaggio da parte sua a proposito di qualcosa che lei dovrebbe fare a zurico prima di tornare a new york vuole ricordarmi di consultare ella disse giù per informarla della morte definitiva e prematura di suo marito può prestarmi un paio di post crediti fece giù in modo da poter fare colazione il signor hammod mi ha avvertito che lei avrebbe tentato di ottenere del tanaro da me mi ha informato anche di averle fornito il tanaro per pagare il conto della peco e qualche bicchiere come pure ha basato i suoi conti sulla supposizione che io avrei affittato una camera più modesta di questa comunque non ce n'erano altre disponibili e questo al non poteva prevederlo può aggiungere il prestito al conto che presenterà alla fine del mese alla ranzi della società attualmente io sono come al le ha probabilmente detto il direttore protempore della ditta lei sta parlando con un uomo potente che pensa in positivo che ha saputo salire al vertice scalando tutti i gradini della vita potrei quindi come lei immagina facilmente riconsiderare la nostra politica di base sulla scelta del moratorium di cui servirci potremmo per esempio preferirne uno più vicino a new york di cattivo umore phone vocalsang frugò sotto la sua toga di tweed e tirò fuori un portafoglio in finto coccodrillo nel quale affondò le dita viviamo in un mondo duro disse giù accettando il denaro la regola dominante è cane mangia cane il signor hammond mi ha fornito altre informazioni per lei la nave dal suo ufficio di new york arriverà a zurico fra due ore approssimativamente va bene disse giù affinché lei abbia tutto il tempo necessario per conferire con ella hansiter il signor hammond la farà raccogliere dalla nave direttamente al moratorium perciò il signor hammond suggerisce che io la riporti al moratorium con me il mio elicottero è parcheggiato sul tetto della peco al hammond ha detto questo che io dovrei tornare al moratorium con lei esatto a noi von vogelsang un negro alto con le spalle curve sui trent'anni ha i denti anteriori incapsulati in oro ognuno con un disegno ornamentale il primo a sinistra un seme di cuori il secondo un seme di fiori e quella a destra un seme di quadri l'uomo che chiede è venuto con noi all'arcopoto di zurico lo stesso che ha aspettato con lei al moratorium giù disse indossava calzoni alla zuava di filtro verde calze grigie da golf un giubbotto senza collo in pelle di tasso e un paio di scarpe senza lacci in finto cuoio non ho potuto vedere come era vestito ho visto solo la sua faccia nel videoschermo e non le ha dato nessun messaggio in codice per assicurarmi che si trattasse veramente di lui il proprietario del moratorium stizzito disse non capisco il problema signor chip l'uomo che mi ha parlato per videofono da new york è lo stesso uomo che era con lei ieri non posso correre il rischio disse giù di venire con lei e di salire sul suo elicottero forse è stato ray hollis a mandarla ray hollis è l'uomo che ha assassinato il signor ranziter gli occhi ridotti a due bottoni di vetro von vogelsang disse ha già informato di questo la società di protenza lo faremo a tempo debito nel frattempo dobbiamo evitare che hollis faccia fuori anche noi voleva ucciderci tutti quanti sulla luna lei ha bisogno di protezione disse il proprietario del moratorium le suggerisco di andare a viteofono e di chiamare immediatamente la polizia di zio rico le assegneranno un uomo che la protegerà fino alla sua partenza per new york e non appena lei sarà arrivato il mio apparecchio gliel'ho già detto è guasto riceve soltanto la voce di glenn ranziter perciò nessuna chiamata dall'esterno può raggiungermi t'afferro ma quanta che strano il proprietario del moratorium veleggio fino allo capo opposto della camera d'albergo posso ascoltare domandò sollevando il ricevitore con aria interrogativa un post credito disse joe scavando nelle tasche della toga di tweed il proprietario del moratorium estrasse una manciata di monete il suo berretto rosso con elica anni 50 frullò irritato mentre passava giù tre monete le ho addebitato soltanto la somma che qui pretendono per una tazza di caffè disse joe dovrebbe valerla e pensando a quello si accorse che non aveva ancora fatto colazione e che avrebbe dovuto affrontare ella in quelle condizioni poteva sempre prendere un'anfetamina l'albergo probabilmente le forniva gratuitamente come gesto di cortesia tenendo ben stretto il ricevitore contro l'orecchio von vogelsang disse non sento nulla neppure un segnale della centrale ora ci sono alcuni lecce di disturbi ma sembrano a grande distanza molto tepoli tese il ricevitore giù che ascoltò a sua volta anche lui udì soltanto i disturbi lontani sembravano a migliaia di miglia bizzarro curioso quasi quanto la voce stessa di ranziter se davvero era stato quello che aveva udito le restitirò il post credito disse riattaccando il ricevitore non importa disse von vogelsang ma non è riuscito a sentire la sua voce torniamo al mohatorium come ha detto di fare il signor hammond giù disse al hammond è un mio dipendente sono io che prendo le decisioni penso che tornerò a new york prima di parlare a ella è più importante la preparazione del nostro rapporto alla società quando ha parlato con hammond le ha detto se tutti gli inerziali hanno lasciato zurigo con lui tutti all'infuori della ragazza che ha passato la notte qui in alperco con lei meravigliato il proprietario del moratorium passò in rivista l'interno della camera chiaramente domandandosi dove fosse lei il suo viso strano si tinse di preoccupazione non è qui di quale ragazza si trattava chiese giù il suo morale già basso piombò di colpo nelle più nere profondità della sua mente il signor hammond non l'ha detto stava ovviamente per scontato che lei lo sapesse sarebbe stato indiscreto da parte sua di nome della ragazza considerate le circostanze forse lei non è non è venuto nessuno chi poteva essere pat con le oppure wendy si mise a girare per la camera cercando di liberarsi dalla paura spero di cuore pensò che sia stata pat nell'armata muro suggerì von wogelsen cosa si arrestò nel mezzo della stanza forse tu fai per quattro anni dentro queste camere di lusso hanno armati a muro molto grandi giù tocco la maniglia della porta dell'armadio il meccanismo a molla della serratura la spalanco di colpo sul pavimento dell'armadio giaceva una massa raggomitolata e disidratata quasi mommificata frammenti in disfacimento di quelli che sembravano essere stati un tempo abiti avvolgevano quasi tutta la forma come se con l'andar del tempo un tempo incredibilmente lungo si fosse lentamente ritirata all'interno dei suoi indumenti chinandosi giù la voltò pesava soltanto un paio di chili al tocco della sua mano gli arti si disfecero in sottili estensioni ossee con un fruscio di carta secca i capelli sembravano enormemente lunghi ispidi aggorrovigliati formavano una nuvola nera che copreva il viso giù si accovacciò sui calcagni senza muoversi senza volere scoprire di chi si trattava con voce strangolata von Vogelsang rantolò è qualcosa di molto vecchio completamente dissecato come se fosse rimasto lì per secoli c'entrò ad avvertire il direttore non può essere una donna adulta disse giù quelli potevano essere solo i resti di un bambino erano troppo piccoli non può essere pat e nemmeno wendy disse e sollevò la nube di capelli dal viso e come se fosse stato in una fornace mormorò ad altissime temperature e per molto tempo l'esplosione pensò il forte calore della bomba poi fissò in silenzio il piccolo viso accartocciato e annerito dal calore e seppe chi era la riconobbe a fatica wendy wright a un certo punto della notte ragionò giù lei era entrata nella camera e in quel momento qualche processo doveva essersi innescato dentro di lei o intorno a lei se n'era accorta e stresciando era riuscita a nascondersi nell'armadio così lui non l'avrebbe vista nelle sue ultime ore di vita o forse minuti lui sperò che fosse durato solo pochi minuti quel qualcosa l'aveva sopraffatta ma lei non aveva fatto il minimo rumore non lo aveva svegliato oppure pensò ha tentato e non c'è riuscita non ha potuto attirare la mia attenzione forse è stato allora dopo aver tentato e dopo aver fallito nel tentativo di svegliarmi che è stresciata in questo armadio spero soltanto pensò che sia successo in fretta non potete far nulla per lei chiese a von vogelsang al moratorium non così tardi con il deterioramento così completo non può essere rimasta nessuna semivita e la ragazza si disse lui annuendo è meglio che lei lasci subito questo albergo subito per la sua stessa sicurezza olis perché si tratta di olis non è vero farà la stessa cosa anche a lei le mie sigarette disse giù disseccate l'elenco vecchio di due anni a bordo dell'astronave la panna inacidita e il caffè con quella feccia sopra il denaro fuori corso un filo in comune l'età lei l'aveva detto anche sulla luna dopo che eravamo riusciti ad arrivare sulla nave aveva detto mi sento vecchia riflette in silenzio cercando di controllare la paura che cominciava a trasformarsi in terrore ma la voce all'apparecchio pensò la voce di ranziter cosa significava quello non vi intravide nessuno schema nascosto nessun significato la voce di ranziter al videofono non quadrava con nessuna teoria che potesse immaginare radiazioni disse von Vogelsang mi sembra probabile che sia stata esposta a una intensa radioattività forse qualche tempo fa una radioattività da ferro enorme direi giù disse penso che sia morta a causa dell'esplosione quella che uccise ranziter particelle di cobalto si disse polvere radioattiva che si è depositata su di lei e che lei ha inalato ma allora moriremo tutti in questo modo tutti siamo stati contaminati anch'io l'ho nei miei polmoni così pure al e tutti gli altri inerziali in questo caso non c'è nulla che possiamo fare è troppo tardi non avevamo pensato a questa possibilità non c'è venuto in mente che l'esplosione consistesse in una microscopica reazione nucleare non c'è da stupirsi che hollis ci abbia lasciati fuggire pure questa teoria spiegava la morte di wendy e le sigarette ammuffite ma non l'elenco scaduto le monete l'inaccidimento della panna e del caffè non spiegava neppure la voce di ranziter il lamentoso monologo nel videofono della sua camera che era cessato non appena von vogelsang aveva alzato il ricevitore dell'apparecchio quando qualcun altro aveva tentato di ascoltarlo pensò devo tornare a new york si disse tutti noi che eravamo sulla luna tutti quelli che eravamo presenti quando la bomba esplosa dobbiamo risolvere insieme questa faccenda prima che il resto di noi sia costretto a morire uno dopo l'altro della stessa morte di wendy o in qualche modo peggiore se ciò è possibile faccia portare qui da qualcuno dell'albergo un sacco di polietilene disse al proprietario del moratorium ce la metterò dentro e me la porterò a new york ma non è una cosa di competenza della polizia un delitto orribile come questo dovrebbero essere informati giù disse mi faccia avere il sacco va bene dopo tutto è una sua dipendente von vogelsang uscì dalla camera una volta lo era disse giù ora non più sarebbe stata la prima volta per lei si disse ma forse meglio così wendy pensò ti porto con me ti porto a casa ma non come aveva pensato lui agli altri inerziali seduti intorno al massiccio tavolo da conferenza in vero legno di quercia al hammond disse spezzando il silenzio generale giù dovrebbe essere di ritorno da un momento all'altro ormai diede un'occhiata all'orologio da polso per assicurarsene sembrava si fosse fermato nel frattempo disse pat conley suggerirei di guardare l'ultimo notiziario televisivo del pomeriggio per vedere se hollis ha già fatto trapelare la notizia della morte di ranziter sul giornale di oggi non c'era disse edy dorn il notiziario televisivo è molto più recente fece pat tese ad hammond una moneta da 50 centesimi per attivare l'impianto tv montato dietro un sipario all'estremità opposta della sala conferenze un imponente sistema 3d polifonico a colori che era stato l'orgoglio di ranziter vuole che me ne occupi io signor hammond chiese sollecito semimundo va bene disse hall immerso nei suoi pensieri lanciò la moneta a semi e questi l'afferrò al volo trottando poi verso lo schermo nervosamente walter w wales l'avvocato di ranziter cambiò ancora posizione sulla sua sedia armeggiò con le mani aristocratiche solcate da vene sottili sulla serratura della sua valigetta e disse non avreste dovuto lasciare il signor chip solo a zurigo finché non arriva non possiamo fare nulla ed è estremamente importante accelerare tutte le pratiche relative al testamento del signor ranziter lei lo ha già letto disse hall e altrettanto ha fatto giù sappiamo che ha designato ranziter come suo successore alla guida della ditta ma dal punto di vista legale cominciò wales non ci vorrà ancora molto disse brusco hall con la sua penna tracciò linee a caso intorno ai bordi della lista che aveva compilato preoccupato ricamò la lista poi la lesse un'altra volta sigarette stantie elenco telefonico scaduto denaro obsoleto cibo putrefatto pubblicità sui fiammiferi farò passare un'altra volta questa lista intorno al tavolo disse ad alta voce e vediamo se stavolta qualcuno riesce a trovare un collegamento tra questi cinque eventi o comunque vogliate chiamarli queste cinque cose che sono fece un gesto sono sbagliate disse john hild pat conley intervenne è facile vedere la connessione fra le prime quattro cose ma i fiammiferi non quadrano voglio vederli ancora disse hall e allungò verso di lei una mano pat gli consegnò la bustina di fiammiferi e allesse un'altra volta l'annuncio pubblicitario sorprendenti opportunità di guadagno per chiunque ne abbia i requisiti il signor glen ranziter dal moratorium di letti fratelli di zurigo svizzera ha raddoppiato i suoi guadagni nel giro di una settimana dopo aver ricevuto il nostro kit gratuito per calzature contenente informazioni dettagliate su come vendere i nostri mocassini in autentico finto cuoio ad amici parenti colleghi di lavoro il signor ranziter benché ridotto all'immobilità dal congelamento ha guadagnato quattrocento al smise di leggere riflette a lungo picchettandosi nel frattempo i denti inferiori con l'unghia del pollice sì penso questo annuncio è diverso le altre anomalie consistono di obsolescenza e deperimento ma questo no chissà cosa succederebbe se rispondessimo all'annuncio sulla bustina disse ad alta voce c'è il numero di una casella postale di demoine a ewa riceveremo un kit gratuito per calzature disse pat conley con informazioni dettagliate come forse ci metteremmo in contatto con glenn ranziter la interruppe al tutti intorno al tavolo compreso walter w wales lo fissarono proprio così fece allora al tieni pose la bustina a tippy jackson rispondi con posta istantanea e che cosa dico chiese tippy basta che riempi il togliendo disse al e a edy dorn chiese sei assolutamente sicura di aver avuto quella bustina nella borsa fin dalla settimana scorsa non avresti potuto raccoglierla oggi da qualche parte edy dorn rispose mercoledì ho infilato nella borsa diverse bustine di fiammiferi e solo questa mattina venendo qui mi sono accorta di quello che c'era scritto su questa accendendo una sigaretta si trovava certamente nella mia borsa da prima del viaggio sulla luna da diversi giorni prima anzi con quella pubblicità domandò john eard non ho mai fatto caso a quello che dicono le bustine di fiammiferi ho notato per caso questa soltanto oggi non posso dire niente su come era prima c'è qualcuno che può farlo nessuno disse don danny cosa ne pensi al uno scherzo di ranziter lui li ha fatti stampare prima della sua morte oppure è stato hollis una specie di beffa grottesca sapendo che stava per uccidere ranziter sapendo che quando noi avremmo letto l'annuncio ranziter sarebbe stato per davvero congelato a zurigo come dice la bustina tito apostos disse come avrebbe saputo hollis che noi avremmo portato ranziter a zurigo e non a new york perché a zurigo c'è ella disse don danny davanti allo schermo tv semi mondo se ne stava immobile silenzioso esaminando la moneta da 50 centesimi che al gli aveva dato la sua pallida fronte da sotto sviluppato si era corrugata in un piglio perplesso cosa c'è sam disse al sentì la tensione stringergli lo stomaco stava per succedere qualcosa sui 50 centesimi non ci dovrebbe essere la testa di walt disney chiese sammy quella di walt disney rispose al oppure se è delle più vecchie quella di fidel castro fammela vedere un'altra moneta fuori corso mormorò pat conley mentre sammy portava il pezzo da 50 centesimi ad al no disse al ispezionando la moneta è dell'anno scorso in regola con la data è pienamente accettabile andrebbe bene per ogni macchina della terra lo schermo tv dovrebbe accettarla ma allora che cosa c'è che non va chiese timidamente eddy dorn esattamente ciò che se m'ha detto rispose al la testa qui sopra è sbagliata si avvicinò a eddy e depositò la moneta sul suo palmo umido secondo te a chi somiglia dopo una pausa eddy disse non lo so certo che lo sai disse al ok disse seccamente eddy costretta a rispondere contro la sua volontà gli restituì la moneta liberandosene con un tremito di repulsione ranziter disse al a tutti gli altri seduti intorno al grande tavolo dopo un istante di silenzio tippy jackson disse aggiungila alla tua lista la sua voce era appena udibile vedo che ci sono due processi all'opera disse allora pat mentre al si sedeva al suo posto per scrivere il primo è un processo di deterioramento mi sembra ovvio siamo tutti d'accordo alzando la testa alla le disse l'altro non sono del tutto sicura pat esito è qualcosa che ha a che fare con ranziter credo che dovremmo esaminare tutte le nostre monete e anche i biglietti di banca lasciatemi pensare per qualche altro minuto una a una tutte le persone radunate intorno al tavolo tirarono fuori i loro portafogli frugarono nelle borse e nelle tasche ma un biglietto da cinque post crediti disse john hild che porta inciso un bel ritratto del signor ranziter il resto diede una lunga occhiata a ciò che aveva in mano è normale vuole vedere il biglietto signor ammond aldis ne ho un paio anch'io chi altri fece scorrere gli occhi intorno al tavolo sei mani si sollevarono otto di noi disse allora hanno quello che penso dovremmo chiamare danaro ranziter in un certo senso probabilmente per la fine della giornata tutto il denaro sarà denaro ranziter oppure entro un paio di giorni comunque il denaro ranziter funzionerà le macchine lo accetteranno e ci potremo pagare i nostri debiti forse no intervenne don danny perché pensi che debba funzionare questa roba è il denaro ranziter come lo chiami batte sul biglietto che stringeva per quale motivo le banche dovrebbero accettarlo non si tratta di un'emissione autorizzata non è stato il governo a stamparlo e denaro per giocare non è reale va bene disse al in tono conciliante forse non è reale forse le banche lo rifiuteranno ma non è questo il vero problema il vero problema fece pat conley è scoprire il significato di questo secondo processo all'opera il motivo di queste manifestazioni di ranziter si tratta proprio di questo a noi don danny manifestazioni di ranziter è il secondo processo insieme al deterioramento alcune monete invecchiano altre mostrano il volto e il busto di ranziter sapete cosa penso credo che i due processi stiano andando in direzioni opposte uno consiste in un annullamento per modo di dire un uscire dall'esistenza è il primo processo il secondo invece è un venire al mondo ma di qualcosa che non è mai esistito prima realizzazione di desideri disse debolmente edy dorn scuso disse al forse queste erano cose che ranziter desiderava spiegò edy avere il suo ritratto sulla valuta legale su tutto il vostro denaro comprese le monete è grandioso tito apostos disse ma le bustine di fiammiferi è vero convenne edy quello non è molto grandioso la nostra detta ha già fatto pubblicità sulle bustine di fiammiferi disse don danny inoltre alla tv sui giornali e sulle riviste con un pieghevoli postali e il nostro reparto di pubbliche relazioni che se ne occupa di solito ranziter si interessava molto poco di questo genere di affari e certo se ne fregava altamente delle bustine di fiammiferi se si trattasse di una qualche manifestazione della sua psiche il suo viso apparirebbe alla televisione non sul denaro o sui fiammiferi forse è anche in tv disse al è vero disse pat conley non abbiamo ancora provato nessuno di noi ha avuto il tempo di guardare la televisione sammy disse al restituendogli il pezzo da 50 cent voglio d'accendere il televisore non so se me la sentirò di guardare fece edy mentre sammy infilava la moneta nella fessura e si spostava al lato dello schermo manovrando i comandi la porta della sala si aprì joe chip era là e al vide la sua espressione spegni il televisore disse al e si levò in piedi tutti i presenti guardarono in silenzio mentre si avvicinava joe cosa è successo joe chiese al joe non disse nulla cosa c'è ho noleggiato una nave per tornare disse joe con voce roca tu e wendy joe disse scrivimi un assegno per la nave è sul tetto non ho abbastanza denaro volgendosi a walter w wales al disse in grado di disporre di fondi della ditta per qualcosa di simile sì me ne occuperò io raccogliendo la valigetta wales lasciò la sala joe rimase sulla soglia ancora silenzioso da quando al lo aveva visto per l'ultima volta sembrava invecchiato di un centinaio d'anni nel mio ufficio joe volto le spalle al tavolo sbatté le palpebre esitante io io non credo sia bene che tu la veda l'uomo del moratorium era con me quando l'ho trovata ha detto che non poteva fare nulla era passato troppo tempo anni anni disse al raggelato joe disse scendiamo nel mio ufficio guido al fuori dalla sala nell'anticamera fino all'ascensore durante il viaggio di ritorno la nave mi ha imbottito di tranquillanti fanno parte del conto ora mi sento molto meglio in un certo senso non sento più nulla devono essere tranquillanti penso che non appena svanirà il loro effetto lo sentirò di nuovo l'ascensore arrivò scesero insieme entrambi senza dire una sola parola finché non raggiunsero il terzo piano dove giù aveva il suo ufficio non ti consiglio di guardare giù apri l'ufficio e guido al all'interno decidi tu se ce l'ho fatta io forse puoi farcela anche tu accese le luci sul soffitto un attimo dopo al disse signore iddio non aprirlo disse giù non ho nessuna intenzione di farlo stamattina o la scorsa notte deve essere successo presto prima ancora che lei riuscisse a raggiungere la mia stanza noi io il proprietario del moratorium abbiamo scoperto brandelli di abito nel corridoio conducevano alla mia porta ma doveva essere ancora normale o almeno quasi quando ha attraversato l'atrio dell'albergo comunque nessuno sembra avere notato nulla e in un grande albergo come quello ci sono sempre dei sorveglianti e il fatto che lei sia riuscita a raggiungere la mia camera già questo significa che doveva essere ancora in grado di camminare sembra probabile almeno giù disse sto pensando all'arresto di noi a che proposito la stessa cosa che succede a ognuno di noi come potrebbe come è potuto succedere a lei a causa dell'esplosione moriremo così uno dopo l'altro uno per volta finché non resterà più nessuno finché ognuno di noi sarà un mazzetto di ossa in un sacco di plastica con qualche chilo di pelle e capelli e in mezzo qualche osso rinsecchito d'accordo disse al c'è qualche forza all'opera che produce un rapido invecchiamento è iniziata con quell'esplosione sulla luna questo lo sapevamo già sappiamo anche o crediamo di sapere che c'è un'altra forza una contraforza che muove le cose in una direzione opposta qualcosa che riguarda ranziter sul nostro denaro incomincia ad apparire il suo ritratto una bustina di fiammiferi era al mio videofono disse giù in albergo al videofono e come non lo so era là non sullo schermo non c'era la parte video solo la voce cosa diceva nulla di speciale allora lo fissò potevo sentirti chiese infine no ho tentato di intervenire ma la comunicazione era a senso unico ascoltavo senza poter dire nulla allora era per questo che non riuscivamo a metterci in contatto con te già a noi joe eravamo sul punto di guardare la tv quando si è arrivato i giornali non dicono nulla della sua morte che casino non gli piaceva l'aspetto di joe vecchio piccolo e stanco pensò è così che incomincia dobbiamo stabilire un contatto con ranziter si disse ascoltare la sua voce non è sufficiente è evidente che lui sta cercando di comunicare con noi ma se vogliamo uscirne vivi dobbiamo metterci in contatto con lui joe disse tentare con la tv non ci sarà di alcun aiuto sarà di nuovo come il videofono a meno che ranziter non ci dica come fare a parlargli forse lui può dircelo forse lo sa forse capisce cosa è successo dovrebbe piuttosto capire cosa è successo a lui perché questa è una cosa che noi non sappiamo ancora in qualche modo penso al deve ancora essere vivo anche se al moratorium non sono riusciti a risvegliarlo era logico aspettarsi che il proprietario del moratorium avesse fatto del suo meglio con un cliente così importante von vogelsang ha sentito la sua voce al videofano chiese joe ha provato ma c'erano soltanto silenzio poi scariche statiche come da molto lontano anch'io le sentite nulla il suono del nulla assoluto un suono stranissimo non mi piace disse al e non ne sapeva neppure il motivo mi sentire meglio se anche von vogelsang avesse sentito la sua voce in questo modo almeno saremmo stati certi che c'era davvero e che non si trattava di una tua allucinazione oppure pensò di un'allucinazione di tutti noi come nel caso della bustina di fiammiferi ma alcuni di quegli avvenimenti sicuramente non erano allucinazioni le macchine avevano rifiutato le monete fuori corso macchine concrete programmate per reagire esclusivamente a proprietà fisiche della materia lì non erano in gioco elementi psicologici le macchine non potevano ingannarsi voglio lasciare per un po il palazzo disse al pensa a una città o un paese a caso con cui nessuno di noi abbia mai avuto nulla a che fare dove nessuno di noi vada mai o sia mai andato baltimora rispose jo ok andrò a baltimora voglio vedere se un negozio pescato a caso accetterà il danaro di ranziter comprami delle sigarette fresche disse jo ok farò anche questo vedremo se le sigarette di un negozio a caso di baltimora sono state colpite controllerò anche altri prodotti farò una scelta a caso vuoi venire con me o preferisci andare di sopra a raccontargli di wendy jo disse verrò con te forse non dovremmo dirgli in nessun caso quello che è successo penso sia meglio convenne jo senza contare che succederà ancora e magari prima del nostro ritorno può essere che stia succedendo in questo momento allora è meglio sbrigare il più in fretta possibile il nostro viaggio a baltimora disse al uscì dall'ufficio jo lo seguì i miei capelli sono secchi così difficili da pettinare cosa deve mai fare una ragazza semplice spalmare il balsamo per capelli ubic in soli cinque giorni scoprirete un nuovo volume nei vostri capelli una nuova lucentezza e ubic in versione spray se usato secondo le istruzioni è assolutamente innocuo scelsero il supermercato gente fortunata alla periferia di baltimora davanti al banco al disse alla cassa computerizzata mi dia un pacchetto di palmol le wings sono meno care disse jo il ritato al disse non le fanno più le wings ormai sono anni le fanno invece disse jo ma non fanno pubblicità sono sigarette oneste senza false pretese e disse alla cassa cambi le palmol e mi dia le wings il pacchetto di sigarette scivolò sul piano inclinato fino al banco 95 centesimi disse la cassa ecco il biglietto da 10 post crediti al infilò la banconota nella cassa e i circuiti di quest'ultima ronzarono esaminando il biglietto il suo arresto signore disse alla cassa depose innanzi ad al un mucchietto di monete e di banconote prego ora lasci libero il posto ma così il denaro ranziter è in corso si disse al mentre con jo si faceva di lato per lasciare il posto al cliente successivo una vecchia signora ben piantata con un soprabito di tela color mirtillo e una borsa di corda messicana cautamente al aprì il pacchetto di sigarette le sigarette si sbriciolarono fra le dita questo avrebbe provato qualcosa se si fosse trattato di un pacchetto di palmol disse al torno in coda fece per avviarsi e si accorse che la vecchia signora ben piantata stava discutendo violentemente con la cassa automatica quando sono arrivata a casa era morta esclamò la vecchia con voce stridula ecco potete riprendervela depose un vaso sul banco al vide che conteneva una pianta senza vita forse una zalea nel suo stato attuale non si capiva bene che pianta era stata non posso rimborsarle nulla rispose il commesso con le piante che vendiamo non viene fornita alcuna garanzia il compratore si cauteli è il nostro motto la prego ora lasci libero il posto il saturday evening post che ho preso alla vostra edicola automatica è vecchio di un anno disse ancora la vecchia signora cosa diavolo significa è la cena da tv in poltrona con lombrichi marziani che avanti un altro disse la cassa ignorandola alla si allontanò fece a passare tutti gli scaffali finché non arrivò a uno ricolmo di stecche di sigarette di ogni marca e dimensione per un'altezza di due metri e più prendi una stecca disse a giù le domino disse giù hanno lo stesso prezzo delle wings cristo non prendere una sottomarca prendi qualcosa come le wiston o le cool lui stesso tirò fuori una stecca vuoto la scosse si sente dal peso qualcosa però dentro la scatola mandò un rumore qualcosa che doveva essere piccolo e leggero alla strappò un'estremità dell'involucro di cartone e ci guardò dentro un biglietto scarabocchiato in una calligrafia che gli era nota come pure a giù lo tirò fuori e lo lessero insieme essenziale che stabilisca un contatto con voi situazione seria e si farà più seria col passare del tempo esistono diverse spiegazioni possibili che discuterò con voi comunque non arrendetevi mi spiace per wendy wright in quell'occasione abbiamo fatto tutto il possibile gr al disse così è informato di wendy beh forse questo significa che non succederà più una stecca di sigarette a caso disse giù in un negozio a caso in una città scelta a caso e ci troviamo un biglietto di glen ranciter diretto a noi cosa contengono le altre scatole lo stesso biglietto sollevò una stecca di l&m la scosse poi l'aprì dieci pacchetti di sigarette e altri dieci nel secondo strato assolutamente normale oppure no si chiese al tirò fuori uno dei pacchetti sembrano tutti normali disse giù estrasse un'altra stecca dal mucchio ordinato e anche questa è piena disse non l'aprì ne prese invece un'altra e un'altra ancora contenevano tutte pacchetti di sigarette e tutte si sbriciolarono tra le dita di al mi chiedo come abbia fatto a sapere che saremmo venuti qui disse al che avremmo scelto proprio quella stecca non aveva senso eppure ecco le due forze contrarie stavano operando deterioramento contro ranciter si disse al in tutto il mondo forse in tutto l'universo magari il sole uscirà dalla sua orbita congetterò al e glen ranciter metterà un sole di rimpiazzo al suo posto se ne sarà in grado sì penso il problema è questo cosa può fare ranciter o mettiamola nell'altro modo fino a che punto può spingersi il processo di deterioramento proviamo qualcos'altro disse al superò vari scaffali scatole e lattine pacchi giungendo infine al reparto elettrodomestici del negozio qui d'impulso sollevò un costoso registratore magnetico di fabbricazione tedesca questo sembra a posto disse a giù che lo aveva seguito ne raccolse un altro ancora nel suo contenitore compriamo questo e portiamocelo a new york non vuoi aprirlo gli chiese giù per provarlo prima di comprarlo penso di sapere già cosa ci troveremo disse al ed è qualcosa che non possiamo analizzare qui portò con sé il registratore verso la cassa tornati a new york alla ranciter associates affidarono il registratore al loro laboratorio 15 minuti più tardi il caporeparto del laboratorio dopo aver smontato l'intero meccanismo fece il suo rapporto tutte le parti mobili del congegno di trascinamento del nastro sono logorate il cerchio guida di gomma è pieno di buchi pezzi di gomma sono sparsi dappertutto nel meccanismo i dispositivi di frenaggio per l'avvolgimento ad alta velocità sono praticamente andati è necessaria una pulitura e una lubrificatura in ogni parte si vede che è stato usato parecchio direi che indispensabile una completa revisione comprese due cinghie nuove al chiese usato per diversi anni è possibile da quanto tempo c'era l'ho comprato oggi rispose al è questo non è possibile disse il caporeparto oppure le hanno venduto un so cosa mi hanno venduto fece al lo sapevo prima ancora di aprire la scatola di cartone a giù disse un registratore nuovo di zecca completamente consumato dall'uso comprato con denaro contraffatto che il negozio ha accettato volentieri denaro senza valore acquisto senza valore c'è una certa logica in tutto questo oggi e non è la mia giornata disse il caporeparto del laboratorio quando questa mattina mi sono svegliato il mio pappagallo era morto morto di cosa chiese giù non lo so era soltanto morto rigido come un baccalà il caporeparto agitò un dito ossuto in direzione di al le dirò anche qualcosa che lei non sa a proposito del suo registratore non è soltanto logoro per l'uso è vecchio di 40 anni non usano più cerchi guida di gomma e neppure cinghie per la rotazione delle bobine non troverà pezzi di ricambio come quelli a meno che qualcuno non glieli fabbrichi a mano e non ne varrebbe la pena quel dannato attrezzo è antiquato lo butti nella spazzatura ci metta una pietra sopra ha ragione disse al lo sapevo accompagnò giù fuori dal laboratorio e lungo il corridoio ora abbiamo fra le mani qualcosa che non è più deterioramento questa è una faccenda diversa e avremo dei problemi per trovare cibo commestibile da qualsiasi parte e di qualsiasi tipo quanto di tutto il cibo che si vende nei supermercati sarebbe ancora commestibile dopo tanti anni quello in scatola disse giù e io ho visto un sacco di cibo in scatola in quel supermercato a baltimora e ora sappiamo anche il perché disse al 40 anni fa i supermercati vendevano molto più cibo in scatola che il surgelato potrebbe rivelarsi la nostra sola risorsa hai ragione rifletteo un momento ma in un solo giorno siamo saltati da uno scarto di due anni a uno di 40 domani a questa stessa ora potrebbe trattarsi di un secolo e nessun cibo è commestibile cent'anni dopo essere stato impacchettato in barattoli o altro le uova cinesi disse giù uova vecchie di mille anni che si seppellivano nel terreno non si tratta solo di noi continuò alla quella vecchia baltimora il processo ha colpito la pianta che lei aveva comprato la sua azalea il mondo intero dovrà morire di fame a causa di un'esplosione sulla luna si domandò perché il processo coinvolge tutti quanti invece di limitarsi solo a noi giù disse sta arrivando taci un istante disse al devo pensare a una soluzione forse baltimora esiste solo quando uno di noi ci va così il supermercato clienti fortunati non appena noi ce ne siamo andati tutto è scomparso come noi lo ricordiamo forse soltanto noi che abbiamo fatto quel viaggio sulla luna stiamo veramente facendo esperienza di tutto questo ma un problema filosofico di nessun significato o importanza disse giù è impossibile da provare in qualsiasi modo al disse caustico sarebbe importante per quella vecchia con il soprabito color mirtillo e per tutti gli altri c'è il proprietario del laboratorio disse giù ho dato un'occhiata al manuale di istruzioni che era col suo registratore disse l'uomo e tese il libretto ad al con un'espressione complessa sul volto guardi anche lei di colpo riafferrò il libretto le risparmierò la fatica di leggerlo tutto disse guardi qui all'ultima pagina dove dice chi ha costruito quel maledetto affare dove mandarlo per le riparazioni prodotto dalla rancitor di zurigo l'esse alla d'alta voce e una sede per l'assistenza e la manutenzione della confederazione nord americana si trova a des moines la stessa città che era sulla bustina di fiammiferi passo il libretto a gio e disse andiamo a des moines questo manuale è la prima manifestazione che ripropone quella località mi chiedo perché poi a des moines si domandò non ricordi se da vivo rancitor avesse qualche collegamento con des moines chiese a giù giù disse rancitor è nato lì ci aveva trascorso i primi 15 anni della sua vita ogni tanto ne parlava così ora dopo la sua morte è ritornato là in un modo o nell'altro rancitor e a zurigo pensò e anche a des moines a zurigo ha il suo metabolismo cerebrale il suo corpo fisico sospeso in semivita e congelato al moratorium di letti fratelli eppure non può essere raggiunto da noi a des moines non possiede nessuna esistenza fisica eppure evidentemente là può essere stabilito un contatto in effetti con questo libretto di istruzioni un contatto è già stato stabilito almeno in una direzione da lui a noi nel frattempo pensò il nostro mondo va in declino si ripiega su se stesso riportando alla superficie fasi passate della realtà entro la fine della settimana potremmo svegliarci e scoprire antichi tram sferraglianti lungo la quinta strada trolley rogers pensò e si chiese quale fosse il significato di quelle parole un termine verbale abbandonato che rialzava il capo dal passato una confusa distante emanazione che nella sua mente cancellava la realtà attuale perfino quell'indistinta percezione ancora esclusivamente soggettiva lo faceva sentire a disagio era già divenuta troppo reale un'entità che lui non aveva mai conosciuto prima di quel momento trolley dodgers disse ad alta voce almeno un centinaio d'anni prima ossessivamente il termine rimaneva incollato alla sua coscienza non riusciva a dimenticarlo come mai conosce questo nome chiese il caporeparto del laboratorio nessuno ne sa più nulla è l'antico nome dei brooklyn dodgers scrutò sospettosamente al giù disse meglio andare di sopra e assicurarci che stiano tutti bene prima di partire per demoine se non andiamo subito a demoine disse al può saltar fuori che è necessario un viaggio di un intero giorno o magari di due per arrivarci man mano che i mezzi di trasporto invecchiano pensò dalla propulsione razzo al jet dal jet all'aereo con il motore a pestoni poi i mezzi di superficie come la locomotiva a vapore alimentata a carbone il carro tirato da cavalli ma non potevano regredire fino a quel punto si disse eppure ci troviamo già fra le mani in un registratore di 40 anni fa funzionante con cinghie e cerchi guida di gomma forse poteva veramente accadere in compagnia di giù si avvicinò rapidamente all'ascensore giù premette il pulsante di chiamata poi attesero entrambi in silenzio immersi nei loro pensieri l'ascensore arrivò rumorosamente il rumba odesto al dalla sua introspezione automaticamente spalancò la porta di sicurezza a griglia metallica e si trovò dinanzi a una gabbia vuota con intarsi di lucido ottone sospesa a un cavo un manovratore in uniforme con gli occhi spenti sedeva su uno sgabello la mano sulla manovella lanciò loro un'occhiata colma di indifferenza non fu comunque indifferenza quella che alla avvertì lungo la schiena non entrare disse a giù e lo trattenne al suo fianco guarda questa cosa e pensa tenta di ricordare l'ascensore che abbiamo usato poco fa automatico chiuso con sospensioni idrauliche completamente silenzioso smise di parlare perché l'antiquato e sferragliante congegno davanti ai suoi occhi stava sfumando per lasciare il posto alla familiare presenza dell'ascensore che lui conosceva eppure continuò ad avvertire la presenza dell'altro dell'ascensore più antico se ne stava in agguato alla periferia della sua vista quasi pronto a balzare in avanti non appena lui e giù avessero distolto la loro attenzione vuole tornare qui pensò ha intenzione di tornare possiamo ritardare per poco la sua venuta alcune ore al massimo il momento della forza retrograda è in aumento le forme arcaiche stanno avviandosi a prendere il dominio più velocemente di quanto avessimo pensato è ormai questione di centinaia di anni a ogni oscillazione l'ascensore che abbiamo appena visto doveva risalire almeno al secolo scorso tuttavia pensò ancora al sembriamo in grado di esercitare un certo controllo sul processo abbiamo costretto l'ascensore contemporaneo a riprendere la sua esistenza se rimaniamo tutti insieme se funzioniamo come un'entità di non due ma dodici menti cosa hai visto gli stava chiedendo giù perché mi hai detto di non entrare nell'ascensore al disse non hai visto l'ascensore vecchio gabbia aperta ottone all'incirca del 1910 con il manovratore seduto sullo sgabello no disse giù non hai visto niente questo giù fece un gesto il solito ascensore che vedo ogni giorno quando arrivo ho visto ciò che vedo sempre che sto vedendo anche ora entrò nella cabina si voltò e fronte giù al allora le nostre percezioni cominciano a differenziarsi riflette al e si chiese cos'altro volesse dire quel fatto era un brutto auspicio non gli piacque per nulla in un modo alquanto oscuro e minaccioso quello gli sembrava il più terribile mutamento dalla morte di ranziter non stavano più raggedendo alla stessa velocità tutti insieme ed è bella acuta intuitiva ispirazione che wendy wright avesse provato esattamente questo prima della sua morte si domandò quanto tempo gli restasse ormai ora divenne anche cosciente di un insidioso filtrante senso di raffreddamento che in altre occasioni precedenti ormai dimenticate aveva preso a invaderlo esplorando il suo corpo e il mondo che lo circondava gli ricordò i loro ultimi minuti sulla luna il freddo falsava le superfici degli oggetti curvava espandeva si manifestava in protuberanze bulbose che si inghiozzavano distintamente e scoppiavano nelle numerose ferite aperte il gelo si infiltrava scendeva giù fino al cuore delle cose al nucleo che le faceva vivere ciò che ora vedeva gli sembrava un deserto di ghiaccio dal quale spuntavano oscuri macigni il vento vomitava sulla piana che aveva preso il posto della realtà un vento che si congelò in ghiaccio più spesso e i macigni scomparvero assorbiti per la maggior parte e ai limiti del suo campo visivo si presentò l'oscurità lui ne colse solo uno squarcio fugace ma penso questa è soltanto una mia proiezione non è l'universo ad essere sepolto da ondate di vento freddo oscurità e ghiaccio tutto ciò sta succedendo dentro di me eppure mi sembra davvero di vederlo accadere tutto intorno strano penso il mondo intero è dentro di me inghiottito dal mio corpo quando è successo deve essere una manifestazione della morte si disse l'incertezza che sento lo scivolare giù fino all'entropia questo è il processo che mi divora e il ghiaccio che vedo è solo il risultato del suo successo quando sbatterò gli occhi pensò l'intero universo scomparirà ma dove sono le diverse luci che dovrei vedere gli ingressi uterini delle nuove esistenze dov'è in particolare quella luce rossa e fumosa delle coppie immerse nella fornicazione è quella scura luce opaca che significa bramosia animale tutto quello che posso discernere penso è l'oscurità invadente e la totale perdita di calore una pianura che si sta congelando abbandonata dal suo sole questa non può essere la morte normale si disse è innaturale il momento regolare della dissoluzione è stato rimpiazzato da un altro fattore sovrimpresso una pressione arbitraria e forzata forse posso capirlo penso se riesco a stendermi a riposare se posso radunare energie sufficienti per pensare cosa ti succede chiese giù mentre insieme venivano trasportati verso l'alto dall'ascensore nulla disse secco al loro possono farcela penso ma io no continuarono a salire in un silenzio vuoto entrando nella sala conferenze giù si che al non era più con lui voltandosi guardò lungo il corridoio scorse al in fondo immobile cosa c'è chiese ancora al non si mosse ti senti bene chiese giù avvicinandosi a lui sono stanco disse al non mi piace il tuo aspetto disse giù sentendosi profondamente a disagio al disse vado un attimo al gabinetto tu vai dagli altri vedi che stiano tutti bene ti raggiungo subito si mosse lentamente ora sembrava confuso mi rimetterò disse percorse vacillanti il corridoio come se avesse difficoltà a vedere la strada ti accompagno disse giù per essere certo che ci arrivi forse disse al se mi spruzzo un po d'acqua calda sulla faccia trovo la maniglia della porta gratuita del gabinetto maschile e con l'aiuto di giù l'aprì scomparendo all'interno giù rimase nel corridoio c'è qualcosa che non va in lui si disse vedere il vecchio ascensore lo ha cambiato si chiese perché al riapparve cosa c'è disse giù vedendo l'espressione sul suo viso vieni a dare un'occhiata disse al tirò giù dentro del gabinetto e gli indicò la parete di fronte la scritta mormorò quelle cose scarabocchiate sui muri come quelle che si trovano sempre nei gabinetti maschili leggi quella tracciata con un pastello o con una pena inchiostro rosso la scritta diceva saltate nel pisciatoio e mettetevi a testa in giù sono il solo ancora vivo voi siete tutti morti è la scrittura di ranziter chiese al la riconosce sì disse giù annuendo e la sua scrittura così ora conosciamo la verità disse al questa è la verità al disse certo è ovvio che modo assurdo di conoscerla dalla parete di un cesso per uomini e più che altro avvertiva una punta di amaro risentimento le scritte sui muri sono così crude e dirette avremmo potuto guardare la tv e leggere i giornali e ascoltare il videofono per mesi forse per sempre senza scoprirlo senza che nessuno ce lo dicesse chiaramente come in questo caso giù disse ma noi non siamo morti all'infuori di wendy siamo in semivita probabilmente ancora a bordo della debacle seconda staremo tornando dalla luna sulla terra dopo che l'esplosione ci ha uccisi ha ucciso noi non ranziter e lui starà tentando di raccoggere i nostri flussi di protofasoni finora ha fallito non riusciamo ancora a stabilire un contatto dal nostro mondo con il suo ma lui sta cercando di raggiungerci troviamo le sue tracce ovunque anche in luoghi scelti a caso la sua presenza ci sta invadendo da ogni parte esso e solo esso perché è la sola persona che tenta di lui è solo lui lo interrompe giù invece di esso hai detto esso al posto di lui sto male disse al aprì il rubinetto dell'acqua e cominciò a spruzzarsela sul viso non si trattava però di acqua calda vide giù nell'acqua minuscoli frammenti di ghiaccio scivolavano frantumandosi torna nella sala conferenza sussurro al ti raggiungerò non appena mi sentirò meglio sempre che ce la faccia sentirmi meglio credo che dovrei rimanere con te disse giù no per dio vattene fuori di qui con il volto grigio e impietrito dal panico al lo spinse verso la porta del gabinetto e quasi lo proiettò nel corridoio vai avanti assicurati che stiano tutti bene alla si ritirò all'interno del gabinetto portandosi le mani agli occhi chinato in due scomparve alla vista di giù quando la porta si richiuse automaticamente giù esitò va bene disse poi andrò dagli altri attese in ascolto non di nulla al disse cristo penso è terribile gli sta davvero succedendo qualcosa di grave voglio vedere con i miei occhi disse appoggiandosi alla porta se ti senti bene con voce bassa e calma al disse è troppo tardi giù non guardare il gabinetto si era oscurato di colpo evidentemente al aveva spento la luce non puoi fare nulla per aiutarmi disse ancora con voce debole ma ferma non avremmo dovuto separarci dagli altri per questo motivo wendy è morta puoi restare vivo almeno un altro po se trovi gli altri e resti incollato a loro diglielo cerca di farglielo capire mi capisci giù raggiunse l'interruttore un corpo debole privo di peso urtò contro la sua mano nell'oscurità terrorizzato ritirò la mano annichilito dall'impotenza del pugno di hall quello gli disse ogni cosa non aveva più bisogno di vedere andrò con gli altri disse sì ti capisco è così brutto silenzio poi una voce svogliata disse no non fa neppure male solo la voce si affievolì fino a sparire di nuovo soltanto silenzio forse ci vedremo ancora un giorno o l'altro disse giù sapeva che non era la cosa giusta da dire gli metteva orrore sentirsi blaterare simili idiozie ma era il meglio che sapeva fare beh mettiamola in un altro modo disse ancora ma sapeva che al non poteva più sentirlo spero che tu ti senta meglio disse verrò a trovarti ancora dopo aver detto agli altri della scritta sulla parete gli dirò anche di non venire qui dentro a guardare perché cerco di scogitare qualcosa di trovare le parole giuste perché potrebbero disturbarti terminò non ci fu risposta addio allora disse giù e lasciò il buio del gabinetto percorse il corridoio con qualche difficoltà fino all'ingresso della sala conferenze fermandosi un istante tirò un respiro profondo ma irregolare e spalancò la porta lo schermo televisivo sulla parete di fronte abbagliava l'annuncio pubblicitario di un detersivo una grande massaia in 3d a colori stava esaminando con occhi critici un asciugamano in pelle di lontra sintetica con uno strillo penetrante lo dichiarò inadatto a occupare un posto nel suo bagno lo schermo mostrò allora l'interno del suo bagno e andò a pescare le scritte anche su una di quelle pareti gli stessi scarabocchi familiari che stavolta dicevano salite sul cesso e fatevi un tuffo voi siete tutti morti io sono vivo soltanto una persona pensò stava guardando lo schermo nella grande sala conferenze giù era solo in una sala per il resto deserta gli altri l'intero gruppo erano scomparsi giù si domandò dove fossero andati e si sarebbe vissuto abbastanza per ritrovarli non sembrava molto probabile l'odore della vostra traspirazione vi isola dagli altri e il deodorante ubic in versione spray oppure stick con un'azione efficace per 10 giorni porrà fine ai vostri timori e vi riporterà al centro dell'attenzione innocuo se usato secondo le istruzioni in un coscienzioso programma di igiene personale l'annunciatrice della televisione disse e ora torniamo a gmail hunter e alle ultime notizie sullo schermo comparve il volto abbronzato e ben sbarbato del radio cronista glion ranciter ha fatto oggi ritorno alla città che gli dè dei natali ma non si è trattato del ritorno che avrebbe rallegrato i cuori di tutti i suoi concittadini ieri la tragedia ha colpito duramente la ranciter associates probabilmente la più nota di tutte le molte organizzazioni di prudenza sulla terra in un attentato terroristico avvenuto in una non precisata installazione sotterranea sulla luna glion ranciter è rimasto mortalmente ferito ed è deceduto prima che i suoi resti potessero essere trasferiti nell'involucro per il congelamento trasportato nel moratorium di letti fratelli di durigo ogni sforzo è stato tentato per risuscitare ranciter alla semivita ma in vano dinanzi all'amaro riconoscimento della sconfitta questi sforzi sono ora cessati e il corpo di glen ranciter è tornato qui a demoine dove riposerà con decoro al cimitero del semplice pastore lo schermo mostrò un'antiquata costruzione in legno bianco circondata da una moltitudine di persone chissà che ha autorizzato il trasferimento a demoine si chiese joe chip la decisione della moglie di glen ranciter continuò la voce del radiocronista presa a malincuore ma addettata dalle circostanze ha portato a questo finale cui noi ora assistiamo la signora ella ranciter lei stessa ospite del moratorium che si sperava avrebbe visto l'unione di due sposi nella semivita ha preso questa mattina dopo essere stata risvegliata il destino che ha soprafatto il marito e ha preso la decisione di abbandonare gli inutili sforzi per ridestare la semivita nel consorte la sua speranza di essere infine riunita a lui è andata così distrutta dalla crudele realtà dei fatti una foto di ella ripresa in vita apparve brevemente sullo schermo nel corso di una solenne cerimonia gli afflitti dipendenti della ranciter associates si sono riuniti nella cappella del cimitero del semplice pastore preparandosi come meglio potevano secondo le circostanze a rendere l'ultimo tributo lo schermo mostrava ora il campo d'atterraggio sul tetto della cappella mortuaria una nave parcheggiata con il muso dritto al cielo spalancò il suo portello e ne uscirono uomini e donne un microfono teso da alcuni giornalisti li arrestò mi dica signore fece la voce di un giornalista oltre a lavorare per glennon ranciter lei e questi altri dipendenti lo conoscevate anche personalmente non come capo ma come uomo sbattendo gli occhi come un gufo accecato dalla luce don danny disse nel microfono proteso noi tutti conoscevamo glennon ranciter come uomo come ottima persona e degno cittadino nel quale avevamo la massima fiducia so di parlare anche il nome degli altri dicendo questo tutti i dipendenti o meglio ex dipendenti del signor ranciter sono radunati qui oggi i signor danny molti di noi sono qui disse don danny il signor niggleman presidente della società di prudenza ci ha contattati a new york dicendo di avere avuto notizie della morte di glenn ranciter ci ha informati anche che il suo corpo sarebbe stato trasportato qui a den mohan e ci ha chiesto di venire noi abbiamo accettato naturalmente il signor niggleman è stato così gentile da portarci con sé sulla nave questa è la sua nave danny indicò l'apparecchio dal quale lui e gli altri erano usciti gli siamo molto grati di averci informati del trasporto dal moratorium di zurigo al cimitero di questa città tuttavia diversi di noi non sono qui al momento mi riferisco in particolare agli inerziali al hammond e wendy wright e al controllore di campi della ditta il signor chip non sappiamo dove si trovino ora ma forse durante sì interveni il giornalista con il microfono forse assisteranno a questa trasmissione che è diffusa via satellite su tutta la terra e accorreranno qui a den mohan per questa tragica occasione esaudendo così quello che io credo sia certo il desiderio inespresso di glenn ranziter stesso e di sua moglie e ora torniamo a jim hunter nella sede centrale jim hunter riapparendo sullo schermo disse ray hollis i cui dipendenti dotati di talenti psi costituiscono l'oggetto dell'annullamento inerziale quindi il principale obiettivo delle organizzazioni di prudenza ha annunciato oggi in una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio il suo ramarico per la morte accidentale di glenn ranziter e la sua intenzione di assistere ai servizi funebri qui a den mohan può darsi comunque che la lenny gelman rappresentante della società di prudenza come stato ricordato poco fa voglia chiedere l'esclusione di hollis dalla cerimonia motivo di questo rifiuto si dice sia stata la reazione di malcelata soddisfazione di hollis alla notizia della morte di ranziter il radio cronista fece una pausa raccolse un foglio della scrivania e riprese venendo ora le altre notizie joe chip premette con un piede il pedale che controllava l'apparecchio tv lo schermo si oscurò e il sonoro si ammuto lì questo non quadra con i graffiti sulla parete del gabinetto riflette joe forse ranziter è morto dopo tutto quei tizi della tv la pensano così ray hollis ci crede anche lui lo stesso per l'anella ningelman lo considerano tutti morto e i soli elementi che dicono il contrario sono quelle due frasi che chiunque avrebbe potuto scarabocchiare nonostante ciò che ne pensava al lo schermo tv si riaccese con grande sorpresa di joe non aveva premuto il pedale inoltre il canale continuava a cambiare immagini diverse si susseguivano rapidamente finché alla fine il misterioso operatore non parve soddisfatto l'immagine finale rimase il volto di glen ranziter stanchi dei soliti sapore insignificanti disse ranziter con la sua voce roca e familiare il cavolo bollito ha invaso il mondo della vostra alimentazione non sopportate più l'odore scialbo e stantio da lunedì mattina che pervade ogni piatto anche se infilate sempre più soldi nella vostra cucina automatica ubic cambia tutto questo ubic risveglia il sapore del cibo riporta al loro posto i sapori robusti e restituisce al cibo l'aroma migliore sullo schermo una variopinta bomboletta spray prese il posto del viso di ranziter un invisibile spruzzo di economico ubic elimina gli ossessivi timori che il mondo si stia trasformando in latter aggrumato registratori a nastro logorati e antiquati ascensori con gabbia metallica senza contare poi le altre manifestazioni del deterioramento ancora indiscernibili vedete questo tipo regressivo di deterioramento del mondo è un'esperienza normale per molti semivivi specialmente negli stadi iniziali quando i legami con la realtà autentica sono ancora molto forti una specie di universo indugiante viene trattenuto come carica residuale della mente e vissuto come ambiente apparentemente reale ma fortemente instabile a causa del mancato sostegno di qualsiasi struttura ergica ciò vale specialmente quando parecchi sistemi di memoria sono fusi tra di loro come nel vostro caso ma con il nuovo ubic di oggi più potente che mai tutto ciò è cambiato sbalordito giù si sedette gli occhi fissi sul televisore una fatina a cartoni animati cominciò a descrivere ampie spirali attraverso lo schermo spruzzando ubic quella una massaia dallo sguardo duro con grandi denti e un mento da cavallo rimpiazzò il cartone animato con voce sfacciata sbraitò sono arrivata ubic dopo aver sperimentato supporti dalla realtà sorpassati inefficaci la mia batteria da cucina stava diventando un mucchio di ruggine i pavimenti della mia casa si incurvavano per la vecchiaia mio marito charlie è rimasto con il piede destro infilato attraverso la porta della camera da letto ma adesso uso il nuovo ubic economico e con quali miracolosi risultati guardate questo frigorifero sullo schermo apparve un antico frigorifero a torretta della general electrics perdinci è tornato indietro di almeno 80 anni 62 anni la corresse istintivamente giù ma guardatelo ora proseguì la massaia spruzzando il vecchio frigorifero con la sua bomboletta di ubic scintille di magica luce si accesero in una nuvola che circondò la torretta e in un lampo al posto dell'antico g e spunto un moderno frigorifero a sei sportelli tutti a pagamento splendido nella sua gloria si riprese la voce cupa di ranziter utilizzando le più avanzate tecniche della scienza moderna la regressione della materia a forme precedenti può essere invertita e a un prezzo che ogni inquilino può permettersi ubic è in vendita nei negozi di articoli casalinghi di tutta la terra non è per uso interno tenerlo lontano dalla fiamma diretta non deviare dalle istruzioni stampate sull'etichetta quindi comincia a cercarlo giù non startane semplicemente seduto lì esci e compra una bomboletta di ubic e spruzzalo tutto intorno a te giorno e notte alzandosi giù esclamò sai che sono qui questo significa che puoi sentirmi e vedermi certo non posso vederti né sentirti questo annuncio commerciale è su videotape l'ho registrato due settimane fa precisamente 12 giorni prima della mia morte sapevo che ci sarebbe stata l'esplosione avevo usato un precog allora sei morto sul serio certo sono morto non hai guardato la trasmissione da demoine proprio adesso so che lo hai fatto perché il mio precog ha visto anche questo cosa sono quei graffizi sul muro del gabinetto degli uomini ranziter attraverso il sistema audio dello schermo tuonò un ennesimo fenomeno di deterioramento vai a comprare una bomboletta di ubic e smetterà di succederti tutte quelle cose smetteranno al pensa che noi siamo morti disse giù si sta deteriorando ranziter scoppiò a ridere una profonda pulsazione echeggiante che fece vibrare la sala ascolta giù ho inciso questo stramaledetto annuncio commerciale per assisterti per guidarti tu in particolare perché siamo sempre stati amici sapevo che saresti stato molto confuso il che è quanto appunto ti sta succedendo sei totalmente confuso e ciò non è molto sorprendente tenuto conto delle tue solite condizioni comunque cerca di resistere forse quando arriverai a demoine e vedrai il mio corpo disteso in pompa magna ti calmerai che cos'è questo ubic domanda giù purtroppo penso che sia troppo tardi per aiutare al giù disse di che cosa è fatto ubic come funziona in realtà probabilmente è stato al a provocare la scritta sul muro del gabinetto se non fosse stato per lui tu non l'avresti vista ma sei davvero su un videonastro chiese giù non puoi sentirmi vero ranziter disse inoltre all dannazione disse giù fra il disgustato e il frustrato era inutile si arrese la massaia con la mascella da cavallo ritornò sullo schermo concludendo l'annuncio la sua voce era più morbida ora e trillò nel caso che il suo negozio di casalinghi di fiducia risulti momentaneamente sprovvisto di ubic torni nel suo appartamento signor chip e vi troverà una confezione omaggio di spray che l'è stata inviata per posta le sarà sufficiente signor chip per tirare avanti finché non potrà comprarne una confezione normale poi anche la donna sfumò lo schermo divenne opaco e silenzioso la forza che lo aveva riacceso ora lo aveva spento di nuovo così dovrei dare la colpa ad al penso giù l'idea non gli piaceva avvertiva la peculiarità di quella logica quello che forse era il suo deliberato intento di metterlo fuori strada al il capro espiatorio al trasformato nella vittima designata nel colpevole di comodo ranziter aveva tentato di spiegare tutto in quei termini è insensato si disse senza contare che ranziter era stato o no in grado di sentire lui giù chip oppure aveva solo finto di essere su un videotape per un certo lasto di tempo durante l'annuncio gli era sembrato che ranziter rispondesse alle sue domande solo alla fine le sue parole si erano fatte discordanti tutto un tratto si sentì molto simile a una falena impotente capace solo di sbattere le ali contro la finestra che la separava dalla realtà e di intravederla debolmente dall'esterno un nuovo pensiero lo colpì un'idea fantastica supponiamo si disse che ranziter abbia inciso il nastro basandosi sul presupposto fondato su informazioni sbagliate di un precog che l'esplosione avrebbe ucciso lui e lasciato vivi gli altri il nastro era stato inciso in buona fede ma non diceva il vero ranziter non era morto loro erano morti come sostenevano i graffiti sul muro del gabinetto e ranziter era ancora vivo prima dell'esplosione lui aveva dato ordine di trasmettere l'annuncio a quell'ora e la compagnia televisiva aveva obbedito poiché ranziter non era riuscito ad annullare l'ordine originale questo avrebbe spiegato le divergenze fra quanto ranziter aveva detto nell'annuncio e quanto aveva scritto sul muro del gabinetto in pratica avrebbe spiegato entrambe le cose cosa che per quanto giù si spremesse il cervello nessun'altra spiegazione era in grado di fare a meno che ranziter non stesse giocando satanicamente con loro prima spingendole in una direzione poi in un'altra una forza gigantesca e naturale infestava le loro vite emanando il suo potere all'interno del mondo dei vivi o in quello dei semi vivi oppure pensò improvvisamente in entrambi in ogni caso controllando ogni loro esperienza o almeno la maggior parte di esse forse non il deterioramento decise non controllava anche quello e perché no magari pensò anche quello però ranziter non ne aveva parlato ranziter e ubic ubicuità comprese di colpo quella era l'origine della parola appositamente inventata il nome dell'ipotetico spray esibito da ranziter un prodotto che probabilmente non esisteva neppure si trattava certamente di un'ennesima beffa per sconcertarle ancora di più e inoltre se ranziter fosse stato vivo non sarebbe esistito un solo ranziter ma due quello genuino nel mondo reale che tentava di entrare in contatto con loro e il fantasmagorico ranziter che era divenuto un cadavere in quel mondo di semi vita il cadavere che ora stava ademo a iowa e per completare la logica di quella deduzione fino alle sue estreme conseguenze si doveva ammettere che altre persone in quel mondo come ray hollis e lenningelman lì esistevano solo come fantasmi mentre le loro controparti autentiche erano rimaste nel mondo dei viventi che confusione si disse joe chip e non gli piaceva affatto pur ammettendo che possedesse una soddisfacente qualità simmetrica quell'idea lo colpiva per il suo disordine farò un salto nel mio appartamento decise prenderò il campione gratuito di ubic e andrò a demoine in fondo è quello che la telecronaca mi invitava a fare sarò più al sicuro portando con me una bomboletta di ubic come diceva l'annuncio di ranziter uno deve fare attenzione simili consigli pensò se ha intenzione di rimanere vivo o semi vivo di qualunque cosa si trattasse il tassi lo scaricò sullo campo d'atterraggio situato sul tetto del palazzo scese fino alla sua porta con una scala mobile utilizzando una moneta che qualcuno gli aveva dato pat wall non riusciva proprio a ricordarlo aprì la porta ed entrò il soggiorno puzzava leggermente di grasso bruciato un odore che non aveva mai più ritrovato dopo la sua infanzia entrando in cucina ne scoprì il motivo la sua cucina automatica era regredita ora la sostituiva un vecchio modello bac a gas metano con i fornelli intasati e lo sportello del forno incrostato che non si chiudeva del tutto fissò praticamente l'antico modello logorato dall'uso e scoprì allora che anche gli altri elettrodomestici avevano subito una metamorfosi simile la macchina dell'omeo giornale era completamente svanita il tostapane si era dissolto chissà quando nel corso della giornata lasciando un antiquato aggeggio che non aveva nulla di automatico neppure la molla per estrarre le fette abbrustolite scoprì trafficando tristemente con la macchinetta il frigorifero che lo accolse era un enorme modello con motore a cinghia un relitto spuntato nella realtà da dio solo sapeva quale passato era perfino più antiquato del modello ge a torretta mostrato nell'annuncio tv la caffettiera aveva invece subito il mutamento minore in effetti era migliorata perdendo la fessura per le monete e funzionando come era ovvio gratuitamente questo particolare valeva per tutti gli apparecchi notò solo allora giù per quelli che restavano almeno come la macchina dell'omeo giornale anche l'unità di eliminazione dei rifiuti era scomparsa tentò di ricordare quali altri elettrodomestici avesse posseduto ma già il ricordo si affievoliva nella sua memoria si arrese e ritornò nel soggiorno l'impianto tv doveva essere tornato indietro di parecchio si trovò davanti un cassone di legno scuro una radio a atwater kent a modulazione d'ampiezza vecchissima completa di antenna e di collegamento a muro per la messa a terra dio del cielo si disse sgomento ma perché il televisore non era invece regredito a pezzi di plastica e di metallo informi dopo tutto quelli erano i suoi componenti era stato costruito con quelli e non con i pezzi di una radio precedente forse ciò confermava curiosamente un'antica teoria filosofica caduta in discredito quella degli oggetti idea di platone gli universali che in ogni classe erano sempre reali la forma apparecchio tv era stata soltanto una maschera imposta in successione a tante altre maschere come la processione delle immagini in una sequenza di film le forme precedenti riflette devono proseguire in ogni oggetto una vita invisibile e residua il passato è latente sommerso ma ancora qui capace di affiorare alla superficie quando l'ultima maschera sfortunatamente e in contrasto con le esperienze ordinarie svanisce nel nulla l'uomo non contiene il ragazzo ma gli uomini precedenti pensò la storia è iniziata molto tempo fa i resti disidratati di wendy la processione di forme che solitamente ha luogo quella successione era cessata e l'ultima forma si era consunta senza crearne un'altra successiva nessuna nuova forma nessun prossimo stadio di ciò che noi vediamo come crescita che prendesse il suo posto deve essere questo che noi proviamo come vecchiaia pensò da questa assenza derivano la degenerazione e la senilità solo che in questo caso accadeva di colpo nel giro di poche ore ma quell'antica teoria platone non affermava che qualcosa sopravviveva al decadimento qualcosa di interiore che non era suscettibile di deterioramento il vecchio dualismo l'anima separata dal corpo il corpo finiva come wendy e l'anima fuori dal nido l'uccello si dirigeva da un'altra parte forse davvero così penso si rinasce di nuovo come dice il libro tibetano dei morti è vero sul serio cristo lo spero davvero perché in questo caso potremo incontrarci ancora tutti quanti in un'altra parte della foresta come in winnie the pooh dove un bambino e il suo orsacchiotto giocheranno per sempre una categoria imperitura penso come tutti noi finiremo tutti quanti insieme a pu in un nuovo luogo più chiaro e più duraturo per pura curiosità accese il preistorico apparecchio radio il quadrante di celluloide gialla si illuminò l'apparecchio emise un profondo ronzio di fondo da 60 cicli e infine fra scariche di statica squitti si udì una stazione radio è l'ora della famiglia pepper young esclamò l'annunciatore ci fu un gorgogliare di organo offerta dalla soave camale il sapore delle donne belle ieri pepper ha scoperto che le fatiche di sei mesi di lavoro erano giunte a un finale inaspettato dovuto al a quel punto giù spense la radio una sopopera che trasmettevano prima della seconda guerra mondiale si disse meravigliato beh se non altro ciò seguiva la logica della revisione di forme in quel semimondo morente o qualunque altra cosa fosse guardandosi intorno nel soggiorno scoprì un tavolino da caffè con il ripiano superiore di vetro e le gambe barocche sullo ripiano c'era una copia della rivista liberty anche quella prebellica sulla rivista pubblicavano un serial intitolato lampi nella notte una storia ambientata in un futuro sconvolto da una guerra nucleare fece girare le pagine con la mente annebbiata poi studiò la stanza nel suo insieme cercando di identificare altri cambiamenti il solido pavimento in colore della stanza era stato sostituito da larghe tavole di legno al centro c'era uno sbiadito tappeto turco impregnato di anni di polvere un solo quadro rimaneva sulla parete una stampa monocroma ricoperta di vetro che rappresentava un indiano morente sul dorso del suo cavallo non l'aveva mai visto prima non gli risvegliava nessun ricordo e di quel quadro non gliene fregava proprio nulla il videofono era stato rimpiazzato da un telefono nero e verticale di quelli con il gancio a cornetta non c'era nemmeno il quadrante sollevò il ricevitore dal gancio e udì una voce di donna che diceva il numero prega al che riapese il sistema di riscaldamento automatico era evidentemente partito per altri lidi a un'estremità della stanza scorse una stufa a gas completa di una grossa canna fumaria di alluminio che saliva lungo il muro fin quasi al soffitto andando in camera da letto cercò nell'armadio frugò e infine mise insieme un completo calzoni neri oxford calze di lana una camicia di cotone azzurro calzoni alla zuava una giacca sportiva in pelo di cammello e un berretto da golf per un abbigliamento più elegante e distese sul letto un doppio petto blu nero a righine bretelle una grossa cravatta a fiori e una camicia bianca con il colletto di celluloide corresto si disse con sconforto quando nell'armadio si imbatte pure in una sacca da golf con mazze assortite che reliquia tornò di nuovo nel soggiorno stavolta notò l'angolo in cui prima erano sistemati i componenti audio del suo sistema polifonico il sintonizzatore multiplex a modulazione di frequenza il piatto automatico ad alta isteresi e il braccio sincronizzato senza peso le casse acustiche le antenne l'amplificatore multicanale ogni cosa era svanita al loro posto un'alta struttura di legno scuro accolse il suo sguardo notò la manovella di caricamento e non ebbe bisogno di alzare il coperchio per sapere in cosa consistesse il sistema sonoro un mucchietto di aghi di bambù accanto all'involucro delle victrola e un'incisione a 78 giri un disco di 30 centimetri di diametro con l'etichetta nera della victor records dell'orchestra di ray noble che suonava turkish delight e così era sistemata anche la sua collezione di nastri ed lp il giorno dopo con ogni probabilità si sarebbe trovato equipaggiato con un fonografo a tromba o a cilindri di cera con il motore a molla per l'ascolto poi avrebbe trovato una versione recitata o meglio urlata del padre nostro un quotidiano dall'aria recente era posato su un'estremità del divano ultra imbottito e attirò la sua attenzione lo raccolse e lesse la data martedì 12 settembre 1939 diede una scorsa ai titoli principali i francesi sostengono di aver intaccato la linea sigfrido segnalano successi nella zona di saarbuchen una battaglia di grande importanza si preannuncia sul fronte occidentale interessante pensò la seconda guerra mondiale era appena iniziata nei francesi pensavano di poterla vincere lesse un altro titolo la polonia annuncia che le forze germaniche sono state arrestate all'inizio dell'avanzata gli invasori scagliano nuove truppe all'attacco senza ottenere nuovi risultati positivi il giornale costava tre centesimi anche questo era interessante cosa si poteva comprare oggi con tre centesimi si chiese giù gettò il quotidiano dove lo aveva trovato meravigliandosi ancora per la sua freschezza del giorno prima si disse non poteva essere più vecchio così adesso ho una data precisa conosco il punto esatto raggiunto dalla regressione girando a caso nell'appartamento alla ricerca di eventuali altri cambiamenti in camera da letto si trovò di fronte un como sopra vi erano parecchie fotografie incorniciate e protette da vetri erano tutte di ranziter ma non del ranziter che lui conosceva queste rappresentavano un bambino poi un ragazzo e infine un giovanotto ranziter come era stato una volta ma ancora riconoscibile tirato fuori il portafogli ritrovò solamente istantanei di ranziter nessun'altra di amici o della propria famiglia ranziter dappertutto rimise il portafogli in tasca poi ricordò con un sussulto che fra le dita non aveva avvertito la plastica ma pelle autentica beh questo quadrava anticamente c'era buona disponibilità di cuoio e allora si chiese tirò fuori un'altra volta il portafogli e lo esaminò accuratamente strofinò il dito sul cuoio e provò una nuova sensazione tattile infinitamente superiore alla plastica decise tornando nel soggiorno si guardò intorno alla ricerca della familiare buca postale la cavità nella parete che doveva contenere la posta di quel giorno era svanita non esisteva più riflette cercando di richiamare alla mente le usanze postali del passato sul pavimento del corridoio davanti alla porta dell'appartamento no in una cassetta di qualche genere ricordo il termine cassetta delle lettere ok doveva essere nella cassetta delle lettere ma dove si trovavano le cassette delle lettere dall'ingresso principale del palazzo questa idea sembrava sia pure vagamente esatta avrebbe dovuto lasciare l'appartamento la posta era al pian terreno 20 piani più in basso 5 centesimi prego disse la porta quando lui tentò di aprirla una sola cosa dunque non era cambiata la porta a pagamento doveva possedere un'innata cocciutaggine con tutta probabilità avrebbe resistito più a lungo di ogni altra cosa solo dopo che tutto tranne essa fosse tornato indietro magari in tutta la città o nel mondo intero verso il nichelino alla porta e si precipitò fuori verso la scala mobile che aveva usato pochi minuti prima le scale però erano regredite a una lunga rampa immobile di gradini di cemento 20 piani riflette giù gradino dopo gradino è impossibile nessuno poteva fare a piedi tanti piani di scale l'ascensore fece per avviarsi in quella direzione ma ricordò ciò che era successo ad al e se stavolta vedessi anch'io quello che ha visto lui si chiese una vecchia gabbia metallica appesa un filo comandato da qualche vecchio imbecille con la divisa e il cappellino rotondo non una visione del 1939 ma del 1909 una regressione maggiore di tutte quelle che ho dovuto sopportare finora meglio non rischiare meglio fare le scale rassegnato cominciò a scendere era ormai giunto a mezza strada quando un pensiero inquietante si risvegliò nella sua mente non aveva più nessun mezzo per risalire tanto al suo appartamento quanto al campo d'atterraggio sul tetto una volta al pian terreno sarebbe stato confinato laggiù forse per sempre a meno che la bomboletta spray di ubic non si rivelasse così potente da riportare indietro l'ascensore o le scale mobili e i mezzi di trasporto di superficie si disse in cosa consisteranno quando sarò arrivato in fondo treni carri coperti percorrendo le scale a due gradini per volta riprese a scendere con aria cupa era troppo tardi ormai per cambiare idea quando infine raggiunse il pian terreno si trovò davanti un enorme atrio con al centro un tavolo lunghissimo dal ripiano di marmo che sorreggeva due vasi di ceramica colmi di fiori giaggioli a quanto pareva quattro larghi scalini conducevano alla porta d'ingresso oscurata da una tenda joe impugnò la maniglia di vetro sfaccettato della porta e la spalancò altri scalini e sulla destra una lunga fila di cassette di ottone chiuse a chiave ognuna con un nome e ognuna richiedeva una chiave aveva visto giusto la posta degli inquilini veniva portata fin qui localizzò la sua cassetta delle lettere grazie alla striscia di carta che diceva joseph chip 2075 e notò anche un pulsante al fianco della striscia che evidentemente serviva ad avvisare l'inquilino nel suo appartamento la chiave non aveva nessuna chiave oppure sì frugandosi nelle tasche scoprì un anello che tratteneva chiavi di forme diverse l'esaminò perplesso chiedendosi a cosa servissero il lucchetto della cassetta sembrava piuttosto piccolo ovviamente gli serviva una chiave della stessa misura scegliendo la più modesta chiave dell'anello la inserì nell'occhetto e la ruotò lo sportello d'ottone della cassetta si spalancò guardò dentro c'erano due lettere e un pacchetto quadrato avvolto in carta marrone sigillato con nastro pure marrone francoboli rossi da tre centesimi con il ritratto di george washington fece una pausa per ammirare quelle insolite reliquie del passato e subito dopo ignorando le lettere stracciò la carta che avvolgeva il pacchetto trovandolo pesante in modo soddisfacente ma pensò di colpo non è la confezione adatta a una bomboletta spray non è abbastanza alta la paura lo sfierò e se non fosse stato il campione gratuito di ubic doveva esserlo doveva esserlo per forza altrimenti gli sarebbe toccata la sorte di al morso certa e tora certa si disse lasciando cadere i resti dell'imballaggio e osservando la scatola di cartone all'interno balsamo ubic per fegato e a reni all'interno della scatola trovò un vasetto di vetro blu con un grosso tappo l'etichetta diceva istruzioni per l'uso questo analgesico unico al mondo la cui formula è stata sviluppata nell'arco di 40 anni dal dottor eduarda sonderbar è garantito per porre definitivamente fine ai fastidiosi risvegli nel cuore della notte potrete dormire comodamente per la prima volta nella vostra vita vi basterà sciogliere un cucchiaino da tè di balsamo ubic per fegato e a reni in un bicchiere d'acqua calda e berlo mezz'ora prima di colicarvi se i dolori o le irritazioni persistono aumentare la dose fino a un cucchiaio da tavola non somministratelo a bambini contiene foglie distillate di oleandro nitrato di potassio olio di menta piperita n acetil p amenofenolo ossido di zinco carbone di legna cloruro di cobalto caffeina estratto di digitale steroidi di debole quantità citrato di sodio acido ascorbico coloranti artificiali e aromi il balsamo ubic per fegato e reni è efficace se usato secondo le istruzioni infiammabile usare guante di gomma non fatelo entrare negli occhi non spalmatelo sulla pelle non inalatene a lungo i vapori attenzione un uso prolungato eccessivo può provocare assuefazione è pazzesco penso giù l'esse una seconda volta l'elenco degli ingredienti sentendosi crescere dentro una rabbia impotente oltre a una crescente sensazione di frustrazione che lo invase in ogni fibra sono finito penso questa roba non è ciò che ranziter ha pubblicizzato in televisione è qualche arcano miscuglio che appartiene alle medicine del passato agli unguenti per la pelle ai calmanti e ai veleni ai placebo che non servivano a nulla più il cortisone che non esisteva prima della seconda guerra mondiale ovviamente l'ubic che ranziter mi ha annunciato nel suo spot pubblicitario in televisione o almeno il suo campione è regredito come tutto il resto e si è trasformato in questa roba un'ironia che non mi lascia scampo la sostanza creata per invertire il processo regressivo è regredita a sua volta avrei dovuto capirlo non appena ho visto i vecchi francoboli rossi da tre centesimi guardò su e giù lungo la strada e vide parcheggiata accanto al marciapiede un'auto da superficie che ai suoi tempi era un classico un vero pezzo da museo una la sala potrò arrivare a demois con una la sala del 1939 si domandò forse se l'auto fosse rimasta inalterata ce l'avrebbe fatta in una settimana ma per allora non sarebbe servito a nulla e comunque l'auto non sarebbe rimasta stabile nulla lo sarebbe stato tranne forse la porta a pagamento del suo appartamento tuttavia si accostò alla sala per esaminarla da vicino magari la mia pensò magari una delle mie chiavi serve per l'accensione non è così che funzionavano le auto da superficie d'altra parte come farò a guidarla non sono capace di pilotare un'auto storica specialmente questa che ha come lo chiamavano il cambio manuale aprì la portiera e salì sedendosi al posto del guidatore dietro il volante rotondo rimase là pensieroso masticandosi a lungo il labbro inferiore e cercando di trovare una via d'uscita forse dovrei bermi un cucchiaino da tavola di balsamo ubic per fegato e al reni si disse copamente con quegli ingredienti dovrebbe uccidermi senz'altro ma non sarebbe stata una morte piacevole il cloruro di cobalto avrebbe agito lentamente nel corso di una lunga e dolorosa agonia a meno che la digitale non facesse effetto per prima senza contare naturalmente le foglie di oleandro non erano da trascurare nemmeno quelle nel suo insieme quella miscela avrebbe disciolto le sue ossa in gelatina e un centimetro per volta aspetta un momento penso i mezzi di trasporto aereo esistevano nel 1939 se potessi arrivare all'aeroporto di new york magari con quest'auto potrei noleggiare un apparecchio noleggiare un trimotore fordo completo di pilota mi porterebbe fino a demois provò le diverse chiavi nell'anello finché non trovò quella che si inseriva nell'accensione il motorino dell'avviamento gracchiò rauco e il motore si avviò poi il motore continuò a emanare un vigoroso ruggito che giunse piacevole alle sue orecchie come il portafoglio di pelle autentica questo particolare tipo di regressione gli sembrò un miglioramento essendo completamente silenziosi i mezzi di trasporto del suo tempo mancavano di quel palpabile tocco di sano realismo ora la frazione si disse sulla sinistra la localizzò con il piede premere fino in fondo poi inserire la leva del cambio nell'ingranaggio tentò e ottenne un orribile stridore di metallo contro metallo e non doveva lasciare così in fretta la frizione tentò ancora e stavolta la leva scivolò agivolmente nella marcia sussultando l'auto si mosse in avanti sobbalzava e rabbrevidiva ma si muoveva so picco regolarmente risalendo la strada e giù si sentì nascere dentro una misurata ondata di ottimismo e adesso vediamo di trovare questo dannatissimo aeroporto si disse prima che sia troppo tardi e che mi ritrovi ai tempi dei motori rotanti gnome con i loro pistoni esterni rotanti lubrificati a olio di ricino buoni per voli di 70 chilometri a quote ridicole saltando le siepi e a non più di 100 chilometri orari un'ora dopo arrivò all'aeroporto parcheggiò l'auto e si mise a esaminare gli hangar la manica a vento i vecchi biplani con intelaiatura di legno che vista riflettì una pagina sfocata di storia i resti ricreati di un altro millennio privi di ogni collegamento con il mondo reale familiare un fantasma diventato visibile solo per un momento se ne sarebbe andato presto anche lui il processo di involuzione l'avrebbe spazzato via come aveva già fatto con tutto il resto smontò con andatura malferma dalla la sala stava soffrendo di un intenso attacco di mal d'auto e si trascinò verso l'edificio principale dell'aeroporto cosa posso noleggiare con questi domandò la prima persona dall'aspetto ufficiale che incontrò depositandole davanti sul banco tutto il suo denaro voglio arrivare a demoine prima possibile devo decollare immediatamente il responsabile del campo con la testa calva i baffi impomatati e due piccoli occhiali rotondi dalla montatura dorata ispezionò silenziosamente le banconote ehi sam chiamò ruotando la testa tonda come una mila viene a dare un'occhiata a questo denaro un secondo individuo che indossava una camicia a righe dalle maniche spiegazzate un paio di calzoni lucidi di lino e scarpe di corda si fece avanti denaro fasullo disse dopo aver dato un'occhiata non c'è jorge washington né alexander emilton entrambi i funzionari dell'aeroporto fissarono giù giù disse ho una alla sal del 39 parcheggiata qui fuori la scambio con un passaggio di sola andata per demoine su qualsiasi aereo mi ci possa portare vi interessa il tipo con gli occhiali cerchiati d'oro disse meditabondo forse oggy brent sarebbe interessato brent disse l'altro tipo con i calzoni di lino sulla sua jenny quell'aereo ha già più di 20 anni non arriverebbe nemmeno a filadelfia cosa ne dici di maggie certo ma è a newark allora sandy jasperson il suo cortis wright dovrebbe farcela fino a iowa magari mettendoci un po di tempo e a joe disse esca e vada all'hangar 3 cerchi un biplano cortis wright bianco e rosso troverà anche il piccoletto grasso che ci sta lavorando se lui non accetta non rimane nessun altro a meno che lei non intenda aspettare che hike mcgee sia di ritorno con il suo tremotore focker grazie disse joe e lasciò la costruzione si diresse rapidamente verso l'hangar numero 3 intravedendo già quello che pareva un biplano cartis wright bianco e rosso almeno pensò non dovrò fare il viaggio su un jen da addestramento della prima guerra mondiale e subito dopo pensò come diavolo faccio a sapere che jenny è il soprannome di un modello jen da addestramento buondio mormorò dentro di sé gli elementi di questa epoca sembrano sviluppare coordinate corrispondenti nella mia mente non c'è da meravigliarsi che fossi capace di guidare la sala sto incominciando sul serio a sincronizzarmi mentalmente con questo continuum temporale un ometto grasso con i capelli rossi stava trafficando con uno straccio unto intorno alle ruote del biplano alzò gli occhi quando joe si avvicinò lei è il signor jesperson esatto l'uomo lo osservò incuriosito dagli abiti di joe che non erano affatto regrediti cosa posso fare per lei joe glielo disse vuole scambiare una la sal una la sal nuova con un viaggio di sola andata per de mohan jesperson ci pensò sopra aggrottando le ciglia potremmo infilarci anche un viaggio di ritorno devo tornare qui in ogni modo va bene verrò a dare un'occhiata ma non prometto nulla non ho ancora accettato tornarono insieme al parcheggio non vedo nessuna la sal del 39 disse jesperson sospettosamente lo metto aveva ragione la macchina era scomparsa al suo posto joe vide un coupé ford col tettuccio di tela un modello piccolo e leggero molto antico del 1929 immaginò una ford modello a del 1929 tutta nera praticamente priva di valore lo capiva dall'espressione sul viso di jesperson ovviamente adesso non poteva più fare nulla non sarebbe mai arrivata de mohan e questo come ranziter aveva detto nel suo spot televisivo voleva dire la morte la stessa morte che aveva già colpito wendy e al sarebbe stata solo questione di tempo meglio penso giù morire in un altro modo ubic penso aprì la portiera della ford e salì là sul sedile del passeggero c'era la bottiglietta che aveva ricevuto per posta la prese e scopri qualcosa che in realtà non lo sorprese la bottiglia come l'auto era regredita di nuovo adesso era piatta e di un pezzo solo con dei graffi sul vetro il tipo di bottiglia ottenuta con uno stampo di legno doveva essere parecchio antica il tapo di stagno a vite sembrava fatto a mano doveva risalire agli ultimi anni del diciannovesimo secolo anche l'etichetta era cambiata sollevando la bottiglia lesse le parole stampate elisir di ubic garantisce la restituzione della vi perduta e dell'eliminazione di ogni vapore mentale oltre alla completa risoluzione di tutti i disturbi della riproduzione in persone di ambo i sessi ritrovato efficace e benefico quando viene assiduamente somministrato secondo le istruzioni e a caratteri più piccoli c'era un'altra iscrizione dovete strizzare gli occhi per riuscire a decifrare la scritta minuta e macchiata non farlo giù esiste un'altra via tenta ancora la troverai buona fortuna ranciter riflette sta ancora conducendo il suo sadico gioco del gatto e del topo con noi ci incita a resistere ancora a rimandare la fine il più a lungo possibile dio solo sa perché forse pensò ranciter gode dei nostri tormenti ma non è da lui non è il ranciter che conoscevo tuttavia giù rimese giù la bottiglia di elisir di ubic rinunciando all'idea di farne uso e si chiese quale fosse l'altra via cui ranciter aveva accennato in termini così elusivi somministrato secondo le istruzioni ubic procura un sonno senza interruzioni senza farvi sentire intontiti al risveglio vi alzerete freschi pronti ad affrontare tutti quei piccoli e noiosi problemi che richiedono la vostra attenzione non eccedere il dosaggio consigliato e quella bottiglia che hai lì disse jespersen introdusse la testa nell'auto con una strana nota nella voce posso dargli un'occhiata senza parole giù passò all'aviatore la bottiglia di elisir di ubic mia nonna ne parlava spesso disse jespersen sollevando contro luce la bottiglia dove l'hai trovata non ne hanno più fabbricate dai tempi della guerra civile e per forza non se ne vedono più tante in giro di queste fiasche fatte a mano per prima cosa la fabbrica non ne ha mai prodotte molte questa medicina fu inventata san francisco intorno al 1850 e non venne mai messa in vendita nei negozi si doveva ordinarla e la preparavano apposta ce n'erano tre qualità questa che hai qui era la più forte osservò attentamente joe sa che cosa contiene questa certo disse joe olio di menta piperita ossido di zinco citrato di sodio carbone di legna e lasciamo stare l'interruppe jespersen dal suo viso accegliato si capiva che era indaffarato a rimuginare qualcosa infine la sua espressione cambiò era giunto a una decisione la porterò a dem one in cambio di questo flacone di elisir di ubic partiamo subito voglio fare la maggior parte del viaggio con la luce del sole e si allontanò dalla ford del 29 portando la bottiglia con si dieci minuti dopo il biplano curtis wright era stato rifornito di carburante il motore fu avviato manualmente e l'aereo con jespersen e joe cip a bordo prese a rollare con andatura storta e sussultante lungo la pista per tornare subito giù giù strinse i denti e si attaccò più forte al sedile siamo un po pesanti disse jespersen impassibile non pareva affatto allarmato alla fine l'aereo si sollevò nell'aria abbandonando definitivamente la pista rumorosamente sorvolò i tetti degli edifici diretto a ovest joe gridò quanto ci vorrà per arrivare né dipende dal vento di coda che incontreremo difficile dirlo probabilmente arriveremo domani verso mezzogiorno se la fortuna ci assiste ora vuole dirmi gridò ancora giù cosa c'è nella bottiglia pagliuzze d'oro sospese in una base composta prevalentemente di olio minerale urlò di rimando il pilota quanto oro parecchio jespersen girò la testa senza rispondere sogghignando non era necessario dirlo è ovvio il vecchio biplano curtis wright arrancò sputacchiando in quella che approssimativamente era la direzione dell'ohaiua alle tre del pomeriggio del giorno seguente raggiunsero l'aeroporto di dem one sistemato l'aereo e la pilota sparì per lì disconosciuti portando con sé la fiasca di pagliuzze d'oro quasi paralizzato da un doloroso intorpidimento giù sgusciò fuori dall'abitacolo e rimase per un po sul campo a massaggiarsi le gambe insensibili poi si diresse barcollando verso gli uffici dell'aeroporto posso usare il vostro telefono domandò all'anziano funzionario dall'aspetto campagnolo che se ne stava appolaiato sopra una mappa meteorologica completamente assorto in ciò che stava facendo sia un nichelino l'uomo con un gesto della testa dai capelli arruffati indicò un telefono pubblico joe estrasse tutto il suo denaro e separò le monete che portavano il profilo di ranziter alla fine trovò un autentico nichelino con testa di bufalo di quel periodo e lo depose davanti all'ufficiale grugnì l'ufficiale senza alzare gli occhi scovato l'elenco telefonico giù vi cercò il numero del cimitero del semplice pastore comunicò il numero al centralino e quasi subito ottenne la comunicazione cimitero del semplice pastore parla il signor bliss sono qui per assistere alla funzione funebre di glennon ranziter disse joe sono in ritardo prego in silenzio che non fosse così la funzione per il signor ranziter si sta svolgendo proprio ora rispose il signor bliss posso sapere dove si trova signore desidera che uno dei nostri veicoli venga a prenderla aveva un tono di leziosa disapprovazione sono all'aeroporto disse joe avrebbe dovuto arrivare prima lo rimproverò il signor bliss dubito seriamente che le sarà possibile assistere alla funzione tuttavia la camera ardente del signor ranziter resterà aperta fino a domani mattina attenda all'arrivo della nostra auto signor chip disse joe si lei era atteso molti dei presenti ci hanno chiesto di attendere fino al suo arrivo e di quello del signor hammond e di una certa esito signorina wright sono con lei no disse joe e riappese poi andò a sedersi su un banco di legno levigato da dove avrebbe potuto controllare ogni auto che si fosse avvicinata all'aeroporto se non altro si disse sono arrivato in tempo per riunirmi al gruppo non hanno ancora lasciato la città e questo è l'importante il funzionario lo chiamò nei venga qui un momento joe si alzò e attraverso la stanza cosa c'è che non va il nickelino che mi ha dato l'uomo lo aveva studiato per tutto il tempo è un nickelino con la testa di bufalo fece joe non è la moneta giusta per questo periodo questa moneta è datata 1940 l'uomo lo osservò fissamente con un gemito joe tirò fuori le monete che gli restavano mischiate fra loro infine trovò un nickelino del 1938 e lo depositò davanti al funzionario li tenga tutti e due gli disse e tornò a sedersi sul banco di legno ogni tanto ci capita del denaro falso disse l'uomo joe non disse nulla concentrò la sua attenzione sulla grossa radio audiola che suonava in un angolo della sala d'aspetto l'annunciatore stava pubblicizzando un dentifricio chiamato ipana chissà quanto tempo dovrò aspettare si chiese joe l'attesa lo rendeva nervoso ora che si trovava così vicino ai suoi inerziali non vorrei avere fatto tutta questa strada pensò e poi trovarmi bloccato a poche miglia dalla meta a quel punto smise di pensare e si limitò a restare seduto mezz'ora più tardi una willis night del 1930 entrò sputacchiando nel parcheggio dell'aeroporto ne emerse un individuo vestito di un abito tutto nero in canapa grossolana che si portò una mano a schermare gli occhi per poterlo vedere dentro la sala d'aspetto giù si avvicinò lei e il signor bliss per l'appunto bliss gli strinse brevemente la mano emettendo nel frattempo un forte odore di sen sen poi rimontò di colpo sulla willis night e riaccese il motore venga signor ship si sbrighi per cortesia forse possiamo ancora assistere all'ultima parte della funzione padre a bernati parla piuttosto a lungo giù salì sul sedile anteriore accanto al signor bliss un attimo più tardi sferraiavano già sulla strada per de mohan correndo a una velocità che ogni tanto sfiorava i 60 chilometri orari lei è un dipendente del signor ranciter domandò il signor bliss esatto disse giù il genere di attività svolto dal signor ranciter era alquanto insolito non sono del tutto certo di avere ben capito bliss suonò gli clacson per un setter rosso che si era avventurato sull'asfalto il cane arretrò lasciando via libera alla pomposa willis night cosa significa psionici diversi dipendenti del signor ranciter hanno usato questo termine poteri parapsichici disse giù forze mentali che agiscono direttamente senza l'intervento di nessun agente fisico poteri mistici intende dire come conoscere il futuro e le altre cose del genere il motivo per cui gliene parlo è che alcuni di quei signori hanno accennato al futuro come se già esistesse non con me ne parlavano fra di loro e udito per caso sa come succede siete per caso dei medium è un modo come un altro per definirci cosa prevedete per la guerra in europa giù disse germania e giappone saranno sconfitti gli stati uniti entreranno in guerra il 7 dicembre 1941 poi ripiombò nel silenzio non si sentiva portato alla discussione aveva altri problemi che occupavano la sua attenzione io stesso sono un cavaliere del sepolcro disse willis che cosa starà sperimentando il resto del gruppo si chiese giù questa stessa realtà gli stati uniti del 1939 oppure quando mi unirò a loro la mia regressione si invertirà e io mi troverò in un periodo posteriore una buona domanda infatti collettivamente avrebbero dovuto ripercorrere all'indietro 53 anni fino alle forme corrispondenti al loro tempo reale contemporaneo se il gruppo nel suo insieme aveva subito il suo stesso periodo di regressione il fatto di unirsi a loro non sarebbe servito a molto tranne forse a una cosa magari lui avrebbe evitato di subire un ulteriore invecchiamento individuale d'altra parte quella realtà del 1939 sembrava piuttosto stabile nelle ultime 24 ore si era mantenuta praticamente inalterata ma rifletteggio questo poteva essere accreditato al suo avvicinamento al gruppo d'altra parte il vasetto del 1939 di balsamo ubic per fegato e reni era invecchiato di un'altra ottantina di anni da bomboletta spray a bottiglia e infine a flacone dell'epoca della guerra civile nel giro di poche ore come l'ascensore a gabbia del 1908 che solo al aveva visto ma non era così il pilota piccolo e grasso sandy jaspersen aveva visto anche lui il flacone l'elisir dubic così come si era trasformato l'ultima volta quella non era stata una visione privata anzi lo aveva portato fin lì a demoine e il pilota aveva visto pure la regressione della la sal sembrava che alla fosse stato sopraffatto da qualcosa di completamente diverso o almeno lui sperava che fosse così pregava che fosse così supponiamo riflette che non si possa più invertire la nostra regressione supponiamo di essere costretti a rimanere qui per il resto delle nostre vite sarebbe così brutto possiamo abituarci alla radio filco a 9 valvole e griglia metallica anche se questo non sarebbe in realtà necessario perché i circuiti di super eterodina sono già stati inventati benché non ne abbia ancora visto una in funzione possiamo imparare a pilotare le auto american austin in vendita a 445 dollari una somma che gli era venuta a galla nella mente apparentemente a caso ma che lui intuiva essere esatta non appena ci saremo trovati un lavoro e avremo guadagnato un po di soldi di quest'epoca si disse giù non dovremo più viaggiare a bordo di antichi biplani curtis wright dopotutto quattro anni fa nel 1935 è stata inaugurata la prima linea transpacifica per la cina con aerei quadrimotori il trimotore ford è ormai un aereo vecchio di 11 anni per questa gente è un relitto e il biplano sul quale sono arrivato qui anche per loro è un pezzo da museo quella alla sala che avevo prima che regredisse era un ammirevole lavoro di ingegneria guidarla era un'autentica soddisfazione e la russia stava chiedendo il signor bliss nella guerra voglio dire spazzeremo via quei rossi riesce a vedere così lontano giù disse la russia combatterà a fianco degli stati uniti d'america senza contare tutti gli oggetti e manufatti di questo mondo rimuginò per la medicina invece sarà un brutto passo indietro vediamo dovrebbero usare ancora i sulfamidici se ci ammaleremo sarà una faccenda seria e neppure le malattie ai denti saranno molto divertenti stanno lavorando ancora con i trapani non raffreddati e la novo caina i dentifrici al fluoro non sono ancora sul mercato quelli verranno fra vent'anni al nostro fianco sputacchiò bliss i comunisti è impossibile hanno firmato quel patto con i nazisti la germania violerà il trattato disse giù hitler attaccherà l'unione sovietica nel giugno 1941 ne li spazzerà via tutti spero schiodato a forza dalle sue riflessioni preoccupate giù si voltò a guardare più da vicino il signor bliss intento alla guida della sua willis knight di nove anni bliss disse sono quei comunisti la vera minaccia non i tedeschi prendiamo il trattamento degli ebrei sa chi è che ci guadagna di più gli ebrei immigrati da noi un mocchio di rifugiati che vive alle spalle dell'assistenza pubblica io penso che i nazisti siano stati un po duri in alcune cose che hanno fatto gli ebrei ma in fondo il problema ebreo esiste da molto tempo e bisognava fare qualcosa per risolverlo magari senza arrivare a qualcosa di così brutto come i campi di concentramento qui negli stati uniti abbiamo lo stesso problema sia per gli ebrei che per i musi neri alla fine anche noi dovremmo fare qualcosa per risolverlo non avevo mai sentito usare il termine musi neri disse giù e si trovò di colpo costretto a giudicare in modo un po diverso quell'epoca questo aspetto lo avevo dimenticato pensò lindberg ha ragione a proposito della germania disse ancora bliss non ha mai ascoltato i suoi discorsi non intendo le versioni che ne danno i giornali ma dal vivo rallentò l'auto per rispettare un segnale di stop a un semaforo prendiamo il senatore bora e il senatore nye se non fosse stato per loro roosevelt starebbe vendendo armi all'inghilterra e noi ci troveremmo immischiati in una guerra che non ci riguarda per nulla roosevelt è così dannatamente interessato a revocare la clausola del patto di neutralità che riguarda l'embargo sulle armi vuole portarci a tutti i costi in guerra ma gli americani non sono interessati a combattere la guerra dell'inghilterra o di chiunque altro con uno scatto metallico il segnale cambiò e il semaforo verde scivolò fuori della colonnina bliss inserì la prima e la willis knight sussultò in avanti mescolandosi al traffico pomeridiano di demohan i prossimi cinque anni non le piaceranno molto disse giù perché no l'intero stato dell'aio è d'accordo con me su ciò che ho detto sa cosa penso di voi dipendenti del signor ranziter da quello che lei dice e quello che dicono gli altri penso che siate degli agitatori di professione bliss fisso giù con aperta ostilità giù non disse nulla ammirò gli antiquati edifici in cemento legno e mattoni che gli passavano accanto le auto da museo erano quasi tutte nere e si chiese se lui fosse l'unico del gruppo ad affrontare quel particolare aspetto del mondo del 1939 a new york si disse sarà diverso questa è la cintura biblica il midwest isolazionista non resteremo qui a vivere andremo sulla costa orientale o su quella occidentale ma sentì istintivamente che in quel momento era venuto a galla un problema molto grave per tutti loro non sappiamo troppo pensò per poter vivere comodamente in questo segmento temporale se il balzo all'indietro fosse stato di 20 o 30 anni probabilmente ci saremmo adattati alla transizione psicologica forse non sarebbe stato così interessante di vivere di nuovo le passeggiate spaziali delle gemini o i primi cigolanti voli a pollo però almeno sarebbe stato possibile ma in questo punto del tempo stanno ancora ascoltando le incisioni a 78 giri di two black rose e joe penner e mert and marge la depressione non è ancora terminata ai nostri tempi manteniamo colonie su marte sulla luna stiamo perfezionando la propulsione interstellare e questa gente non è ancora riuscita a irrigare la dust bowl dell'oklahoma questo è un mondo che vive seguendo l'oratoria di william jenis bryan e per loro il processo alla scimmia di scopes è una realtà concreta non ci è possibile in nessun modo pensò adattarci al loro modo di vedere al loro ambiente sociale morale politico per loro siamo agitatori di professione più alieni dei nazisti stessi forse più minacciosi del partito comunista siamo gli agitatori più pericolosi che questo segmento temporale abbia mai dovuto affrontare bliss ha assolutamente ragione dove siete tutti voi chiese allora bliss non venite da nessuna parte degli stati uniti vero joe disse ha perfettamente ragione veniamo dalla confederazione nord americana dalla tasca estrasse una delle monete ranziter e la tesi a bliss beva qualcosa alla mia salute disse sbirciando la moneta bliss deglutì e gracchiò il profilo su questa moneta è il defunto questo è il signor ranziter diede un'altra occhiata e sbiancò in viso e la data 1990 non se lo spenda tutto in una volta disse joe quando la willys knight raggiunse il cimitero del semplice pastore la cerimonia era già terminata sui bianchi gradini in legno della costruzione a due piani attendeva un gruppo di persone e joe le riconobbe tutti eccoli là infine ed i dorn tp jackson john hilde francy spanish tito apostos don danny semi mondo fred zafischi e pat mia moglie si disse colpito per l'ennesima volta dalla sua vista i tragici capelli neri l'intensa colorazione della pelle e degli occhi tutti i prodigiosi contrasti che si irradiavano dalla sua figura no disse ad alta voce scendendo dall'auto parcheggiata non è mia moglie ha cancellato anche quello tuttavia ricordò ha conservato l'anello quella fede inconfondibile in giada e argento lavorato che abbiamo scelto insieme e tutto ciò che ne rimane rivederla fu un grande shock riconquistare per un istante la spettrale nube di un matrimonio che era stato abolito che in effetti non era mai esistito tranne per quell'anello senza contare poi che in qualsiasi momento le fosse piaciuto lei avrebbe potuto obliterare anche l'anello salve joachip disse lei con la sua voce fredda quasi beffarda i suoi occhi intensi lo fissarono indagatori salve disse lui goffamente anche gli altri lo salutarono ma quello non gli sembrò importante pat aveva intrappolato la sua attenzione alhammond non c'è domandò don danny joe disse alle è morto wendy wright è morta sappiamo di wendy disse pat con voce calma no non lo sapevamo fece don danny lo supponevamo ma non eravamo sicuri io non ero sicuro e a joe disse cosa è successo cosa li ha uccisi si sono consumati disse joe perché disse raucamente tito apostos facendo breccia nel cerchio che attorniava joe pat con lei disse l'ultima cosa che ci hai detto a new york prima di andartene con ammond so quello che ho detto disse joe pat proseguì è stato qualcosa a proposito degli anni era trascorso troppo tempo hai detto cosa significa qualcosa sul tempo signor chip intervenne agitata edy dorn da quando siamo arrivati qui questa città è cambiata radicalmente nessuno di noi capisce cosa sta succedendo lei vede quello che vedo io con la mano indicò la costruzione del cimitero poi la strada e le altre costruzioni non sono affatto sicuro disse joe di quello che vedete voi andiamo chip disse tito apostos irritato non girarci intorno dici soltanto corresto santo come vedi questo luogo quel veicolo fece un cenno verso la willys knight sei arrivato su quel coso dici che cos'è dici su che cosa sei arrivato tutti attesero osservando attentamente joe signor chip balbettò semimundo quella è una vera auto antica non è vero fece un risolino quanti anni avrà esattamente dopo una pausa joe disse ha 62 anni questo ci porterebbe al 1930 disse tp jackson a don danny il che è maledettamente vicino a quello che pensavamo noi noi pensavamo il 1939 disse don danny rivolgendosi a joe con voce piatta una voce da baritono matura distaccata moderata senza indebite emozioni anche in quelle circostanze joe disse è abbastanza facile stabilirlo ieri ho visto un giornale nel mio appartamento di new york era il 12 settembre così oggi è il 13 settembre 1939 i francesi pensano di avere sfondato la linea sigfrido la qualcosa di per sé disse john hild vale un milione di risate speravo continuo giù che voi come gruppo viveste una realtà posteriore invece le cose stanno così se il 1939 è il 1939 disse in tono acuto e stridulo fred zafischi è naturale che viviamo tutti in quest'anno come potrebbe essere diversamente sbattì energicamente le lunghe braccia appellandosi all'approvazione degli altri pianta la zafischi disse tito apostos con fastidio a pat joe chiese tu cosa ne pensi lei alzò le spalle non crollare le spalle disse lui rispondi siamo tornati indietro nel tempo disse pat non in modo reale disse joe e allora come abbiamo fatto disse pat siamo andati avanti nel tempo forse joe disse non siamo andati in nessuna direzione siamo ancora dove siamo sempre stati ma per qualche motivo per uno dei diversi motivi possibili la realtà è regredita ha perduto il suo sostegno interno ed è rifluita indietro a due forme precedenti forme che esistevano 53 anni fa può regredire anche oltre e a questo proposito mi interessa di più sapere se il ranziter si è manifestato anche a voi ranziter è disteso in quell'edificio all'interno della sua bara disse don danny stavolta con anomala emozione morto come una ringa questa è l'unica manifestazione che abbiamo avuto di lui ed è probabilmente l'unica che avremo la parola ubic significa qualcosa per lei signor chip disse francesca spanish gli ci volle qualche istante per assorbire quello che lei aveva detto cristo santo disse allora non riuscite a distinguere le manifestazioni di francy ha dei sogni disse tipi jackson li ha sempre avuti raccontagli il tuo sogno ubic francy e a giù chip disse francy le dirà del suo sogno ubic come lei lo chiama lo ha avuto la notte scorsa lo chiamo così perché è quello che è disse con fierezza francesca spanish alla ciò le mani in uno spasimo di eccitazione senta signor chip è stato un sogno come non ne ho mai avuti una grande mano è venuta giù dal cielo come il braccio e la mano di dio enorme delle dimensioni di una montagna e io sapevo in quel momento quanto fosse importante la mano era chiusa stretta in un pugno che sembrava di pietra io sapevo che conteneva qualcosa di enormemente prezioso la mia vita e quella di chiunque altro sulla terra dipendevano da quella cosa attesi che il pugno si aprisse infatti si aprì e io vidi cosa conteneva una bomboletta di spray aerosol disse seccamente don danny sulla bomboletta spray proseguì fancy c'era una sola parola a grandi lettere dorate scintillante un fuoco dorato che diceva ubic niente altro solo quella strana parola poi la mano si è chiusa di nuovo intorno alla bomboletta spray e la mano con il braccio è scomparsa sollevandosi in una specie di nuvola grigia oggi prima della cerimonia ho cercato in un dizionario e ho telefonato alla biblioteca in città ma nessuno sapeva che lingua fosse o cosa significasse quella parola e sul dizionario non c'era non è inglese mi ha detto la bibliotecaria esiste però una parola latina molto simile ubic significa ovunque completò giù francesca spanish a noi significa proprio questo ma non esiste nessun ubic ed era così che diceva la scritta nel sogno sono la stessa parola disse giù solo l'ortografia è diversa tu come lo sai chiese pat maliziosamente ranciter mi è apparso ieri disse giù in uno spot pubblicitario registrato per la tv prima della sua morte non si dilungò sui particolari gli parevano troppo complessi da spiegare almeno per il momento razza di miserabile idiota gli disse pat conley perché chiese lui e per te questa sarebbe la manifestazione di un uomo morto allora potresti prendere in considerazione anche le lettere che ha scritto prima della morte o gli appunti d'ufficio compilati nel corso degli anni o anche giù disse vado dentro a dare un'ultima occhiata al ranciter si staccò dal gruppo lasciandoli dove si trovavano e salì gli ampi scalini fino all'oscuro e gelido interno della camera mortuaria non vide nessuno solo una vasta sala con file di sedili simili a banchi di chiesa e sul fondo una barra circondata da fiori su un lato in una stanzetta laterale un antiquato organo a canne e pedali e alcune sedie pieghevoli di legno la camera mortuaria odorava di polvere e fiori una dolce miscela stantia che gli ispirò repulsione pensa a tutti i cittadini dello iowa si disse che in questa camera indifferente hanno abbracciato l'eternità pavimenti laccati fazzoletti pesanti abiti di lana nera tutto all'infuori delle monetine sugli occhi del morto e l'organo che suonava brevi inni simmetrici raggiunse la bara esitò poi guardò verso il basso un secco mucchietto di ossa bruciacchiate giaceva a un'estremità della bara culminando in un teschio che pareva di carta e lo fissava con gli occhi infossati simili a chicchi d'uva secca brandelli di abiti con lunghi peli ruvidi erano sparsi intorno al corpo sottile come se il vento li avesse radunati là come se il corpo respirando fosse stato cosparso di quei brandelli mediante un fievole e sibilante processo inalazione ed esalazione che ora erano cessate per sempre nulla si muoveva il misterioso mutamento che aveva già degradato wendy wright e al aveva evidentemente raggiunto la sua fine molto tempo prima anni prima penso ricordando wendy gli altri del gruppo lo avevano visto così oppure era successo dopo la cerimonia giù allungò una mano afferrò il coperchio di quercia della bara e la chiuse il tonfo del legno contro il legno e che già nella camera mortuaria deserta e nessuno lo sentì nessuno apparve accecato da lacrime di spavento usci dalla camera silenziosa e preda della polvere torno al debole chiarore del tardo pomeriggio cosa succede chiese don danny mentre lui si avvicinava al gruppo joe disse nulla sembri spaventato a morte disse pat conley con voce acuta nulla la fissò con profonda irosa ostilità tp jackson gli disse mentre eri là dentro hai visto per caso edy dorn è sparita disse john hild come sola spiegazione ma era qui fuori con voi protesto giù ha continuato a lamentarsi tutto il giorno per il freddo e la stanchezza disse don danny può darsi che se ne sia tornata in albergo ne ha parlato prima diceva che voleva fare un sonnellino dopo la funzione probabilmente sta benissimo giù disse probabilmente è morta e rivolgendosi a tutti loro aggiunse credevo che mi aveste capito se uno di noi si separa dagli altri non sopravvivrà a lungo ciò è già successo a wendy ad ali a ranziter si interruppe ranziter è stato ucciso dall'esplosione fece don danny tutti noi siamo stati uccisi dall'esplosione disse joe lo so perché ranziter in persona me lo ha detto lo ha scritto sulla parete del gabinetto degli uomini nella nostra sede di new york e ho visto ancora quella scritta su quello che dice è pazzesco lo interruppe seccamente pat conley ranziter è morto oppure no e noi siamo morti o vivi prima dice una cosa poi ne dice un'altra non puoi essere coerente cerchi di esserlo intervenne john hilde gli altri i volti contorti e raggrinziti dall'ansia annuirono la loro muta approvazione joe disse posso raccontarvi ciò che diceva la scritta sul muro posso parlarvi del registratore consunto e delle istruzioni che lo accompagnavano posso parlarvi dell'annuncio televisivo di ranziter del biglietto nella stecca di sigarette a baltimora posso parlarvi dell'etichetta sul flacone di elisire di ubic ma non posso far quadrare tutti questi fatti in ogni caso dobbiamo tornare all'albergo per tentare di raggiungere edy dorn prima che incomincia ad appassire e muoia irreversibilmente dove possiamo trovare un tassi il cimitero ci ha offerto un'auto che possiamo usare finché resteremo qui disse don danny quella per serra o laggiù gliela indicò corsero tutti verso la vettura non possiamo entrarci tutti disse tippy jackson mentre don danny spalancava la solida portiera di ferro e saliva sull'auto chiedete a bliss se possiamo prendere la willis knight disse joe mise in moto il motore della piercero e non appena furono saliti a bordo tutti quelli che potevano entrarci guidò l'auto fino a immetterla nella affollata via principale di demoine la willis knight li seguì da vicino il clacson strombazzante con una nota dolorosa per avvertire joe che veniva anche lei infilate il saporito ubic nel vostro tostapane è composto solamente di frutta fresca e sani grassi completamente vegetali ubic trasforma ogni colazione in un festino mette un torrone in ogni vostro boccone innocuo se usato secondo le istruzioni uno alla volta si disse joe chip pilotando la grossa auto in mezzo al traffico stiamo soccombendo c'è qualcosa di sbagliato nella mia teoria eddy essendo con il gruppo avrebbe dovuto restare immune mentre io dovevo essere io a lasciarci le penne penso in qualsiasi istante del mio lento volo da new york quello che dobbiamo fare disse a don danny e assicurarci che chiunque di noi si senta stanco perché questo sembra essere il primo sintomo lo dica subito a tutti gli altri e non dobbiamo allontanarci dal gruppo voltandosi per vedere in viso quelli che stavano sul sedile posteriore don disse avete sentito bene non appena uno di voi si anche non molto deve venirlo a dire a me o al signor chip si girò verso joe e poi domandò e poi cosa joe gli fece ecco pat conley poi cosa facciamo dici cosa fare joe ti ascoltiamo joe le disse mi sembra strano che tu non possa usare il tuo talento questa situazione sembra fatta apposta perché non torni indietro nel tempo di 15 minuti e non impedisce a eddie dorne di allontanarsi ripeti quello che hai fatto la prima volta che ti ho presentato a ranziter è stato gg ashwood a presentarmi a ranziter disse pat quindi non intendi fare nulla disse joe semi mondo ridacchio e disse la signorina conley e la signorina dorne hanno avuto uno scontro ieri sera mentre stavamo cenando alla signorina conley non piace dorne è per questo che non vuole aiutarla e di mi piaceva disse pat hai qualche motivo per non fare uso del tuo talento le chiese don danny joe ha ragione è molto strano è difficile da capire almeno per me che tu non tenti nemmeno di aiutarla dopo un attimo di esitazione pat disse il mio talento non funziona più non ha più funzionato dopo l'esplosione della bomba sulla luna e perché non l'hai detto disse joe non mi andava di dirlo accidenti perché avrei dovuto ammettere di mia iniziativa il fatto che non potevo fare più nulla io continuo a tentare e quello continua a non funzionare non accade nulla non mi era mai successo nulla di simile ho avuto quel talento per tutta la vita quando hai cominciò joe la prima volta con ranziter disse pat sulla luna prima che tu me lo chiedessi così lo sapevi fin da allora ho tentato un'altra volta a new york quando tu eri appena arrivato da zurigo ed era evidente che era successo qualcosa di spaventoso a wendy e ho tentato anche adesso ho iniziato non appena tu hai detto che probabilmente ed era morta forse perché ci troviamo in questo periodo temporale forse i miei poteri psionici non funzionavano nel 1939 ma ciò non spiegherebbe il tentativo sulla luna a meno che noi non avessimo iniziato la regressione senza accorgercene si abbandonò a un silenzio pensieroso girò il suo sguardo vuoto sulle strade di demoine una espressione amara sul viso volitivo e selvaggio questo quadra si disse joe ovviamente il suo talento per viaggiare nel tempo non funziona più questo non è realmente il 1939 e noi ci troviamo completamente al di fuori del tempo ciò prova che al aveva ragione le scritte avevano ragione questa è semi vita come dicevano le frasi di ranziter però non lo disse agli altri nell'auto perché dire loro che siamo senza speranze pensò lo scopriranno anche troppo presto quelli più in gamba come danny probabilmente lo immaginano già basandosi su ciò che ho detto e su quello che loro stessi hanno scoperto ti preoccupa davvero tanto gli chiese don danny sapere che il suo talento non funziona più certo a noi giù speravo che potesse cambiare la nostra situazione c'è molto di più disse danny con acuta intuizione lo capisco dal tuo fece un cenno vago tono di voce forse comunque ne sono certo questo significa qualcosa ed è importante ti dice qualcosa devo andare dritto chiese giù rallentando la pierce arrow a un incrocio a destra disse tippy jackson pat disse vedrai una costruzione di mattoni con un insegna luminosa che si accende e si spegne il meremont hotel si chiama un luogo orribile una stanza da bagno ogni due camere e una vasca al posto della doccia il cibo poi incredibile e l'unica cosa da bere che vendono è qualcosa che si chiama nei il cibo mi piaceva disse don danny corne genuina di vacca invece di proteine sintetiche e autentico salmone il vostro denaro è buono chiese giù e in quel momento udì levarsi un lamento stridulo che che giù senza interruzioni alle sue spalle e questo che significa chiese a don danny non lo so rispose nervosamente danny se mi mondo disse è una sirena della polizia non hai segnalato prima di svoltare e come potevo disse giù non c'è nessuna leva sul volante avresti dovuto far segno con il braccio dal finestrino disse sammy la sirena era arrivata molto vicina ora giù voltando la testa vide una motocicletta che lo stava affiancando rallentò la corsa dell'automezzo incerto sul da farsi fermati accanto al marciapiede gli consigliò sammy giù obbedì scendendo dalla sua moto il poliziotto si avvicinò giù era un giovanotto dalla faccia di topo e dagli occhi duri studiò per un attimo giù e subito dopo disse mi faccia vedere la sua patente non ce l'ho disse giù faccia la contravvenzione e ci lascia andare la prego ormai poteva vedere l'albergo e disse danny è meglio che andiate avanti tutti insieme la willys knight li superò diretta all'albergo don danny pat semi mondo e tp jackson abbandonarono l'auto e si misero a rincorrere la willys knight che aveva iniziato a rallentare giù si trovò da solo ad affrontare il poliziotto il poliziotto gli chiese a qualche documento giù gli tese il portafogli con una penna rossa indelebile il poliziotto compilò la contravvenzione la strappò dal blocchetto e la tese a giù omissione di segnale niente patente di guida la citazione dice dove e quando dovrà presentarsi il poliziotto richiuso il blocchetto delle contravvenzioni restituì a giù il portafogli e tornò alla sua motocicletta avviato il motore scomparve con un guizzo nel traffico senza neppure guardare indietro per qualche oscuro motivo giù osservò la contravvenzione prima di infilarla nel portafogli poi la lesse una seconda volta lentamente la matita rossa indelebile la calligrafia che gli era familiare diceva corri un pericolo maggiore di quanto pensassi quello che pat con li dice è qui il messaggio finiva nel bel mezzo della frase si domandò quale fosse il seguito c'era qualcos'altro sulla contravvenzione la girò senza trovare nulla e la girò come prima non c'era altro scritto a mano ma in piccoli caratteri sul bordo inferiore del foglio di carta c'era un'iscrizione rivolgetevi alla farmacia archer per le più fidate medicine casalinghe e per la preparazione di ricette speciali di garantita efficacia prezzi economici non è molto su cui proseguire si disse giù eppure non era quello che avrebbe dovuto esserci scritto in fondo a una contravvenzione per un'infrazione al codice della strada si trattava chiaramente di un'ennesima manifestazione come quell'altra scritta in rosso smontando dalla pierce arrow entrò nel negozio più vicino un emporio di dolciumi e tabacchi posso usare il suo elenco telefonico chiese al proprietario di mezz'età che sfoggiava un largo sorriso sul retro disse amabilmente il proprietario con un cenno del grosso pollice giù trovò l'elenco e negli oscuri recessi del piccolo negozio cercò il numero della farmacia archer non riuscì a trovarlo chiudendo l'elenco si accostò al proprietario impegnato in quel momento a vendere un rotolo di wafer necco a un ragazzo sa per caso dove posso trovare la farmacia archer gli chiese da nessuna parte rispose il proprietario non più almeno e perché ne è chiusa da anni giù insistette mi dica lo stesso dov'era me la indichi su un foglio non è necessario posso mostrarle dov'era l'uomo si sporsa in avanti indicando qualcosa fuori dal negozio vede quell'insegna di barbiere laggiù vada fin là e guardi a nord il nord è da quella parte gli indico la direzione vedrà un vecchio palazzo con gli abbaini di colore giallo ci sono ancora un paio di appartamenti abitati ma il negozio al pian terreno è abbandonato potrà vedere ancora l'insegna farmacia archer così saprà di averla trovata è successo che ed archer si è ritrovato con quel cancro alla gola e grazie disse giù ne uscì dal negozio di nuovo nella pallida luce del tardo pomeriggio percorse rapidamente la strada fino all'insegna del barbiere e da quella posizione guardò verso nord vide l'alta costruzione verniciata di un giallo scrostato ai bordi del suo campo visivo ma qualcosa nell'edificio gli sembrò strano un bagliore un'irregolarità di contorni come se dalla realtà il palazzo si ritirasse a intervalli in un alone senza sostanza un'oscillazione continua ogni fase durava pochi secondi e subito cedeva il posto a quella opposta una variabilità quasi regolare come se una pulsazione organica governasse l'intera struttura come se fosse viva penso giù forse penso sono giunto alla fine prese a camminare verso il negozio abbandonato senza mai staccarne gli occhi lo guardò pulsare lo guardò mutare nei due stati mentre si faceva più vicino distinse la natura delle sue alterne condizioni in corrispondenza della maggiore stabilità lo vide divenire un piccolo negozio per la vendita di articoli casalinghi con commessi omeostatici un self service che offriva 10.000 prodotti utili a ogni inquilino moderno per tutta la vita lui non aveva fatto altro che servirsi da quegli pseudo mercanti computerizzati estremamente funzionali invece in concomitanza con la maggiore ondata di inconsistenza il negozio si trasformava in una piccola anacronistica farmacia con decorazioni in stile rococò nella triste vetrina notò cinti erneali scaffali di lenti correttive un mortaio e un pestello vasi con pastiglie assortite un cartello dipinto a mano con la scritta sanguisughe grosse ampolle di vetro contenenti l'eredità di pandora di grandi medicamenti e rimedi sovrani e dipinte su una larga tavola di legno che correva sotto le finestre del primo piano le parole farmacia archer nessun segno di un negozio chiuso vuoto e abbandonato il suo stadio del 1939 sembrava essere stato escluso allora penso giù entrandoci posso trovarmi trasportato al mio tempo d'origine oppure ancora più indietro del 1939 a me serve proprio una regressione uno stadio anteriore al 1939 riflette restò per qualche istante fermo là davanti avvertendo fisicamente l'ampiezza titanica di quelle due oscillazioni si sentì trascinato in avanti poi indietro poi di nuovo in avanti i pedoni gli passavano accanto senza notare nulla evidentemente nessuno di loro vedeva ciò che lui vedeva non percepivano né la farmacia archer né il negozio di casalinghi del 1992 era questo a stupirlo maggiormente mentre la struttura oscillava decisamente verso la sua fase antica giù fece un balzo in avanti e varcò la soglia entrando nella farmacia archer sulla destra un lungo banco dal ripiano di marmo scatole sugli scaffali dai colori sbiaditi l'intero negozio possedeva una qualità oscura non tanto dovuta all'assenza di luce quanto piuttosto a una specie di colorazione protettiva quasi che fosse stato costruito per armonizzarsi e fondersi con le ombre per essere permanentemente opaco possedeva una qualità pesante densa lo schiacciava verso il basso pesandogli addosso come qualcosa che gravasse in permanenza sulla sua schiena e aveva smesso di oscillare almeno per lui ora che c'era entrato si domandò se avesse fatto la scelta giusta adesso che era troppo tardi considerò l'alternativa e ciò che avrebbe significato il ritorno forse al suo tempo fuori da quel mondo reclinante su se stesso che si ripiegava all'interno del tempo fuori forse per sempre beh penso così è la vita si mise a girare per la farmacia osservando l'ottone e il legno sicuramente noce e giunse così allo sportello delle ricette sul retro un giovanotto arzillo che indossava un lungo camice grigio con molti bottoni sopra il panciotto gli si parò dinanzi in silenzio per parecchio tempo joe e l'uomo si fissarono reciprocamente senza dire una parola l'unico suono proveniva da un orologio a muro rotondo che aveva numeri latini sul quadrante il suo pendolo tecchettava avanti e indietro inesorabilmente alla maniera degli orologi ovunque joe disse vorrei un vasetto di ubic il balsamo disse il farmacista le sue labbra non sembravano ben sincronizzate con le parole da prima joe vide la bocca dell'uomo aprirsi le labbra muoversi e poi dopo un intervallo misurabile udile parole è un balsamo disse joe pensavo che fosse per uso interno il farmacista non rispose per un bel pezzo come se un golfo li separasse un era poi infine la sua bocca si aprì le labbra si mossero e di colpo joe udile parole ubic ha subito molte alterazioni mentre il produttore cercava di migliorarlo forse lei è abituato al vecchio ubic piuttosto che al nuovo il farmacista si voltò da un lato il suo movimento sembrò quello di una marionetta a passo ridotto l'uomo si mosse lentamente come in un passo di danza misurato secondo un ritmo esteticamente piacevole ma spettrale e pauroso abbiamo avuto grandi difficoltà a ottenere forniture di ubic recentemente disse fluttuando al posto di prima nella mano destra stringeva una lattina piatta e piombata che depose davanti a joe sul banco delle ricette questo è sotto forma di polvere alla quale lei deve aggiungere del catrame minerale il catrame è separato posso fornirglielo per molto poco la polvere ubic però è cara 40 dollari cosa c'è dentro chiese joe il prezzo lo aveva raggelato questo è un segreto del produttore joe prese la lattina sigillata e la sollevò alla luce niente in contrario se leggo l'etichetta faccia pure alla scarsa luce che entrava dalla strada joe tentò di decifrare l'etichetta e scoprì che continuava il messaggio scritto a mano sulla contravvenzione del poliziotto riprendendo nel punto esatto in cui la calligrafia di ranziter si era bruscamente arrestata assolutamente falso lei non ha ripeto non ha tentato di usare il suo talento dopo l'esplosione della bomba non ha tentato di reintegrare wendy wright o al hammond o eddie dorne ti sta mentendo joe e questo mi costringe a ripensare all'intera situazione ti farò sapere non appena sarò giunto a una conclusione nel frattempo stai attento fra l'altro la polvere ubic possiede un potere universale di guarigione se le istruzioni per l'uso sono seguite in modo attento e rigoroso posso pagarla con un assegno chiede joe al farmacista non ho con me i 40 dollari e ho un estremo bisogno di ubic si tratta davvero di un caso di vita o di morte frugò nella tasca della giacca cercando il libretto degli assegni lei non è di demois vero disse il farmacista si sente dall'accento no dovrei conoscerla di persona per accettare un assegno così cospicuo abbiamo avuto una vera invasione di assegni falsi durante le ultime settimane tutti da persone che non erano della città una carta di credito allora cos'è una carta di credito rimettendo sul banco la lattina di ubic giù si voltò e senza dire una parola uscì dal negozio attraverso la strada dirigendosi verso l'albergo poi si fermò e si voltò a guardare la farmacia vide soltanto una costruzione in rovina dipinta di giallo con tendine alle finestre dei piani superiori il pian terreno chiuso con tavole inchiodate e deserto attraverso le fessure nelle tavole scorse solo il boccheggiare dell'oscurità lo sbadiglio di una finestra infranta privo di vita e questo è tutto pensò l'opportunità di comprare una lattina di ubic si è dissolta anche se trovassi 40 dollari in mezzo alla strada però si disse ho ottenuto il resto dell'avvertimento di ranziter per quel che vale può anche non essere vero forse è soltanto la pazzesca e distorta opinione di un cervello morente oppure di un cervello ormai completamente morto come nel caso dell'annuncio televisivo cristo si disse tristemente supponendo che sia vero diverse persone qua e là lungo il marciapiede fissavano il cielo con aria assorta notandole anche giù sollevò lo sguardo schermando gli occhi contro i raggi inclinati del sole al tramonto distinse un punto che trasudava bianche scie di fumo un monoplano molto alto nel cielo che tracciava industriosamente una scritta mentre con gli altri pedoni giù guardava le strisce già per metà dissipate lasciavano un messaggio tienilo duro giù facile a dirsi penso lui facile anche a scriversi piegato da un inquieta depressione dai deboli prodromi di un terrore che stava ritornando si trascinò a fatica verso meremont hotel don danny gli venne incontro nell'atrio dell'albergo adorno di tapeti scarlati e con il soffitto incredibilmente alto tutto sommato quanto mai provinciale l'abbiamo trovata disse è tutto finito per lei almeno non è stato bello proprio per nulla adesso è sparito fred zafki io pensavo che fosse sull'altra auto loro pensavano che fosse con noi sembra che non sia salito su nessuno delle due così deve essere rimasto al cimitero sta succedendo molto più in fretta adesso disse giù si chiese se ubic sempre esibito sotto il suo naso in mille forme diverse ma sempre irraggiungibile avrebbe potuto cambiare qualcosa credo che non lo sapremo mai decise possiamo bere qualcosa qui chiese a don danny come va con i soldi i miei non valgono un accidente il cimitero sta pagando tutte le nostre spese istruzioni lasciate da ranciter anche il conto dell'albergo la cosa gli giunse strana quando era stata trattata quella faccenda voglio che tu dia un'occhiata a questa contravvenzione disse a danny gli passò il pezzo di carta o anche il resto del messaggio sono stato fuori per questo a cercare la fine della frase danny lesse la citazione poi la rilesse una seconda volta infine lentamente la restituì a giù ranciter pensa che pat conley stia mentendo sì disse giù hai pensato a quello che significherebbe la voce di danny si alzò di colpo vorrebbe dire che lei avrebbe potuto annullare tutto questo tutto ciò che ci è successo a partire dalla morte di ranciter potrebbe voler dire molto di più osservandolo danny disse hai ragione hai pienamente ragione sembra colpito e meravigliato per un istante e subito dopo acutamente attento la consapevolezza scintillò sul suo viso di un tipo quanto mai infelice non me la sento di rimuginarci sopra disse giù non mi piace niente di tutta questa storia è molto peggio di quello che pensavo prima di quello che pensava al hammond per fare un esempio e quello era già abbastanza brutto ma questa potrebbe essere la verità disse danny durante tutto quello che è successo disse giù ho sempre cercato di capire il motivo di ciò che succedeva ne ero certo che si avessi afferrato il motivo ma al non ha mai pensato al motivo si disse sia io che lui abbiamo finito col trascurare questo punto per un'ottima ragione danny disse non dire niente agli altri del gruppo questa faccenda può anche non essere vera e anche se lo fosse saperlo non sarà loro di nessun aiuto sapere che cosa disse pat conley alle loro spalle e che cosa non servirà a nulla si spostò fino a fronteggiarli con gli occhi incredibilmente neri e calmi sereni saturi di colore è stato un vero peccato per edy dorn e per fred zafsky penso che sia perduto anche lui questo non ci lascia in molti non è vero mi chiedo chi sarà il prossimo sembrava del tutto a suo agio padrona di sé tp si è distesa nella sua stanza non ha detto di sentirsi stanca ma credo che possiamo darlo per scontato non siete d'accordo dopo una pausa don danny disse sì sono d'accordo come te la sei cavata con la tua contravenzione giù disse pat tesi una mano verso di lui posso darle un'occhiata giù le passò la contravenzione il momento pensò è arrivato tutto e adesso accumulato nel presente in un solo istante come sapeva il mio nome quel poliziotto chiese pat dopo averla letta alzò gli occhi fissando attentamente giù e subito dopo don danny come mai qui si parla di me non riconosce la calligrafia si disse giù perché nulla è familiare ranziter disse giù la causa sei tu non è vero pat sei tu con il tuo talento noi ora siamo qui per causa tua e tu ci stai uccidendo uno per uno ma perché giù disse che motivo può avere in fin dei conti non ci conosce nemmeno è per questo che sei venuto alla ranziter associates le domando giù tentò ma inutilmente di mantenere ferma la propria voce nelle sue orecchie la sentiva ondeggiare indecisa e si disprezzò per questo gg ashwood ti ha scoperta e ti ha introdotta fra noi stava lavorando per ollis e questo che in realtà ci è capitato non l'esplosione della bomba ma tu pat sorrise e l'atrio dell'albergo esplose in faccia a joe chip alzate le braccia e sentitevi di colpo più ricche di curve con il nuovo reggiseno ultramorbido ubic e il reggiseno anatomico ubic special alzate le braccia e sentitevi di colpo più ricche di curve fornisce un sostegno fermo e rilassante al seno per l'intera giornata si è adattato secondo le istruzioni le tenebre ronzavano intorno a lui aderenti come lana calda e umida che si fosse coagulata il terrore che aveva già avvertito come premonizione uso ora con l'oscurità divenne completo e reale non sono stato prudente non ho seguito il consiglio di ranziter le ho lasciato vedere la contravvenzione cosa c'è giù la voce di don danny incrinata da un'ansia profonda cosa ti succede sto bene ora riusciva a vedere qualcosa nell'oscurità si erano formate linee grigie orizzontali come se il buio avesse iniziato a decomporsi mi sento solo stanco disse e si accorse solo in quel momento della stanchezza che aveva invaso il suo corpo non ricordava di averne mai provato prima una simile in tutta la sua vita danny disse ti accompagno fino a una sedia giù sentì la sua mano stretta sulla spalla sentì che danny lo guidava e questo lo spaventò più di tutto il arresto il bisogno di essere guidato si staccò da lui sto bene ripeti la figura di danny incominciava a prendere corpo accanto a lui si concentrò su di essa poi distinse di nuovo l'antiquato atrio dell'albergo con il lampadario di cristallo eccessivamente decorato e le sue complicate luci gialle lasciami sedere disse e a tentoni trovo una sedia fatta di canne rivolgendosi a pat don danny disse aspramente cosa io hai fatto non mi ha fatto nulla disse joe con voce che voleva essere ferma ma suono stridula e con i toni troppo alti come se fosse accelerata pensò stridula non è la mia voce esatto disse pat io non ho fatto nulla né a lui né a nessun altro joe disse voglio salire di sopra e stendermi per qualche minuto ti prenderò una stanza mormorò nervosamente danny cominciò a ronzare intorno a joe comparendo e scomparendo mentre le luci dell'atrio si abbassavano la luce si abbassò fino a un rosso opaco poi divenne più forte e infine si abbasso di nuovo resta qui su questa sedia giù torna subito danny si allontanò in direzione del banco pat rimase non posso fare nulla per te chiese amabilmente pat no rispose lui gli ci volle un profondo sforzo per dire ad alta voce quella parola stava attaccata alla caverna scavata nel suo cuore un buco enorme che cresceva ad ogni istante una sigaretta magari disse e pronunciare l'intera frase lo spossò sentì il suo cuore faticare il difficile battito accrebbe il suo fardello era un'oppressione che lo schiacciava come una grande mano che lo strizzasse ne hai una disse ancora e riusci a sollevare lo sguardo per fissarla in quella famosa luce rossa quel doloroso tremolante luccichio di una fiacca realtà mi spiace disse pat non ne ho giù mormorò cosa cosa mi sta succedendo un arresto cardiaco forse disse pat credi che ci sia un dottore in albergo riusci a dire ne dubito non vai a vedere non vuoi cercarlo pat disse penso che sia di origine puramente psicosomatica non sei ammalato sul serio ti riprenderai don danny di ritorno disse ti ho preso una stanza giù al primo piano camera 203 ci fu un attimo di silenzio e giù sentì i suoi occhi studiarlo sentì la preoccupazione nel suo sguardo giù hai un aspetto spaventoso fragile come se fossi sul punto di cadere a pezzi dio santo giù sai a chi somigli sembri ed i dorn quando l'abbiamo trovata oh non è niente di simile disse pat ed i dorn è morta giù non è morto non è vero giù giù disse voglio andare di sopra voglio coricarmi in qualche modo si tirò in piedi il suo cuore batteva tumultuoso sembrava esitare arrestarsi un momento e poi riprendeva con il tonfo di un lingotto di ferro contro il cemento ogni battito gli faceva tremare tutto il corpo dov'è l'ascensore ti accompagno io disse danny di nuovo la sua mano strinse la spalla di giù sei come una piuma disse danny cosa ti sta succedendo giù puoi dirlo puoi dirlo sai cos'è cerca di dirmelo non lo sa disse pat credo che dovrebbe farsi visitare da un medico e subito no disse giù se mi corico starò meglio si disse avvertiva una trazione oceanica un'enorme marea che cercava di trascinarlo via con sé doveva coricarsi con urgenza quella forza lo spingeva verso una sola cosa a stendersi sulla schiena lassù nella sua stanza da solo dove nessuno potesse vederlo devo andare via penso devo stare per conto mio perché si chiese non lo sapeva quell'idea lo aveva invaso come qualcosa di istintivo irrazionale impossibile a capire o da spiegare vado a cercare un medico disse danny pat resta con lui non lo perdere mai di vista tornerò appena possibile se ne andò giù vide appena la sua figura che si ritirava danny sembrò rimpicciolirsi ridursi a nulla poi scomparve definitivamente patricia conley rimase ma la sua presenza non lo faceva sentire meno solo il suo isolamento nonostante la sua presenza fisica era ormai diventato assoluto allora giù disse lei che cosa desideri cosa posso fare per te devi solo dirlo l'ascensore disse lui vuoi che ti guidi fino all'ascensore ne sarò felice pat si avviò e lui come meglio poteva la seguì gli sembrava che lei camminasse insolitamente veloce non lo aspettava e non si voltava neppure lui non riusciva a tenerle dietro la mia immaginazione si chiese che me la fa vedere così veloce devo essere io sono io a essere rallentato compresso dalla forza di gravità il suo universo aveva assunto l'attributo della massa pura percepiva se stesso in un unico modo come un oggetto sottoposto alla pressione del peso una sola qualità un solo attributo e una sola esperienza l'inerzia non così svelta disse lui non riusciva più a vederla era agilmente scivolata fuori dal suo raggio visivo fermandosi là senza essere capace di muoversi oltre ansimo sentì il sudore colargli sul viso e gli occhi bruciare per la secrezione salata aspetta disse pat riapparve distinse il suo viso quando lei si chienò a osservarlo la sua espressione di perfetta tranquillità il disinteresse del suo sguardo il distacco scientifico vuoi che ti asciughi il viso gli chiese tirò fuori un fazzolettino raffinato e con gli orli di merletto e sorrise dello stesso sorriso di prima basta che mi porti all'ascensore costrinse il suo corpo a muoversi in avanti un passo due ora poteva scorgere l'ascensore con parecchie persone ferme in attesa il quadrante vecchio stile sopra le porte scorrevoli con la sua lancetta la lancetta lago barocco oscillò tra il 3 e il 4 si ritirò sulla sinistra raggiungendo il 3 ed esitò tra il 3 e il 2 sarà qui fra un attimo disse pat tirò fuori le sigarette all'accendino dalla borsa ne accese una ed esalò dalle narici due sbuffi di fumo grigio è un modello molto antico di ascensore gli disse lei con le braccia concerte sai cosa credo credo si tratti di una di quelle gabbie aperte di ferro ti fanno paura la lancetta aveva passato il 2 ora si abbassò verso l'uno poi si fermò le porte scivolarono di lato giù vide la griglia della gabbia l'intelaiatura a traliccio vide il manovratore in uniforme seduto su uno sgabello la mano sulla manovella di comando salita disse il manovratore muoversi verso il fondo prego non voglio entrarci disse giù perché no disse pat pensi che il cavo possa spezzarsi è questo che ti spaventa vedo che sei spaventato è quello che ha visto al ebbene giù disse pat l'unico altro modo per salire nella tua camera sono le scale e tu non sei in grado di salirle non nelle tue condizioni salirò le scale si mosse allontanandosi cercando di individuare le scale non riesco a vedere penso non posso trovarle il peso che lo primeva gli torturava i polmoni rendendogli difficoltoso ogni respiro doveva fermarsi concentrarsi su ogni inspirazione solo su quello forse è un attacco cardiaco penso in tal caso non posso salire le scale ma il desiderio dentro di lui si era fatto più smanioso l'opprimente necessità di rimanere solo chiuso in una stanza vuota senza testimoni di sorta silenzioso e supino disteso senza bisogno di parlare senza bisogno di muoversi senza essere costretto a occuparsi di qualcuno di qualche problema e nessuno saprà dove sono si disse questo gli pareva inspiegabilmente molto importante voleva essere sconosciuto invisibile vivere non visto specialmente da pat pensò lei no non può restarmi vicina eccoci qua disse pat lo guidò facendolo girare leggermente a sinistra proprio di fronte a te aggrappati alla ringhiera e potrai salire alla meno peggio fino al tuo letto vedi salì velocemente gli scalini danzando e ammiccando equilibrandosi sulle punte dei piedi e volteggiando poi priva di peso fino allo scalino successivo puoi farcela giudice non ti voglio non venire con me oh caro schioccò la lingua contro il palato con ironica tristezza i suoi occhi neri scintillarono hai paura che io approfitti delle tue condizioni che ti faccia qualcosa magari del male no lui scossa la testa io voglio soltanto essere solo afferrandosi al corrimano riuscì a tirarsi sul primo gradino arrestatosi là sollevò lo sguardo tentando di intravedere la sommità della rampa tentando di determinare quanto fosse lontana e quanti scalini avesse ancora da salire il signor danny mi ha chiesto di rimanere con te posso leggere per te o portarti quello che vuoi posso occuparmi di te lui scalò un altro gradino solo ansimo pat disse posso guardare la tua arrampicata vorrei vedere quanto ci metti supponendo che tu riesca a farcela ce la farò mise il piede sullo scalino seguente afferrò la ringhiera e sisso il cuore gonfio gli mozzò il respiro in gola chiuso gli occhi e inghiottì similando una boccata d'aria strozzata mi chiedo se anche wendy ha fatto così disse pat è stata la prima non è vero giurantolo io ero innamorato di lei oh lo so me l'ha detto gg ashwood l'aveva letto nella tua mente e noi eravamo ottimi amici abbiamo trascorso un mucchio di tempo insieme potresti anche dire che avevamo una relazione sì potresti proprio dirlo la nostra teoria era esatta disse joe inghiotti un respiro più profondo quella continuando a parlare salì un altro scalino poi con uno sforzo tremendo un altro per cui tu e gg lavoravate per ray hollis allo scopo di infiltrarvi giustissimo convenne pat i nostri inerziali migliori ranziter spazzarci tutti via si arrampicò su un altro gradino non siamo nella semivita non siamo no voi potete morire disse pat non siete già morti almeno non tu in particolare ma state morendo adesso uno a uno perché parlarne lo hai già detto poco tempo fa e ormai mi stai annoiando a ripetere sempre le stesse cose sei una persona molto ottusa e pedante joe quasi ottuso quanto wendy wright avreste fatto una bella coppia perciò wendy è morta per prima disse lui non perché si fosse separata dal gruppo ma perché piegò la schiena mentre il dolore al cuore esplodeva violentissimo aveva tentato un altro scalino ma stavolta lo aveva mancato inciampò e si ritrovò seduto rannicchiato come si pensò come wendy nell'armadio rannicchiato così allungando una mano si attaccò alla manica della giacca tiro il tessuto si lacerò logoro e secco il materiale si sfilacciò come carta grigiastra non aveva più nervo come quella sostanza fabbricata dalle vespe così non c'erano più dubbi presto si sarebbe lasciato dietro una traccia una scia di frammenti di abiti sbriciolati una traccia che avrebbe guidato a una camera d'albergo e a un isolamento desiderato ardentemente le sue ultime azioni coscienti controllate da un tropismo un orientamento che lo spingeva verso la morte il decadimento il non essere una lugubre alchimia lo controllava e sarebbe culminata nella tomba salì un altro scalino sto per farcela penso la forza che mi spinge avanti sta divorando il mio corpo e per questo che wendy e al eddy e probabilmente ormai anche zavski si sono deteriorati fisicamente mentre morivano lasciando solamente un guscio vuoto senza peso che non conteneva nulla nessuna essenza nessuna densità consistente la forza si oppone al peso di molte gravità e questo è il prezzo questo uso del corpo che si affievolisce ma il corpo come fonte di energie sarà sufficiente a portarmi nella mia camera e in funzione una necessità biologica e probabilmente a questo punto neppure patta che l'ha avviata può interromperla si chiese cosa provasse lei ora nel vederlo scalare quei gradini lo ammirava oppure lo disprezzava alza la testa la cercò distinse il suo viso vitale di sfumature di colore solo interesse lì nessuna malevolenza un'espressione neutrale non se ne sentì sorpreso pat non aveva fatto nulla per ostacolarlo e nulla per aiutarlo sembrava giusto anche a lui ti senti meglio chiese pat no disse lui e raddrizzando in parte la schiena con questo il gradino successivo sembri diverso non più così sconvolto giù disse perché posso farcela lo so non sei più così troppo lontano a lui pat così tanto lontano la corresse lui sei incredibile così pedante così piccolo anche negli spasimi della morte tu si corresse astuta e felina in quelli che probabilmente a te sembrano soggettivamente gli spasimi della morte non avrei dovuto usare quel termine spasimi della morte potrebbe deprimerti cerca di essere ottimista ok dimmi soltanto disse lui quanti scalini ancora sei lei corse avanti senza far rumore senza sforzo no mi spiace dieci oppure nove penso che siano nove di nuovo lui scalò un gradino poi il seguente e il seguente non parlo più non tentò nemmeno di vedere abbarbicato alla durezza della superficie che lo sosteneva strisciò come un serpente verso l'alto scalino dopo scalino sentendosi nascere dentro una capacità di comprendere con esattezza come scivolare come sfruttare fino all'ultimo le sue energie ormai all'omicino ci sei quasi disse gaillamente pat sopra di lui hai qualcosa da dire giù nessun commento sulla tua grande scalata la più grande scalata della storia dell'uomo no non è vero wendy e al e eddie e fred zafsky l'hanno compiuta prima di te ma questa è l'unica che abbia visto con i miei occhi joe disse perché io voglio guardarti joe a causa di quella tua attresca di infimo ordine a zurigo quando hai voluto che wendy wright passasse la notte nella tua camera d'albergo ora stanotte sarà diverso sarai solo anche quella notte disse giù lo ero solo un altro scalino un attacco convulso di tosse e nelle gocce scagliate dalla sua faccia solcata dal dolore si esaurirono le sue ultime forze lei era là non nel tuo letto ma da qualche parte nella stanza tu comunque hai dormito e basta pat rise sto tentando disse giù di non tossire fece alcuni scalini e seppe che aveva quasi raggiunto la cima da quanto tempo si trovava sulle scale non aveva modo di capirlo scoprì allora con uno shock che oltre a essere esausto il suo corpo era gelato quando è successo si chiese prima il freddo doveva essersi infiltrato dentro di lui poco alla volta e fino a quel momento lui non se n'era accorto oddio pensò e fu scosso da brividi frenetici le sue ossa sembravano sul punto di spezzarsi peggio che sulla luna molto peggio perfino peggio del gelo che aveva regnato nella sua camera zurigo quelli non erano stati che segni premonitori il metabolismo riflette un processo di combustione una fornace attiva quando cessa di funzionare la vita è finita devono essersi sbagliati a proposito dell'inferno si disse l'inferno è freddo ogni cosa laggiù è gelo il corpo significa peso e calore ora il peso è una forza alla quale sto soccombendo il calore il mio calore mi sta lasciando a meno che io non rinasca il calore non tornerà mai più questo è il destino dell'universo così almeno non sarò solo ma si sentiva solo mi sta vincendo troppo in fretta pensò il tempo giusto non è ancora venuto qualcosa ha accelerato il processo una presenza complice che ha incalzato le cose con malizia e curiosità un agente polimorfico e perverso che ama guardare un'entità infantile e ritardata che si davanti a ciò che sta succedendo mi ha schiacciato come un insetto dalle zampette curve riflette un semplice insetto che non fa nulla tranne abbracciare la terra che non può mai volare e fuggire può discendere solamente in tutto ciò che è distorto e pazzesco passo dopo passo nel mondo di tomba che una perversa entità ha eletto a sua dimora dopo averlo circondato di tutta la sua immonda spazzatura la cosa che chiamiamo pat e la chiave chiese pat della tua camera pensa come sarebbe divertente se scoprissi di essere arrivato fino a questo piano dopo aver perso la chiave della stanza ce l'ho giù frugone le tasche la giacca si disfece in filamenti e brandelli che gli caddero dalle spalle poi cadde la chiave che scivolò andando a finire due scalini più sotto oltre le sue possibilità pat disse brevemente te la raccolgo io staccandosi da lui sì chi no e la raccolse sollevandola alla luce per esaminarla poi la depose in cima alla rampa delle scale sul corrimano eccola qui disse lei dove potrai raggiungerla dopo aver terminato la salita la tua ricompensa la camera credo è sulla sinistra la quinta porta dovrai muoverti alla svelta ma sarà molto più facile non appena avrai finito le scale quando avrai terminato la salita riesco ancora a vedere disse lui la chiave la cima delle scale aggrappandosi con entrambe le mani alla ringhiera si sollevò oltre i tre scalini che ancora gli mancavano con un supremo sforzo si sentì distrutto il peso aumentò sulle sue spalle il gelo si fece più acuto e la consistenza del suo stesso corpo si affievolì ma aveva raggiunto la vetta addio giù disse pat si chinò sopra di lui in modo da mostrargli il suo volto tu non vuoi che don danni entri nella tua stanza vero un medico non potrebbe aiutarti così gli dirò che ho fatto chiamare un tassi e che ti sei diretto all'ospedale in questo modo non sarai disturbato puoi essere tutto tuo sei d'accordo sì disse lui ecco la chiave lei infilò la fredda cosa di metallo nel suo pugno e lo strinse intorno a essa tieni alto il mento come dicono qui nel 39 e non accettare nichelini di legno dicono anche questo pat si allontanò leggera per un attimo si fermò a osservarlo poi percorse veloce il corridoio fino all'ascensore la vide premere il pulsante attendere vide le porte aprirsi per lei e poi scomparve stringendo la chiave si issò faticosamente in una posizione ingobbita rimase in equilibrio contro la parete del corridoio poi prese a camminare a passi brevi verso sinistra reggendo il peso del proprio corpo grazie all'aiuto del muro buio pensò non c'è illuminazione strizzò più volte le palpebre le riaprì ammiccando il sudore dalla fronte lo accecava ancora e pungeva non sapeva dire se il corridoio fosse realmente al buio o se fosse la sua vista ad andarsene quando arrivò alla prima porta si era già ridotto a stresciare sollevò la testa cercando il numero sulla porta no non era quella continuò a stresciare quando trovò la sua porta dovette tirarsi in piedi appoggiandosi alla parete per infilare la chiave nella serratura lo sforzo gli diede il colpo di grazia con la chiave ancora in mano cadde la sua testa colpì l'uscio di legno e lui ricadde all'indietro sulla mochetta del corridoio soffocata dalla polvere con l'odore della spossatezza del tempo e della gelida morte nelle narici non posso entrare nella stanza penso non posso più alzarmi ma doveva farlo lì fuori lo avrebbero visto attaccandosi alla maniglia con entrambe le mani riuscì a riportarsi un'altra volta in piedi appoggiò interamente il suo peso contro la porta mentre tremando alzava la chiave fino all'altezza della maniglia e della serratura in questo modo non appena fosse riuscito a infilare la chiave a girarla la porta avrebbe ceduto e lui sarebbe caduto all'interno e allora penso se riesco a chiudere l'uscio dietro di me e a raggiungere il letto sarà tutto finito la serratura grattò il blocco metallico scattò all'indietro la porta si aprì sotto il peso del suo corpo e lui cadde in avanti le braccia allungate ad attutire l'urto il pavimento si avvicinò al suo viso e lui distinse i disegni sul tappeto curve e forme floreali in giallo e rosso ma oramai usurate fino a mostrare la trama i colori erano impalliditi e mentre colpiva il pavimento senza quasi provare dolore pensò questa stanza è davvero molto vecchia quando costruirono questo palazzo probabilmente ci installarono uno di quegli ascensori a gabbia metallica e io penso ho visto l'ascensore autentico quello originale restò disteso a lungo poi come l'avessero chiamato tornò a muoversi si alzò sulle ginocchia mise le mani aperte davanti a sé le mie mani penso buon dio mani di pergamena gialle bitorsolute come il culo di un tacchino arrosto pelle secca ruvida non più simile a epidermide umana i pori di penne allo stato nascente come se fossi tornato a milioni di anni fa trasformandomi in qualcosa che vola e plana usando la propria pelle come vela aprendo gli occhi cercò il letto dovette fare uno sforzo per identificarlo la larga finestra sul fondo della stanza che permetteva attraverso la sua ragnatela di tendine l'ingresso a una luce grigia un tavolino da toletta orribile con le gambe dritte e smilze infine il letto con pomi di ottone che incorniciavano le grate laterali storte e irregolari come se gli anni di uso avessero contorto le ringhiere e la testiera in legno verniciato voglio andarci anche vestito si disse si trascinò in quella direzione scivolò e riprese l'avanzata e vide allora la figura seduta in una poltrona imbottita che lo stava fissando uno spettatore che non aveva fatto il minimo rumore ma che ora si alzò di scatto e gli si avvicinò rapidamente glen ranziter non ho potuto aiutarti a salire le scale disse ranziter il viso pesante e severo lei mi avrebbe visto inoltre avevo anche paura che venisse in camera con te e in quel caso saremmo stati nei guai perché lei si interruppe chinandosi su giù e sollevandolo in piedi come se fosse senza peso ne parleremo più tardi vieni sorreggendolo per un braccio gli fece attraversare la stanza non verso il letto ma verso la poltrona imbottita che lui aveva occupato sino al momento prima puoi resistere ancora qualche secondo chiese ranziter voglio chiudere a chiave la porta nel caso che lei cambi idea sì disse giù con tre lunghi passi ranziter fu alla porta la chiuse e tirò il catenaccio poi tornò verso giù aperto un cassetto del tavolino da toletta ne strasse in fretta una bomboletta spray decorata con strisce cerchi e scritte che glorificavano la sua superficie lustra ubic disse ranziter scosse con vigore la bomboletta e la puntò in direzione di giù non ringraziarmi per questo disse e spruzzò a lungo verso destra e verso sinistra l'aria palpitò scintillò come se fossero state liberate particelle di luce come se la luce stessa del sole risplendesse in quella vecchia camera d'albergo ti senti meglio l'effetto è quasi istantaneo dovresti già ottenere una reazione ranziter lo osservò con occhi ansiosi occorre ben più che un sacchetto per conservare il sapore dei cibi ci vuole ubic l'avvolgente in plastica in realtà quattro strati in uno conserva la freschezza isolando dall'aria e dal vapore osservate questo test simulato hai una sigaretta disse giù la sua voce tremava ma non a causa della stanchezza e non era neppure il freddo entrambe le sensazioni erano scomparse sono teso si disse ma non sto più morendo il processo è stato arrestato dallo spray ubic come aveva detto ranziter ricordò nello spot televisivo se lo avessi trovato tutto sarebbe andato bene ranziter lo aveva promesso ma penso tristemente c'è voluto molto tempo e quasi non ce la facevo senza filtro disse ranziter in questo periodo schifoso arretrato e buono a nulla non mettevano ancora il filtro alle sigarette tese a giù un pacchetto di carnei te l'accendo io strofinò un fiammifero e lo allungò verso l'amico è fresca disse giù oh diavolo è certo questo le ho appena comprate di sotto dal tabaccaio dell'albergo le abbiamo fatte di strada ormai dallo stadio del latte ragromato e delle sigarette ammuffite sogginò rigidamente gli occhi decisi e scuri che non riflettevano alcuna luce dentro il processo disse non fuori c'è una bella differenza si accese lui pure una sigaretta appoggiandosi allo schienale fumò in silenzio con un'espressione ancora severa è stanca decise giù ma non quel genere di stanchezza che lui aveva dovuto sopportare giù disse puoi aiutare anche l'arresto del gruppo ho soltanto una bomboletta di ubic e ho dovuto usarla quasi tutta per te fece un gesto irritato le sue dita si agitarono in un tremore di rabbia non rassegnata la mia capacità di alterare le cose in questo tempo è limitata ho fatto quello che potevo il suo capo ebbe un sobbalzo mentre alzava gli occhi su giù ho cercato di mettermi in contatto con voi con ognuno di voi ogni volta che potevo in tutti i modi ho fatto tutto ciò che era in mio potere dannatamente poco quasi nulla ripiombò in un silenzio abbattuto quei graffiti sul muro del gabinetto disse giù hai scritto che noi eravamo morti e tu vivo io sono vivo disse con voce roca ranziter e noi tutti siamo morti dopo una lunga pausa ranziter disse sì ma quell'annuncio pubblicitario alla televisione quello è stato fatto unicamente per spingerti a lottare a cercare ubic e in questo è servito perché hai continuato a cercarlo ho tentato di fartelo avere in tutti i modi ma sai anche tu che cosa non ha funzionato lei continuava a trascinare tutti nel passato ha applicato quel suo talento a ognuno di noi continuando a far regredire ogni cosa nel tempo lei ha reso inutile ubic tranne per quegli appunti che sono riuscito a farti arrivare ranziter puntò un grosso dito contro giù agitandolo con vigore considera quello contro cui ho dovuto lottare la stessa cosa che si è impadronita di tutti voi uccidendovi uno a uno francamente sono ancora sorpreso di avere potuto fare ciò che ho fatto giù chiese quando hai capito cosa stava succedendo o lo hai sempre saputo fin dall'inizio all'inizio gli fece ecco pungente ranziter cosa significa è iniziato mesi o forse anni fa dio solo sa per quanto tempo hollis e mic e pat conley e sdol melipon e gg ashwood hanno covato questo colpo plasmandolo e impastandolo come pasta di pane ecco cosa è successo siamo stati attirati sulla luna abbiamo portato con noi pat conley una donna che non conoscevamo un talento che non capivamo che probabilmente neppure hollis capisce un'abilità connessa in qualche modo con la regressione del tempo non proprio una capacità di viaggiare nel tempo perché lei per esempio non può andare nel futuro in un certo senso non può neppure andare nel passato ciò che riesce a fare da quello che ho capito è iniziare un controprocesso che riporta a galla gli stadi primitivi delle configurazioni materiali ma questo lo sai già tu e al lo avete scoperto di grignò i denti con rabbia al hammond che perdita non ho potuto fare nulla non potevo intervenire allora come ho fatto adesso perché adesso ci sei riuscito domanda giù ranziter disse perché questo è il passato più lontano che lei può farci raggiungere non può portarci oltre il normale scorrere in avanti del tempo è già ripreso stiamo fluttuando in questo stesso momento dal passato verso il presente e il futuro evidentemente lei ha spinto al massimo il suo talento il 1939 questo è il suo limite ora non ha fatto altro che smettere di usare il suo talento perché ormai ha terminato il lavoro che a ray hollis l'aveva mandato a fare quante persone ne sono state colpite solo il nostro gruppo quello che era radunato in quella stanza sotterranea sulla luna so virt non è stata neppure toccata pat è in grado di circoscrivere l'azione del campo che genera è per quel che ne sa il mondo noi siamo partiti per la luna siamo stati fatti a pezzi da un'esplosione accidentale siamo stati congelati dal sollecito stanton mick ma nessun contatto ha potuto essere stabilito con le nostre menti non ci hanno congelati abbastanza in fretta joe disse perché l'esplosione della bomba non sarebbe bastata sollevando un sopracciglio ranziter lo fissò perché usare pat conley disse joe avvertiva pur nel suo stato dovuto al nervosismo e alla stanchezza qualcosa che non quadrava non c'è motivo che spieghi questa macchinosa regressione il riportarci indietro nel tempo fino al 1939 non ha nessuno scopo nessun senso questo è un punto interessante disse ranziter a noi lentamente con una smorfia sul viso rugoso di pietra dovrò pensarci sopra dammi un po di tempo si avvicinò alla finestra e rimase a fissare i negozi sull'altro lato della strada quello che mi colpisce è il fatto che il nostro antagonista sembra essere più malvagio che è motivato disse joe non si tratta solo di qualcuno che tenta di ucciderci o annullarci qualcuno che tenta di eliminarci come organizzazione di prudenza ma riflette in silenzio c'era quasi arrivato è una entità irresponsabile che si diverte per quel che ci accade il modo in cui ci sta uccidendo uno dopo l'altro non c'è nessun motivo per prolungare l'eliminazione non mi sembra per nulla lo stile di ray hollis lui si occupa di omicidi freddi e pratici e da quel che so di stanton mick è patta stessa l'interrupper anziter bruscamente si voltò dalla finestra psicologicamente è una sadica di quelle che strappano le ali alle mosche sta giocando con noi attese la reazione di joe joe disse a me sembra piuttosto l'opera di un bambino ma rifletti su pat conley è gelosa e vendicativa ha colpito per prima wendy solo per animosità personale ti ha guardato salire le scale fin qui godendo di ogni tua sofferenza beandosene addirittura questo come lo sai chiese joe stavi aspettando qui in questa stanza si disse non potevi vedermi e poi come aveva saputo anziter che lui sarebbe entrato in quella stanza lasciando uscire un respiro con un suono aspro rumoroso ranziter disse non ti ho raccontato tutta la verità a dire il vero esitò masticandosi selvaggiamente il labbro inferiore poi continuò quel che ti ho detto non è del tutto esatto io non mi trovo nelle stesse vostre condizioni in questo mondo regredito hai perfettamente ragione io so troppe cose questo perché io entro in questo mondo dall'esterno giù manifestazioni disse giù sì inserite in questo mondo quella in punti e momenti strategici come la contravenzione del paliziotto come la farmacia di tu non hai registrato sul nastro quell'annuncio televisivo disse giù era indiretta ranziter con reluttanza annui perché questa differenza fra la tua situazione e la nostra chiese giù vuoi che te lo dica sì si preparò sapendo già quello che avrebbe sentito io non sono morto giù i graffiti dicevano la verità voi tutti siete congelati e io sto ranziter parlava con difficoltà senza fissare direttamente giù io sto seduto in una saletta di consultazione al moratorium di letti fratelli i vostri cervelli sono stati collegati fra loro per mio ordine mantenuti in contatto come gruppo e io sono lì fuori che cerco di raggiungervi è là che sto quando dico che sono all'esterno ecco il perché delle manifestazioni come le chiamate voi è ormai una settimana che sto tentando di farvi funzionare tutti in semivita ma non funziona vi state spegnendo uno alla volta dopo una pausa giù disse e pat conley già anche lei è con voi in semivita collegato all'arresto del gruppo le regressioni sono tutte opera del suo talento oppure sono dovute al normale decadimento della semivita aspettò con i nervi tesi la risposta di ranziter tutto da come la vedeva lui dipendeva da quell'unico punto ranziter sbuffò facendo una smorfia poi disse rauco il normale decadimento l'usura della semivita anche ella l'ho approvato chiunque entri nella semivita deve affrontarlo stai mentendo disse giù e si sentì trapassare da una lama gelata fissando l'oranziter disse dio mio giù ti ho salvato la vita sono arrivato qui appena in tempo per riportarti al completo funzionamento in semivita probabilmente ora potrai continuare indefinitamente se io non fossi stato qui ad aspettare in questa stanza mentre tu strasciavi attraverso quella dannata porta ora diavolo considera la tua posizione per la miseria saresti disteso su quel letto morto come un chiodo se non fosse stato per me io sono gleno ranziter sono il tuo principale colui che sta lottando per salvarti la vita sono il solo là fuori nel mondo reale che si sta interessando a voi continua a fissare giù con sorpresa e accresciuta indignazione una sorpresa attonita e ferita come se non glielo riuscisse di capire cosa stesse succedendo quella ragazza riprese ranziter quella pat conley ti avrebbe ucciso come ha già ucciso s'interruppe giù disse come ha già ucciso wendy al edi dorn fred zafsky e probabilmente ora anche tito apostos con voce bassa ma controllata ranziter disse questa situazione è molto complessa giù non ammette risposte semplici tu non le conosci le risposte disse giù questo è il problema tu le inventi le risposte hai dovuto costruire le risposte che spiegassero la tua presenza qui tutte le tue presenze in questo mondo le cosiddette manifestazioni non sono io a chiamarle così tu e al avete inventato quel nome non incolpare me di quello che voi due tu non sai niente di più di quello che so io al riguardo di quello che ci succede e dell'entità che ci sta attaccando disse giù glen tu non puoi dire contro chi stiamo combattendo perché non lo sai ranziter disse so di essere vivo so di stare seduto in questa sala di consultazione del moratorium il tuo corpo nella bara disse giù qui al cimitero del semplice pastore lo hai guardato no rispose ranziter ma questo non è certo si era rinsecchito continuo giù un guscio vuoto come quello di wendy al eddie e fra poco come il mio la stessa cosa per te niente di più niente di meno nel tuo caso ho preso ubic di nuovo ranziter si interruppe un'espressione difficile da decifrare apparve sul suo volto una combinazione di paura intuizione e maggio non riuscì a capire ti ho portato ubic concluse che cos'è ubic chiese giù dal ranziter non venne nessuna risposta non sai nemmeno questo disse giù non sai cosa sia o come funzioni non sai neppure da dove provenga poi seguì una lunga agonizzante pausa e al ranziter disse infine hai ragione giù pienamente ragione con mano tremante accese un'altra sigaretta ma volevo salvarti la vita questa parte è vera diavolo avrei voluto salvare la vita a tutti la sigaretta gli scivolò dalle dita colpì il pavimento rotolando lontana con un pesante sforzo ranziter si chinò a raccoglierla sul suo viso si notava un'estrema infelicità quasi una disperazione noi ci siamo dentro e tu sei seduto là fuori nella tua sala e non puoi farci nulla disse giù non puoi arrestare la cosa che ci sta trascinando è vero a noi ranziter noi siamo congelati ma c'è qualcosa di diverso disse giù qualcosa che non è naturale nel mondo delle persone in semivita ci sono due forze all'opera come aveva immaginato al una che intende aiutarci e un'altra che vuole distruggerci tu stai operando con la persona o l'entità che vuole aiutarci hai ottenuto ubic da loro sì giù disse così nessuno di noi conosce ancora l'identità del nostro distruttore e lo stesso vale per l'identità di chi ci protegge tu all'esterno non lo sai e noi che ci siamo dentro non ne sappiamo di più forse è patto io penso che sia così disse ranziter penso che il nemico sia lei giù disse può darsi ma io non credo non credo penso che noi abbiamo già incontrato il nostro nemico faccia a faccia e nemmeno il nostro amico ma succederà si disse prima che sia passato molto tempo sapremo di chi si tratta in entrambi i casi sei sicuro chiese a ranziter assolutamente sicuro di essere l'unico di noi che sia sopravvissuto all'esplosione pensaci bene prima di rispondere come ti ho detto the weird di noi disse giù la signorina weird non è in questo segmento temporale con noi pat conley ad esempio ha avuto il torace fracassato è morta per l'onda d'urto e per cedimento polmonare con diverse lesioni interne compreso un fegato spappolato e una gamba rotta in tre punti fisicamente parlando lei dista da te poco più di un metro il suo corpo voglio dire e tutti gli altri sono conciati nello stesso modo tutti i congelati al moratorium di letti fratelli ranziter disse con una sola eccezione sammy mondo ha sofferto profonde lesioni cerebrali ed è sprofondato in un coma dal quale dicono che non riemergerà più la corteccia allora lui è vivo non è congelato non è qui non lo chiamerei vivo gli hanno fatto un elettroencefalogramma non possiede più attività corticale un vegetale niente di più nessuna personalità nessun movimento nessuna coscienza nel cervello di mondo non succede nulla nel modo più assoluto giù disse così naturalmente prima non ne hai parlato te ne ho parlato adesso quando te l'ho chiesto io giù riflette quanto dista dai nostri corpi e a zurico anche lui sì lo abbiamo sistemato qui a zurico all'ospedale carl jung a un quarto di miglio dal moratorium non è già un telepate disse giù oppure usa gg ashwood fai esplorare la sua mente un ragazzo si disse disorganizzato immaturo una personalità informe strana e crudele potrebbe essere questo si disse quadrerebbe con quello che stiamo provando con gli avvenimenti contrastanti e capricciosi con lo strapparci le ali e poi rimetterle al loro posto anche con le temporanee riprese come la mia di questi ultimi minuti dopo la mia arrampicata sulle scale ranzite sospirò lo abbiamo fatto nei casi di danni cerebrali come questo è ormai una pratica normale tentare di raggiungere telepaticamente i soggetti nessun risultato nulla nessuna cerebrazione dei lobby frontali di alcun tipo mi dispiace giù scosse il capo massiccio con un movimento che voleva essere di comprensione ovviamente condivideva il disappunto di giù rimuovendo il disco di plastica dalla tempia glen ranziter disse nel microfono ti parlerò ancora più tardi depose davanti a sé i congegni di comunicazione e si alzò rigidamente in piedi per un istante si trovò fronteggiato dalla figura nebbiosa e ghiacciata di joe chip immobile dentro la sua bara di plastica dritta e silenziosa come sarebbe rimasta per il resto dell'eternità mi ha chiamato signore herbert schonheit von vogelsang si infilò di corsa nella sala di consultazione inchinandosi umile come un adulatore medievale te vuoi rimettere il signor chip insieme agli altri ha terminato signore ranziter disse ho finito è riuscito sì è andato tutto bene stavolta ci sentivamo a vicenda benissimo accese una sigaretta erano ore che non ne fumava una ore nelle quali non aveva avuto un solo momento libero l'arduo e prolungato sforzo per raggiungere joe chip l'aveva svuotato di ogni energia c'è un distributore di anfetamine da queste parti chiese al proprietario del moratorium nel corretario appena uscito dalla sala gli indicò il distributore lasciando la sala ranziter si diresse al distributore inserì una moneta spinse la leva e nella cassetta di raccolta cadde con un suono tintinnante un piccolo oggetto familiare la pillola lo fece sentire meglio ma poi pensò all'appuntamento con lenny gelman fissato per due ore dopo e si chiese se ce l'avrebbe fatta ci sono troppe cose in ballo decise non sono pronto per il mio rapporto formale alla società dovrò videofonare a nigelman e chiedere un rinvio usando un apparecchio oggettoni chiamò nigelman alla confederazione nord americana len gli disse non posso farcela per oggi ho tentato per 12 ore di mettermi in contatto con la mia gente congelata e sono esausto domani ti andrebbe bene ningelman disse prima ci presenti il tuo rapporto ufficiale prima potremo iniziare l'azione contro hollis il mio ufficio legale dice che è tutto pronto stanno affilando i coltelli pensano di riuscire ad appiccicargli una causa civile civile e penale hanno già parlato al procuratore distrettuale di new york ma finché non ci presenti un rapporto ufficiale autenticato domani promisera anziter dopo che avrò dormito qualche ora questa faccenda mi sta stroncando la perdita di tutti i miei elementi migliori penso specialmente joe chip la mia organizzazione è semidistrutta e non potremo riprendere le operazioni prima di mesi forse anni dio penso dove prenderò gli inerziali per rimpiazzare quelli che ho perduto e dove troverò un esaminatore psi come joe nigelman disse certo glenn fatti una buona notte di sonno e domani mattina ci troviamo nel mio ufficio diciamo alle 10 ora locale grazie disse anziter preppese e si trascinò pesantemente attraverso il corridoio verso un divano in plastica rosa non posso trovare un altro esaminatore come joe si disse a dirla chiara e tonda anziter associates è finita il proprietario del moratorium comparve allora esibendosi in una delle sue inopportuni apparizioni posso portarle qualcosa signor anziter una tazza di caffè altra anfetamina ma carri una confezione da tutti ci ore nel mio ufficio ho alcune confezioni da 24 ore una di quelle la rimetterebbe subito in sesto pronto per affrontare un'altra notte di laforo questa notte intendo dormire disse anziter allora che ne ti repiti un se levi dai piedi gracchiò anziter il proprietario del moratorium zampetto via lasciandolo solo perché diavolo scelto questo posto si chiese anziter immagino per la presenza di ella dopo tutto questo è il migliore per questo lei è qui e con lei tutti gli altri se penso a loro riflette che solo poco tempo fa erano tutti da questo lato della bara che catastrofe ella si disse ancora ricordando dovrei parlarle un momento per dirle come stanno andando le cose le avevo promesso che l'avrei fatto rialzandosi in piedi si mise alla ricerca del proprietario del moratorium avrò ancora tra i piedi quel maledetto giori si domandò il ritato oppure riuscirò a parlare con ella abbastanza lungo per raccontarle ciò che ha detto giù è diventato troppo difficile entrare in contatto con lei ora che giori cresce e si espande nutrendosi di lei e di chissà quanti altri che sono qui in semivita il moratorium dovrebbe fare qualcosa al proposito giori è un rischio per tutti quelli che sono ricoverati qui perché diavolo lo lasciano fare si chiese forse perché non possono fermarlo penso forse non c'è mai stato nessuno come giore in semivita prima d'ora non potrebbe darsi che io abbia l'alito cattivo tom senti ed se questo ti preoccupa prova il nuovo ubic con la sua potente azione schiomogena contro ogni tipo di germi garantito innocuo se usato secondo le istruzioni la porta della vecchia camera d'albergo si spalancò don danny accompagnato da un uomo di mezza età dal viso che ispirava fiducia e con i capelli grigi tagliati curtissimi entrò nella stanza danny il viso offuscato dalla prensione disse come ti senti giù perché non ti sei coricato per l'amore del cielo torna a letto la prego sicorichi signor chip disse il medico depositando la sua borsa sul tavolino da toletta e aprendola sente dolori oltre alla stanchezza e alle difficoltà di respirazione si avvicinò a letto con un antiquato stetoscopio e un'ingombrante attrezzatura per la misurazione della pressione sanguigna ha mai avuto attacchi cardiaci prima d'ora signor chip oppure li hanno avuti suo padre o sua madre si sbottò nella camicia prego trascinò una sedia di legno accanto al letto e si sedette apparentemente in attesa giù disse ora mi sento bene lascia che ti controlli il battito disse danny ok giù si coricò sul letto e aprì la camicia ranciter è riuscito a parlarmi disse rivolto a danny siamo tutti congelati lui è dall'altra parte e tenta di comunicare con noi qualcun altro invece sta tentando di farci fuori non si tratta di pat o comunque non di lei sola né lei né ranciter sanno cosa sta succedendo quando hai aperto la porta hai visto ranciter no rispose don danny si deve in questa stanza con me disse giù due tre minuti fa mi spiace giù è stata l'ultima cosa che ha detto poi ha interrotto il contatto ha cessato la comunicazione è stato cancellato via guarda sul tavolino e vedi se c'è rimasta la bomboletta di ubic danny cercò poi sollevò la bomboletta dai colori vivaci cioè ma sembra vuota danny la scosse quasi vuota disse giù spruzzati addosso quello che è rimasto avanti gesticolò enfaticamente non parli signor chip disse il dottore che lo auscultava con lo stetoscopio subito dopo arrotolò la manica di giù e presi ad avvolgere intorno al suo braccio la fascia di gomma che serviva a misurare la pressione com'è il mio cuore domanda giù sembra normale disse il medico anche se leggermente accelerato vedi disse giù a don danny sono guarito danny disse gli altri stanno morendo giù tirandosi a sedere per metà giù disse tutti quanti tutti quelli rimasti danny soppesò la bomboletta senza usarla anche pat chiese giù quando sono sceso dall'ascensore qui al primo piano l'ho trovata aveva appena cominciato a colpirla sembrava terribilmente sorpresa non riusciva a crederci rimise la bomboletta sul tavolino immagino che se ne consideri responsabile lei stessa con il suo talento giù disse esatto deve pensarla così perché non usi ubic diavolo giù stiamo per morire tutti tu lo sai e lo so anch'io si tolse gli occhiali cerchiati di corno e si strofinò gli occhi dopo aver visto pat in quelle condizioni sono entrato nelle altre stanze ed è stato così che ho visto anche il resto degli altri di noi per questo abbiamo impiegato tanto a venire qui li ho fatti visitare dal dottor taylor non potevo credere che degenerassero così in fretta l'accelerazione è stata maledettamente forte solo nelle ultime ore usa ubic disse giù oh sarò io a farlo don danny raccolse per la seconda volta la bomboletta la scosse di nuovo e puntò il beccuccio verso se stesso va bene disse se è questo quello che vuoi non c'è nessuna ragione per non farlo questa è la fine no voglio dire loro sono tutti morti restiamo solo tu e io e ubic si esaurerà nel giro di poche ore e non riuscirai ad averne un altro il che nascerà soltanto me presa la sua decisione danny premette il pulsante della bomboletta spray il palpitante vapore luminoso fitto di particelle di luce metallica che danzavano veloci si formò di colpo intorno al suo corpo don danny scomparve nascosto dalla nube di eccitazione ergica radiante interrompendo la misurazione della pressione di joe il dottor taylor girò la testa per vedere lui e joe osservarono insieme il vapore che ora si condensava pozze a residui luccicavano sul tappeto e lungo il muro dietro danny scorreva in strie splendenti la nube che nascondeva danny evaporò la persona che apparve là al centro della macchia vaporizzata di ubic che aveva inzuppato il vecchio tappeto stinto non era don danny un ragazzo adolescente snello e delicato al punto di apparire sdolcinato con occhi neri e tondi come bottoni sotto due sopracciglia arruffate indossava un costume anacronistico una camicia bianca del tipo lava e stendi al sole jeans e pantofole di pelle senza lacci abiti della metà del secolo sul suo viso allungato joe vide un sorriso ma si trattava di un sorriso malformato un'increspatura distorta che si trasformò in un sogginio di dirisione non c'erano due lineamenti che combaciassero i padiglioni delle orecchie contenevano un numero troppo alto di circonvoluzioni per adattarsi agli occhi chitinosi i capelli lisci contrastavano con le folte e i orsute sopracciglia simili a spazzolini e il suo naso penso giù troppo sottile troppo affilato troppo lungo anche il suo mento mancava di armonia con l'insieme del volto era marcato da un profondo colpo di scalpello quasi una fenditura che ovviamente penetrava ben dentro l'osso come se a quel punto penso giù il fabbricante di quella creatura le avesse assestato a un colpo inteso a cancellarla ma il materiale fisico la sostanza di base si era rivelata troppo densa il ragazzo non si era frantumato e spaccato in due esisteva a dispetto della stessa forza che lo aveva costruito sembrava sogghignare di tutto e anche di quella chi sei disse giù le dita del ragazzo si contorsero probabilmente una contrazione che lo proteggeva dal balbettare a volte mi chiamo matt a volte bill disse ma per lo più sono giori questo è il mio vero nome giori mostro i denti grigi e sporchi mentre parlava e una lingua non meno sporca dopo un certo tempo giù disse dov'è danny non è mai entrato in questa stanza vero morto penso con gli altri ho mangiato danny molto tempo fa disse il ragazzo giori proprio all'inizio prima che arrivassero qui da new york per prima ho mangiato wendy wright danny è stato il secondo giù disse cosa intendi per mangiato letteralmente si chiese sentendo la propria carne tremare di ripulsione il violento movimento fisico si propagò rotolando dentro di lui avvolgendolo come se il suo corpo volesse restringersi tuttavia riuscì più o meno a nasconderlo ho fatto quello che faccio di solito disse giori è difficile spiegarlo ma l'ho fatto parecchie volte ma parecchie persone in semivita io mangio la loro vita quello che ne rimane ce n'è così poca in ogni persona così a me ne servono tante prima aspettavo che fossero entrate da un po di tempo nella semivita ma ora devo prenderle subito se voglio restare in vita io se mi vieni vicino ascolti terrò la bocca aperta puoi sentire le loro voci non di tutti ma almeno degli ultimi che ho mangiato quelli che conosci con un'unghia si picchiettò su un incisivo superiore la testa inclinata da un lato mentre fissava giù evidentemente in attesa di udire la sua reazione non hai niente da dire gli disse sei stato tu a iniziare la mia agonia giù nell'atrio io e non pat lei l'ho mangiata qui fuori nel corridoio vicino all'ascensore e poi ho mangiato gli altri pensavo che tu fossi morto fece ruotare la bomboletta di ubic che teneva ancora stretta nella mano non riesco a capire che cosa sia cosa c'è dentro e dove l'ha trovata a ranziter scossa la testa ma hai ragione tu non può essere stato ranziter a costruirla lui è all'esterno e questa è stata prodotta nel nostro ambiente deve essere così perché dall'esterno non possono arrivare altro che parole giù disse così non puoi farmi nulla non puoi mangiarmi a causa di ubic non posso mangiarti per un po ma ubic si asciugherà tu non conosci questa sostanza non sai cosa sia e neppure da dove venga chissà se posso ucciderti si chiese giù giù sembrava un ragazzino delicato questa è la cosa che ha fatto fuori wendy pensò la vedo finalmente in viso come sapevo che sarebbe successo prima o poi wendy al il vero don danny tutti gli altri ha perfino mangiato il corpo di ranziter nella bar al cimitero doveva esserci rimasto un briciolo di attività protofasonica da qualche parte nel corpo o magari intorno qualcosa insomma che lo ha attirato il medico disse signor chip non ho modo di prenderle la pressione se non si curica giù lo fissò poi disse non ti ha visto cambiare giuri non ha sentito quello che stavi dicendo il dottor taylor è un prodotto della mia mente disse giuri come ogni altro elemento in questo pseudomondo non ci credo disse giù e al dottore chiese lei ha sentito quello che ha detto no con un vuoto schiocco fischiante il medico scomparve visto disse giuri compiaciuto cosa intendi fare quando mi avrai ucciso chiese giù al ragazzo continuerai a tenere in piedi questo mondo del 1939 questo pseudomondo come lo chiami tu certo che no non ci sarebbe nessun motivo per farlo allora tutto questo è per me questo intero mondo giuri disse non è molto grande un albergo a demois è una strada fuori dalla finestra con qualche persona e un paio di auto magari un paio di altri palazzi da qualche parte negozi dall'altra parte della strada nel caso tu voglia guardare fuori così non stai tenendo in piedi anche new york e zurigo e perché dovrei non c'è nessuno lì quando tu e gli altri del gruppo siete arrivati io ho costruito una realtà tangibile e corrispondente alle loro più piccole aspettative quando tu sei volato fin qui da new york ho dovuto costruire centinaia di chilometri di praterie città dopo città l'ho trovato davvero spossante ho dovuto mangiare molto per riuscire a farcela in effetti è stato per questo che ho dovuto finire gli altri così in fretta dopo il tuo arrivo dovevo riprendere le forze giù disse ma perché il 1939 perché non il nostro mondo contemporaneo il 1992 e lo sforzo non posso impedire agli oggetti di regredire e farlo da solo era troppo faticoso per me in principio ho creato il 1992 ma poi le cose hanno cominciato a cadere a pezzi le monete la panna le sigarette tutti quei fenomeni che hai notato e poi ranziter continuava a tentare di entrare dall'esterno quello mi ha reso le cose più difficili sarebbe certo andata molto meglio se lui non avesse interferito jory soghignò maliziosamente ma la regressione non mi preoccupava sapevo che avreste sospettato di pat conley sarebbe sembrato opera del suo talento perché era qualcosa di simile ho pensato anche che voi altri l'avreste uccisa mi sarebbe piaciuto il suo soghigno aumentò che senso a mantenere ancora questo albergo e la strada solo per me disse joe ora che io so ma io faccio sempre così gli occhi di jory si spalancarono joe disse ti ucciderò si mosse verso jory con un movimento male coordinato più simile a una caduta sollevando le mani aperte si tuffò verso il ragazzo tentando di afferrargli il collo alla ricerca disperata della sottile trachea con tutte le dita aperte ringhiando jory lo morse i grandi denti affilati si chiusero con forza intorno alla mano destra di joe si infilarono nella carne e arrestarono piantati là mentre jory alzava la testa trascinandosi dietro la mano di joe joe lo fissò senza battere ciglio continuando a ringhiare dolcemente nel tentativo di richiudere le mascelle i denti penetrarono più a fondo e joe sentì il dolore dilatarsi in tutto il braccio mi sta mangiando pensò non puoi gridò colpì jory al viso mollando pugni su pugni ubic non te lo permette disse cogliendo gli occhi beffardi di jory non puoi farmi questo biascicò giori lavorando di lato con le mascelle come una pecora e serrò la mano di joe finché il dolore divenne troppo forte joe gli diede un calcio i denti lasciarono la sua mano lui arretrò in fretta guardandosi il sangue che usciva dalle ferite dei denti da troll gesù si disse allibito non puoi fare a me quello che hai fatto a loro disse joe trovata finalmente la bomboletta di ubic puntò il beccuccio verso la mano ferita premette il pulsante rosso e un debole flusso di particelle andò a depositarsi con un breve volo sulla carne masticata e sanguinante il dolore scomparve immediatamente e sotto i suoi occhi la ferita guarì né tu non puoi uccidermi disse jory stava ancora sorghignando giù disse vado di sotto arrivò vacillante alla porta della camera e l'aprì fuori c'era il tetro corridoio si avviò verso le scale passo dopo passo camminando con cautela il pavimento comunque pareva solido non un mondo quasi o del tutto irreale non andare troppo lontano gli urlò dietro jory non posso tenere in piedi un'area troppo grande e se tu volessi salire su una di quelle auto e guidare per molti chilometri alla fine incontreresti un punto dove tutto finisce e non ti piacerebbe così come non piacerebbe a me non vedo cosa avrei da perderci disse jory raggiungendo l'ascensore schiacciò il pulsante di chiamata ho delle noie con gli ascensori gridò ancora jory sono complicati meglio che tu scendi per le scale dopo aver atteso ancora un po giù si arrese come gli aveva consigliato jory scese le scale le stesse che aveva salito di recente gradino dopo gradino in uno sforzo di vera agonia ebbene pensò ecco una delle due forze lavoro jory è quella che ci sta distruggendo che ci ha distrutti all'infuori di me dietro jory non c'è nulla lui è la fine ora incontrerò l'altra forza probabilmente non così presto perché faccia una differenza decise si guardò un'altra volta la mano perfettamente guarita raggiunto l'atrio dell'albergo giù si guardò intorno la gente il grande lampadario al soffitto jory sotto molti aspetti aveva fatto un ottimo lavoro nonostante la regressione a quelle forme più antiche è tutto reale si disse tastando il pavimento sotto i suoi piedi non posso fare meno di crederci avvicinandosi al banco dell'albergo chiese all'impiegato può consigliarmi un buon ristorante lungo la via disse l'impiegato facendo una pausa nello smistamento della posta e sulla destra il matador lo troverà eccellente signore sono solo disse ancora giù d'impulso l'albergo non può fornire compagnia qualche ragazza l'impiegato lo fissò e disse con voce di disapprovazione non in questo albergo signore questo albergo non viene meno alle sue regole morali volete che questo sia un buon albergo di famiglia un posto pulito disse giù ci piace pensarlo signore stavo solo mettendola alla prova disse giù volevo assicurarmi della qualità dell'albergo lasciò la reception attraverso l'atrio e scese gli scalini di marmo fino a infilare la porta girevole e a uscire sul marciapiede affacciatevi a ogni risveglio con una gustosa generosa colazione di nutrienti fiocchi d'avena tostati ubic il cereale per adulti più croccante più saporito più delizioso ubic il cereale per ogni colazione che vi farà vuotare tutta la scodella non eccedere le dosi raccomandate per ogni pasto la diversità degli automezzi lo impressionò molte annate erano rappresentate molte marche e molti modelli il fatto che la maggior parte fosse dipinta di nero non poteva imputarsi a giori quel dettaglio era autentico ma come poteva conoscerlo giori è strano pensò la conoscenza di giori delle minuzie del 1939 un periodo nel quale nessuno di noi ha vissuto all'infuori di glen ranciter poi di colpo capì il perché giori aveva detto la verità aveva costruito un mondo o meglio il suo fantastico corrispondente che apparteneva al suo tempo e la decomposizione a quelle forme non era dovuta a lui accadeva nonostante i suoi sforzi questi sono atavismi naturali si disse giù che si manifestavano automaticamente con il decrescere delle energie di giori come dice lui penso giù è uno sforzo tremendo questa è forse la prima volta che si trova costretto a creare un mondo così diversificato per tante persone in una volta sola non è normale che tanti semi vivi siano collegati fra di loro abbiamo imposto uno sforzo anomalo a giori si disse e abbiamo pagato per questo un vecchio tassì quadrato dodge gli passò accanto sputacchiando giù gli fece un cenno e l'auto si arrestò rumorosamente al lato del marciapiede controlliamo ciò che ha detto giori si disse a proposito dei confini di questo suo mondo e all'autista ordinò mi faccia fare un giro per la città vada pure dove le pare vorrei vedere il più possibile di demoine e poi quando avremo attraversato tutta la città voglio andare alla città più vicina né visitare anche quella non faccio servizio fuori città signore disse l'autista tenendo aperta la portiera per giù ma sarò felice di portarla a spasso per demoine è una bella città signore lei non è dello stato vero né di new york disse giù salendo sul tassì l'auto si infilò nel traffico cosa si dice della guerra a new york chiese subito l'autista lei crede che c'entreremo anche noi roosevelt vuole farci non mi interessa discutere di politica o della guerra tagliò corto giù proseguirono in silenzio per un certo tempo osservando le persone ai palazzi le auto che si muovevano accanto a loro giù si chiese ancora come facesse giori a mantenere una simile illusione un numero enorme di dettagli il limite doveva ormai essere vicino autista disse giù ci sono case di tolleranza qui a demoine no rispose l'autista forse giori non è capace di gestirli riflette giù a causa della sua età o forse li disapprova si sentì di colpo molto stanco dove sto andando si chiese e a fare cosa per provare a me stesso che le parole di giori sono vere io so già che sono vere ho visto il medico sparire ho visto giori emergere dal corpo di don danny questo dovrebbe essere sufficiente quello che sto facendo ora è mettere ancora di più giori sotto sforzo non farà che aumentare il suo appetito farei meglio smettere decise tutto questo è inutile come giori aveva detto lubick si sarebbe consumato comunque una passeggiata in auto per demoine non è il modo migliore per passare i miei ultimi minuti o le ultime ore di vita deve esserci qualcos'altro lungo il marciapiede una ragazza camminava comportamento lento e aggraziato sembrava intenta a osservare le vetrine una bella ragazza con allegre trecce bionde che indossava una giacchetta sbottonata sopra la camicetta una gunna rosso fuoco e piccole scarpe dai tacchi alti rallenti ordinò all'autista la vicino a quella ragazza con le trecce non le risponderà disse l'autista chiamerà un poliziotto giù disse non importa gli importava ben poco a quel punto rallentando la vecchia doggia accostò al marciapiede e gli pneumatici protestarono strisciando contro il cordolo di cemento la ragazza sollevò lo sguardo ehi signorina disse giù la ragazza l'osservò incuriosita i suoi occhi azzurri intelligenti e caldi si spalancarono leggermente ma non mostrarono antipatia o allarme piuttosto sembrava curiosa nel vederlo ma in modo amichevole sì sto per morire disse giù oh poveretto disse la ragazza preoccupata lei è non è malato intervenne l'autista stava cercando delle ragazze vuole soltanto abbordarla la ragazza scoppiò a ridere senza ostilità e non si allontanò è quasi ora di cena le disse giù lasci che l'accompagni in un ristorante al matador mi è sembrato di capire che è un buon locale ora la sua stanchezza era aumentata ne avvertiva il peso addosso e allora si accorse con muto ed esausto orrore che si trattava della stessa fatica che lo aveva salito nell'atrio dell'albergo dopo aver mostrato la contravvenzione a patto il freddo furtiva l'esperienza fisica del congelamento era tornato da lui lubick sta cominciando a perdere il suo affetto si disse non ho più molto tempo il suo viso doveva aver mostrato qualcosa la ragazza si avvicinò infilando la testa nel finestrino del tassi si sente bene gli chiese giù disse con uno sforzo sto morrendo signorina la ferita sulla mano il segno dei denti di giori aveva preso a pulsare di nuovo ma stava ritornando visibile soltanto quello sarebbe bastato a riempirlo di terrore si faccia portare all'ospedale disse la ragazza non possiamo cenare insieme le chiese giù è questo che vuole disse lei ora che in questo stato ammalato lei è ammalato ne aprì la portiera del tassi vuole che l'accompagnia l'ospedale al matador disse giù mangeremo filetto brasato di grillo talpa marziano ricordo allora che quella squisitezza importata non esisteva in quel periodo temporale una bistecca disse di manzo le piace il manzo la ragazza disse all'autista vuole andare al matador va bene disse l'autista il tassi si infilò nella circolazione all'incrocio seguente l'automezzo compì un'inversione di marcia ora penso giù siamo diretti al ristorante mi chiedo se ce la farà ad arrivarci gelo e stanchezza lo invasero completamente sentì i processi del suo corpo affievolirsi sempre più organi che non avevano un futuro il fegato non fabbricava più globuli rossi i reni non avevano più l'obbligo di espellere i rifiuti gli intestini non avevano più alcuno scopo solo il cuore a fatica continuava a battere e il respiro si era fatto difficoltoso ogni volta che ispirava aria poteva sentire il blocco che io premiva il petto la mia pietra tombale pensò vide che la mano aveva ripreso a sanguinare il sangue lento e scuro ricomparve goccia dopo goccia vuole una lucky strike gli offrì la ragazza tendendo il pacchetto verso di lui sono tostate come dice lo slogan l'altra frase pubblicitaria lsmft non esisterà fino al giù disse mi chiamo giù cip vuole che le dica il mio nome si rantolò lui e chiuse gli occhi non riuscì più a parlare per un po di tempo almeno le piace de mon chiese di colpo alla ragazza cercando di nasconderle la sua mano vive qui da molto sembra molto stanco signor chip disse la ragazza o diavolo fece lui con un cenno non importa invece sì la ragazza aprì la borsetta e frugò brevemente al suo interno io non sono una deformazione di giori disse poi non sono come lui indicò l'autista o come tutti quei piccoli negozi e le case e tutta quella gente e le loro auto neolitiche prenda signor chip dalla borsa estrasse una busta e gliela passò per lei la apra subito non credo che a nessuno di noi due convenga perdere altro tempo in questo modo con dita di piombo giù aprì la busta ci trovò un certificato a caratteri stampati e decorato con offregi le parole che vi erano stampate tuttavia nuotavano lui era troppo stanco per leggerle cosa dice le chiese lasciandosi cadere il certificato in grembo è della fabbrica che produce ubic disse la ragazza si tratta di una garanzia signor chip la garanzia di avere gratis per tutta la vita gratis perché conosco i suoi problemi con i soldi tutto l'ubic che le serve c'è una lista sul retro di tutte le farmacie che ce l'hanno due farmacie di demois non abbandonate sono sulla lista suggerirei di andare subito in una delle due prima di cena ehi autista si piegò in avanti e tesi all'uomo una striscia di carta con qualcosa scritto sopra ci porti a questo indirizzo e in fretta ormai stanno per chiudere joe si appoggiò all'indietro sul sedile ansimando per respirare arriveremo presto disse la ragazza e gli batte sul braccio con fare rassicurante chi è lei le domando a joe mi chiamo ella ella height ranziter la moglie del suo principale lei è qui con noi disse joe da questa parte e congelata anche lei come lei ben sa lo sono da parecchio tempo disse ella ranziter ma credo che abbastanza presto rinascerò in un'altra vita almeno glenn dice così continua a sognare una luce rossa e fumosa e questo è male non è un utero moralmente adeguato in cui rinascere rise con la sua voce calda è lei l'altra forza disse giù giori che ci distrugge è lei che cerca di aiutarci dietro di lei non c'è nessuno così come non c'è nessuno dietro giori ho raggiunto l'ultima delle vere entità coinvolte ella gli fece notare causticamente non mi considero un'entità di solito penso a me stessa come ella ranziter ma è vero disse joe sì lei è a noi con aria seria perché lavora contro giori perché giori mi ha invasa disse ella mi ha minacciata nello stesso modo in cui ora sta minacciando lei sappiamo entrambi cosa può fare gliel'ha detto lui in persona in quella camera ad albergo a volte diventa molto potente in certe occasioni riesce a soppiantarmi quando sono attiva e parlo a glenn ma sembra che io sia capace di resistergli meglio di tutti gli altri semi vivi uno senza ubic meglio ancora per fare un esempio del vostro gruppo originario che pure agiva come un collettivo sì disse joe era senz'altro vero e c'erano le prove glenn non potrà più consultarsi con me c'è una ragione molto pratica e personale che mi spinge ad aiutarla signor chip voglio che lei prenda il mio posto desiderò che ci sia qualcuno a cui glenn possa rivolgersi per assistenza e consigli qualcuno cui appoggiarsi lei è l'ideale sarà capace di fare nella semivita ciò che faceva nella vita normale quindi in un certo senso non sono spinta da nobili sentimenti l'ho salvata da giori per una ragione pratica e aggiunse e dio solo sa se detesto giori dopo che lei sarà arrinata disse joe io sarò distrutto avrà una scorta di ubic per tutta la vita come dice il certificato che le ho dato giù mormorò forse posso sconfiggere giori distruggerlo vuole dire e la riflette non è invulnerabile forse col tempo lei imparerà il modo di annullarlo credo che questo sia il meglio che lei possa sperare di fare dubito che lei possa veramente distruggerlo in altre parole consumarlo come lui fa agli altri semivivi che gli sono accanto nel moratorium accidenti disse joe racconterò a glenn ranziter la situazione e farò spostare per sempre giori fuori dal moratorium glenn non ha l'autorità per farlo ma schoenheit von vogelsang non ella disse herbert è pagato profumatamente ogni anno dalla famiglia di giori per tenerlo sempre insieme gli altri e per escogitare motivi plausibili per continuare a farlo e poi esistono dei giori in ogni moratorium questa battaglia ha luogo in qualunque posto che ospita dei semivivi è una verità una regola del nostro genere di esistenza si immerse nel silenzio per la prima volta joe vide sul suo viso un'espressione irata uno sguardo inquieto accigliato che disturbava la sua tranquillità deve essere combattuta dalla nostra parte del vetro disse poi ella da quelli di noi che sono in semivita quegli stessi che sono preda di giori dovrà incaricarsene lei signor chip dopo che io sarò orrinata pensa che io riuscirò a farcela sarà dura giori le spillerà le forze in continuazione mettendole addosso un peso che lei avvertirà come esitò l'avvicinarsi della morte e sarà proprio questo perché noi semivivi ci affievoliamo continuamente comunque giori non fa che accelerare questo processo la stanchezza e il gelo vengono lo stesso ma non così presto dentro di sì giù pensò ricordo benissimo quello che ha fatto a wendy quello mi farà continuare quello da solo ecco la farmacia signorina disse l'autista il vecchio tassi dodge accostò al marciapiede arrestandosi non verrò con lei disse ella ranziter quando giù aprì la portiera scivolò tremante fuori dall'auto addio grazie per la sua lealtà a glenn grazie per quello che farà per lui si chinò verso giù e lo baciò sulla guancia e le sue labbra gli sembrarono mature di vita e una parte di essa gli venne in partita si sentì leggermente più forte buona fortuna con giori disse ancora ella poi si rimise a sedere eretta con la borsa appoggiata in grembo giù richiuse la portiera del tassi esitò poi percorse barcollante il tratto fino alla porta della farmacia dietro di lui il tassi scoppietto via lo sentì partire senza vederlo nel solenne e illuminato interno della farmacia c'era un farmacista calvo che indossava un vestito scuro con un cravattino e pantaloni di zigrino dalla piega affilata il quale gli si avvicinò mi spiace signore ma stiamo chiudendo stavo appunto venendo a chiudere la porta ma io sono dentro disse giù e voglio essere servito esibì al farmacista il certificato che ella gli aveva dato scrutando attraverso le lenti rotonde e prive di montature il farmacista esaminò i caratteri gotici vuole servirmi allora disse giù ubic mormorò il farmacista credo di averlo finito mi lasci controllare si allontanò giori disse giù girando la testa il farmacista disse prego tu sei giori ne sono certo si disse sto imparando a riconoscerlo quando lo incontro ha inventato questa farmacia disse ancora tutto quello che essa contiene all'infuori di ubic non hai nessun potere su ubic perché proviene da ella si costrinse al movimento un passo dopo l'altro arrivò fino al bancone e lo aggirò giungendo agli scaffali pieni di medicine osservando nell'oscurità uno scaffale dopo l'altro cercò di localizzare l'ubic le luci della farmacia si erano attenuate le antiche su pellettini stavano sbiadendo ho regredito tutto l'ubic di questo negozio disse il farmacista con la voce giovanile e acuta di giori l'ho trasformato in balsamo per il fegato ora non serve più a nulla andrò all'altra farmacia disse giù si appoggiò al bancone piegandosi in due per inghiottire qualche boccata d'aria giori dall'interno del farmacista calvo disse sarà chiusa domani allora fece giù posso aspettare fino a domani mattina non ce la farai disse giori e comunque anche l'ubic di quella farmacia sarà regredito in un'altra città disse giù dovunque tu vada lo troverai regredito trasformato in unguento oppure in polvere o in elisir o in balsamo non vedrai mai più una bomboletta spray di ubic giocip giori sotto l'aspetto del farmacista calvo sorrise mettendo in mostra denti che parevano di celluloide io posso si interruppe raccogliendo la sua scarsa vitalità tentando di riscaldarsi con la sua stessa forza di portare calore al corpo tremante e orragelato posso riportarlo al presente disse al 1992 davvero puoi farlo signor chip il farmacista tese a giù un cartone quadrato ecco qui aprilo e vedrai lo so cosa vedrò disse giù si concentrò sull'ampolla blu di balsamo per il fegato evolviti le disse mondandola del suo disperato desiderio verso sul contenitore ogni stilla di energia che gli era rimasta non cambiò bomboletta spray disse ad alta voce chiuse gli occhi riposandosi un istante non è una bomboletta spray signor chip disse il farmacista girando per il negozio spense qua e là le luci giunto al registratore di cassa inserì una chiave e un cassetto si aprì con mosse esperte il farmacista trasferì le banconote e le monete in una cassetta metallica con un lucchetto tu sei una bomboletta spray disse giù al contenitore di cartone che stringeva fra le mani questo è 1992 disse e cercò di mettere tutto se stesso nello sforzo l'ultima luce se stinse spenta dal falso farmacista un chiarore opaco penetrava nel negozio dai lampioni della strada con quella luce giù distinse i contorni della scatola fra le sue mani aprendo la porta il farmacista disse andiamo signor chip è ora di andare a casa e la sbagliava non è vero e lei non la vedrà mai più perché già lontana sulla strada della sua rinascita non sta nemmeno più pensando a lei o a me o a ranziter tutto ciò che la vede sono luci colorate rosse e scure forse un arancio chiaro questa che stringo disse giù è una bomboletta spray no disse il farmacista mi spiace signor chip davvero non lo è giù depose il contenitore su uno scaffale vicino e si voltò con dignità iniziando il lungo e lento viaggio verso la porta che il farmacista teneva ancora aperto per lui nessuno di loro parlò finché giù non superò infine la soglia del negozio e fu sul marciapiede immerso nella notte dietro di lui emerso il farmacista si chinò e chiuse a chiave la porta credo che mi lamenterò con il fabbricante disse giù per la smise di parlare qualcosa gli serrò la gola non poteva respirare e nemmeno parlare poi temporaneamente il blocco scomparve la sua farmacia regredita terminò buonanotte disse il farmacista si fermò per un momento osservando giù nell'oscurità della sera poi scrollando le spalle si avviò alla sua sinistra giù distinse un gruppo di persone su una panchina che attendiva l'arrivo di un tram riuscire a raggiungerle e a sedere con loro le altre persone due o tre si fecero da parte forse per repulsione o per fargli spazio non poteva stabilire per quale dei due motivi ma non gliene importava nulla sentiva soltanto il sostegno della panchina sotto di sé e la liberazione di parte del suo peso ancora qualche minuto si disse si è ricordo bene cristo doverci passare ancora per la seconda volta comunque ci abbiamo provato pensò osservando le gialle luci ammiccanti e le insegne al neon il fluire delle auto in entrambe le direzioni ranziter ha scalciato e lottato penso ancora ella ha reagito a graffi e morsi e ditata negli occhi per parecchio tempo e io ero quasi riuscito a trasformare l'ampolla di balsamo ubic nella bomboletta spray ce l'avevo quasi fatta c'era qualcosa nella coscienza di quel fatto la coscienza della propria potenza il suo tentativo finale verso la trascendenza il tram un'enormità di metallo sferragliante giunse a fermarsi con uno stridio dinanzi alla panchina le persone che si devono accantaggiù si alzarono affrettandosi verso la piattaforma metallica sul fondo e il signore disse a joe il conducente sale o no joe non disse nulla il conducente attese poi tirò la corda del segnale di partenza rumorosamente il tram ripartì proseguì per la sua strada e scomparve poco dopo dal suo raggio visivo buona fortuna si disse joe udendo lo sferragliare delle ruote che svaniva in lontananza e addio si appoggiò all'indietro chiudendo gli occhi mi scusi china su di lui nell'oscurità una ragazza con un soprabito in pelle di struzzo sintetica lui la guardò ritornando alla coscienza il signor chip disse lei snella e graziosa con guanti cappello vestito e tacchi alti teneva qualcosa in mano lui intravide la sagoma di un pacchetto di new york della ranziter associates non voglio consegnarlo alla persona sbagliata giù chip disse lui per un attimo pensò che la ragazza fosse ella ranziter ma non l'aveva mai vista prima chi la manda chiese il dottor sonderbar disse la ragazza il giovane naturalmente il figlio del dottor sonderbar il fondatore e chi è il nome non gli diceva nulla e solo allora ricordò dove lo aveva già visto l'uomo del balsamo per il fegato ireni disse foglie distillate di oleandro olio di menta piperita carbone di legna cloruro di cobalto ossido di zinco la stanchezza lo sopraffegge si interruppe la ragazza disse utilizzando le più avanzate tecniche della scienza moderna la regressione della materia a forme precedenti può essere invertita e a un prezzo che ogni inquilino può permettersi ubic è in vendita nei negozi di articoli casalinghi di tutta la terra quindi vada a cercarlo nel suo negozio di fiducia signor chip perfettamente cosciente lui disse cercarlo dove si rialzò barcollante in piedi lei viene dal 1992 quello che ha detto è stato preso dallo spot televisivo di ranziter un vento notturno gli frusciò addosso e lui si sentì quasi portare via gli sembrava di essere un mucchietto di ragnatele in un angolo del soffitto in grado di stare ancora insieme per miracolo la ragazza gli consegnò il pacchetto lei mi ha portato qui dal futuro grazie a quello che ha appena fatto all'interno di quella farmacia lei mi ha convocato direttamente dalla fabbrica signor chip posso spruzzarla io se lei è troppo stanco devo farlo sono un rappresentante ufficiale della fabbrica e consulente tecnico so come applicarlo riprese il pacchetto dalle sue mani tremanti strappando l'involucro lo spruzzò immediatamente con ubic nel buio giù vide luccicare la bomboletta vide le gaie lettere colorate sul cilindro metallico grazie disse dopo un po dopo essersi sentito meglio è più caldo la ragazza disse stavolta non è stato necessario usare la stessa quantità della prima volta deve essersi robustito da allora ecco prenda la bomboletta prima di domani può averne ancora bisogno posso averne dell'altro chiese giù quando questo sarà terminato mi pare ovvio se lei mi ha portato qui una volta presumo che potrà farlo ancora e nello stesso modo si allontanò leggermente da lui confondendosi con le ombre create dalle stesse pareti dei negozi chiusi che cos'è ubic chiese giù desideroso di non vederlo andare via una bomboletta spray di ubic è uno ionizzatore negativo portatile rispose la ragazza con un'unità autonoma ad alto voltaggio e basso amperaggio alimentato da una batteria a elio da 25 kilowatt agli ioni negativi viene impartita una rotazione anti oraria da una camera d'accelerazione accuratamente predisposta che crea in essi una tendenza centripeta volta a farli aderire piuttosto che a disperdersi un campo di ioni negativi diminuisce la velocità degli anti protofasoni normalmente presenti nell'atmosfera non appena la loro velocità è scesa essi cessano di essere anti protofasoni e per il principio della parità non possono più combinarsi con i protofasoni irradiati dalle persone in congelamento cioè da coloro che si trovano in semivita il risultato finale che la proporzione di protofasoni non annullata dall'azione degli anti protofasoni aumenta e ciò comporta almeno per un periodo determinato un incremento del campo di attività protofasonica ciò che i semivivi provano come un aumento di vitalità e un abbassamento del grado di coscienza dello stato congelante così ora lei capisce come mai le forme regredite di ubic non potevano giù disse in tonno riflessivo dire ioni negativi era ridondante tutti gli ioni sono negativi di nuovo la ragazza si mosse per allontanarsi forse ci vedremo ancora gli disse dolcemente è stato piacevole portarle la bomboletta forse la prossima volta magari possiamo cenare insieme disse giù ci conto sfumava sempre di più in lontananza chi ha inventato ubic chiese ancora giù un gruppo di semivivi responsabili minacciati da giori ma in modo particolare e la ranziter hanno dovuto lavorare insieme per molto molto tempo e ancora non ce n'è abbastanza disponibile ritirandosi da lui lentamente nel suo modo discreto rimpicciolì sempre più fino a scomparire al matador le gridò dietro giù penso che giori abbia fatto un'ottima cosa materializzandolo oppure regredendolo come si deve qualunque cosa sia ciò che lui fa rimase in ascolto ma la ragazza non rispose trasportando con cura la bomboletta di ubic giù chip camminò incontro al traffico notturno alla ricerca di un tassi sotto un lampione sollevò ubic e lesse quello che diceva l'etichetta credo che si chiami mira lanei guarda sul lato opposto del contenitore per l'indirizzo e il numero di telefono grazie disse giù alla bomboletta spray siamo serviti da spettri organici pensò che parlando e scrivendo attraversano questo nostro nuovo ambiente osservando saggi spettri in carne e ossa provenienti dal mondo della vita vera e propria quel mondo i cui elementi sono diventati per noi invadenti ma piacevoli schegge di una sostanza che pulsa come un cuore originale e per tutto questo penso dobbiamo ringraziare glenn ranciter in particolare allo scrittore delle istruzioni delle etichette delle note note di valore alzò un braccio per arrestare con un gracchiare di freni un tassigramma del 1936 che passava io sono ubic prima che l'universo fosse io sono ho creato i sole ho creato i mondi ho creato le forme di vita e i luoghi in cui esse abitano io le muovo nel luogo che più mi aggrada vanno dove io dico fanno ciò che io comando io sono il verbo e il mio nome non è mai pronunciato il nome che nessuno conosce io sono chiamato ubic ma questo non è il mio nome io sono io sarò in eterno glenn ranciter non riusciva a trovare il proprietario del moratorium è certo di non sapere dove sia chiese ranciter alla signorina bison la segretaria del proprietario è essenziale che io possa parlare di nuovo con mia moglie ella gliela farò portare qui disse la signorina bison può usare l'ufficio 4b la prego di aspettare la signor ranciter farò in modo che sua moglie le venga portata al più presto si metta comodo localizzato l'ufficio 4b ranciter lo percorse in lungo e in largo instancabilmente infine apparve un dipendente del moratorio ma che trascinava la barra di ella su un carrello mi spiace di averla fatto aspettare disse l'uomo cominciò subito a predisporre il meccanismo elettronico di comunicazione canticchiando allegro mentre lavorava in breve terminò il lavoro controllò il circuito per l'ultima volta a noi soddisfatto e fece per lasciare l'ufficio tenga disse ranciter e allungò verso di lui una mano contenente alcune monete da 50 centesimi che aveva pescato da diverse tasche ho apprezzato la rapidità con cui ha terminato il suo lavoro grazie signor ranciter fece l'uomo diede uno sguardo alle monete e aggrottò la fronte che razza di denaro è questo disse ranciter osservò con estrema attenzione pezzi da 50 centesimi vide subito cosa intendeva dire l'altro chiaramente le monete non erano come dovevano essere di chi è questo profilo si chiese che c'è su queste tre monete non è la persona giusta eppure lo conosco mi è familiare e di colpo riconobbe il profilo chissà cosa significa si chiese è la cosa più strana che abbia mai visto molte cose nella vita possono trovare una spiegazione ma joachip su una moneta da 50 centesimi era il primo denaro joachip che avesse mai visto ebbe la raggelante intuizione che si avesse cercato nelle altre tasche e fra le banconote del portafogli ne avrebbe trovato dell'altro questo era soltanto l'inizio grazie a tutti 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 grazie a tutti